dichiara aperta la seduta il segretario questore può dare lettura del verbale della seduta precedente la seduta inizia alle ore 11 e 25 presenza del presidente mancuso filippo assiste lavoro il segretario generale maria stefania laurea redigio il presente processo verbale il funzionario responsabile antonio michele cento il presidente constatata la presenza del numero regale da via i lavori invitando il segretario questore cirillo a dare lettura del verbale della seduta precedente tenutesi il 23 dicembre 2021 che approvata senza osservazione il presidente data la lettura della comunicazione legato 1 chiede che venga osservato un minuto di silenzio per la morte del presidente del parlamento europeo david sassoli e per la prematura scomparsa del giovane francesco cosentino i presenti levati in piedi osservano un minuto di silenzio il presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno che prevede l'esame della proposta di provvedimento amministrativo recante l'elezione dei tre delegati per l'elezione del presidente della repubblica quindi dopo aver dato a lettura l'articolo 83 della costituzione procede alla costituzione del seggio elettorale nominando i scrutatori consigliere cirillo e a lecci ricordate le modalità di votazione si eleggono consensualmente in un'unica votazione con un voto limitato di due preferenze tre delegati che risultano rispettivamente eletti per maggior numero di voti ottenuti dispone la distribuzione delle schede invita il segretario questore a fare la chiama il presidente comunica l'esito della votazione per la disegnazione tra i delegati dell'elezione del presidente della repubblica il presidente votante 29 hanno riportato voti consigliere occhiuto 20 consigliere mancusi 19 consigliere irto 9 schede bianche 1 attesi i risultati riportati il presidente proclama delegati dell'elezione del presidente della repubblica il consigliere occhiuto mancusi per la maggioranza e per la minoranza il consigliere irto dando atto che è stato soddisfatto il presente costituzionale il quarticolo 83 il consiglio il consiglio approva infine il presidente mancuso per aver evidenziato che con la seduta odierna la calabria dimostrato di giungere all'appuntamento dell'elezione presidente della repubblica consenso dello stato e responsabilità istituzionale esauriti i punti all'ordine del giorno chiude la seduta grazie onorevole presidente della giunta assessori consiglieri regionali prima di avviare i lavori ea cinque giorni dall'inizio della guerra scatenata dall'esercito russo in ucraina sicuro di rappresentare i sentimenti di voi tutti esprimo la ferma condanna dell'infanzione premeditata e in violazione degli diritti internazionali della russia nei confronti dell'ucraina i colori giallo e blu della bandiera della repubblica ucraina che da sabito illuminano il palazzo campanella interpretano la vicinanza e la solidarietà del consiglio regionale al popolo ucraino vi chiedo pertanto di osservare un minuto di silenzio per le vittime della guerra grazie consigliera laghi leggo le comunicazioni e poi facciamo do lettura delle seguenti comunicazioni sono stati presentati alla presidenza proposte di legge istituzione del reddito di esistenza misure contro la precarietà iniziativa popolare istituzione del comune delle castella nella provincia di crotone iniziativa popolare introduzione della doppia preferenza di genere modifica l'articolo 2 comma 2 legge regionale 7 febbraio 2005 numero 1 riassetto istituzionale servizio sanitario regionale taglio dei privilegi è stata assegnata la prima commissione alla seconda per il parere consiglio comunale di catanzaro misure di promozione di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale consigli comunali di bovalino verzino riccari misure di promozione di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale mancuso modifica la legge regionale 13 maggio in avanza numero 7 raso caputo modifica integrazione alla legge regionale 16 aprile 2002 numero 19 lo schiavo istituzione commissione speciale contenzione società partecipate raso caputo modifica la legge regionale 17 agosto 2005 numero 13 occhiuto modifica la legge regionale 15 dicembre 2021 numero 32 laghi riordino l'assetto territoriale delle aziende di servizio sanitario regionale della calabria disposizione ordinamento concernente l'attribuzione dei sindici delle funzioni programmazione indirizzo verifiche controllo materia di tutela della salute caputo e cirillo interventi di manutenzione normativa delle leggi regionali 996 30 del 2015 8 2003 7 96 1 del 2006 32 2021 6 2021 raso gelardi strutture residenziali per minori giovani adulti sottoposta procedimento penale ovvero in esecuzione di pena caputo integrazione all'articolo 11 la legge regionale 19 marzo 2004 orso marzo neri valorizzazione e gestione del patrimonio dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese proposti di provvedimento amministrativo graziano proposti legge al parlamento recante modifica al decreto legislativo 7 settembre 2012 numero 155 giunta regionale programmazione e coesione 2014 2020 dalla regione calabria rimodulazione del piano finanziario interrogazioni tavernese impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non sito in località san sago nel comune di tortora laghi sul licenziamento dei lavoratori della casa di cura minassi san bartolo bruni irto tavernese centro regionale di farmacovigilanza tavernese irto bruni infestazione da processionari nei boschi della sila laghi in ordine al problema relativo all'accreditamento alla casa di cura oculistica clinica santa lucia srl di cosenza bruni il suo tavernese realizzazione nuovi ospedali tavernese ritardi nei pagamenti di tirocini relativo al programma garanzia giovani tavernese interventi di mitigazione del rischio frana e messa in sicurezza del centro abitato e di località san bucina nel comune di luzico senza laghi in ordine all'assenza di componenti di abitologia pediatrica nel coordinamento regionale della rete assistenziale del comitato tecnico gara sua a leggi parchi eolici offshore bruni il tuo tavernese trasparenza e pubblicità rispetto dei termini per la pubblicazione degli atti bruni il tuo tavernese tamponi gratuiti per gli alunni delle scuole dell'infanzia bruni il tuo tavernese gestione sistema idrico calabria mammoliti sulla pinetta di san bosco li comuni mammoliti sul programma di politiche attive del lavoro garanzia occupabilità dei lavoratori lo schiavo in ordine agli interventi a difesa delle coste calabrese tavernese il to bruni elettrificazione linea ferroviaria ionica mammoliti sulla strada statale 19 mammoliti sulla nomina del commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di vibo valenzi mammoliti in merito alla stabilizzazione dei precari della sanità assunti in emergenza copi di 19 emozioni lo schiavo centro di riabilitazione di squillaccia tavernese ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da sars cove di due alle parafarmacie tavernese ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da sars 2 alla parafarmacie straface a sostegno delle imprese balneari calabresi degli operatori turistici del settore delle loro famiglie per la salvaguardia dei livelli occupazionali a lecci pubblicazione riqualificazione esorica laghi inserimento della procedura di circoncisione rituale a carico del servizio sanitario regionale e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza laghi sull'introduzione e sensazione della tassa automobilistica regionale per le auto ibride laghi lo schiavo contro la guerra lo hizo inserimento delle prestazioni mediche relativa alle diagnosi e dalla cura della maculopatia dei livelli essenziali di assistenza interpellanse tavernesi ampliamento e utilizzo al servizio del circuito pubblico della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località pipino nel comune di scala cieli irtom ammoliti svolgimento attività lavorative modalità agile presso gli uffici regionali controllo applicazione regola anticontagio comunico che è stata presentata una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri regionali irto a lecci bevacqua iacucci mammoliti aventi d'oggetto ferma condanna per l'invasione dell'ucraina da parte della russia il dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali settore 3 attività estrattive ha trasmesso per il parere della competente commissione consigliare il decreto dirigenziale numero mille zero diciotto del 4 febbraio 2022 recante autorizzazione senza l'articolo 26 della legge 40 2009 per l'apertura di una nuova cava di argilla in località loreto del comune di lattarico la giunta regionale trasmesso per il parere della competente commissione consigliare la deliberazione numero 59 18 febbraio 2022 recante articolo 4 legge regionale 8 2008 approvazione del piano esecutivo annuale 2022 comunico che a seguito della costituzione delle commissioni consiglieri permanenti e speciali sottoindicati provvedimenti sono state assegnate alle seguenti commissioni proposta di legge 21 dodicesima iniziativa del consigliere regionale laghi lecanti istituzioni della riserva naturale foce del fiume messima è stata assegnata la quarta commissione alla seconda per il parere proposta di legge 22 dodicesima iniziativa dei consiglieri regionale irto recante misure per la trasparenza delle donazioni nel settore della sanità è stata assegnata alla terza commissione alla seconda per il parere proposta di legge 23 dodicesima iniziativa del consigliere regionale neri recante modifica la legge regionale 31 dicembre 2015 numero 35 è stata assegnata alla quarta commissione alla seconda per il parere parere numero 1 dodicesima da liberazione di giunta regionale 546 7 dicembre 2021 recante por calabria rimodulazione del piano finanziario asse 3 è pervenuta risposta scritta alla seguente interrogazione numero 2 del 14 21 a firma consigliere regionale irto numero 3 il 22 dicembre a firma del consigliere regionale laghi numero 4 del 22 dicembre 21 a firma del consigliere regionale mammoletti numero 9 del 12 gennaio 2022 a firma del consigliere generale lo schiavo numero 13 del 3 gennaio 2022 a firma dei consiglieri bruni irto tavernese numero 14 17 gennaio 22 a firma dei consiglieri regionali tavernese il tuo bruni numero 16 18 gennaio 2022 a firma dei consiglieri regionali bruni irto tavernese numero 18 del 27 gennaio 2022 a firma del consiglio regionale tavernese numero 20 il 31 gennaio 2022 a firma del consigliere regionale a legge numero 24 9 febbraio 2022 a firma del consigliere regionale mammoliti comunico che il comitato regionale per le comunicazioni core com ha trasmesso la relazione sulle attività svolte nell'anno 2021 e la relazione sul sistema delle comunicazioni in calabria per l'anno 2021 la corte costituzionale con decisione al 6 numero 6 del 25 novembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale gli articoli 1 comma 1 2 3 comma 2 e 4 la legge regionale 19 novembre 2020 numero 24 norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche privata comunico che la giunta regionale ha trasmesso la deliberazione numero 16 del 20 gennaio 2022 recante approvazione piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio relativi al rendiconto in generale per l'esercizio finanziario 2020 comunico che la giunta regionale ha trasmesso la deliberazione numero 19 del 20 gennaio 2022 recante approvazione piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riferito al bilancio di previsione finanziaria della regione calabria per gli anno 22 e 24 comunico che la corte dei conti ha trasmesso le delibere numero 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dell'11 febbraio 2022 riguardanti i rendiconti dei gruppi consigliari anno 2021 la giunta regionale ha trasmesso copie delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022 24 deliberazione giunta regionale numero 12 13 14 15 17 18 del 20 gennaio 2022 deliberazione giunta regionale numero 28 29 30 e 31 del 31 gennaio 2022 deliberazione giunta regionale numero 42 44 45 46 47 48 del 4 febbraio 2022 deliberazione giunta regionale numero 53 54 55 56 57 58 del 18 febbraio 2022 ha chiesto di intervenire il consigliere laghi grazie presidente vorrei proporre questa mozione contro questa guerra orribile come tutte le guerre e tutti gli atti che adesso hanno hanno portato il consiglio regionale della calabria esprime la propria fortissima preoccupazione per la grave crisi internazionale tra la russia e la nato determinato dalle forti tensioni per la situazione in ucraina il temuto scoppio di un conflitto armato con il coinvolgimento delle più grandi potenze nucleari potrebbe portare ad uno scontro di dimensioni planetarie con conseguenze gravissime probabilmente irreparabili per l'umanità intera per questo nel ribadire il fermo no alla guerra e la volontà di pace delle cittadine e dei cittadini calabresi il consiglio regionale della calabria invita la comunità internazionale gli organismi internazionali onu in testa a compiere ogni sforzo utile a bloccare il conflitto invita il nostro governo a ribadire in ogni sede propria negli organismi internazionali l'indisponibilità dell'italia esercitare qualsiasi ruolo attivo nel rispetto assoluto dell'articolo 11 della nostra costituzione che recita l'italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali fa propri contenuti espressi nella presente mozione si impegna ad assumere iniziative autonome a favore della pace impegna il presidente del consiglio ad inviare la presente mozione al presidente del consiglio dei ministri ai capigruppo di camere senato ea tutti i presidenti dei consigli regionali questa è una mozione che presentiamo come gruppo dei magistri il presidente afferma antonio lo schiavo e mia grazie si sottopongo votazione la mozione penso condividiamo tutti favorevoli contrari astenuti la mozione è approvata ha chiesto di intervenire il consigliere irsi allo stesso modo presidente come sa noi abbiamo presentato una risoluzione che è stata condivisa con tutta la conferenza dei capigruppo è una risoluzione che in gran parte ripresa anche dal gruppo dei magistri presidente ma tra l'altro una risoluzione che già altri consigli regionali nella formulazione delle diverse più larghe forze politiche hanno hanno approvato già stata condivisa con i capigruppi ne do lettura il consiglio regionale della calabria esprime la più ferma condanna per l'invasione dell'ucraina da parte della russia i bombardamenti delle città avvenute in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano rifiutando ogni tentativo di intesa negoziale e mirando e minando la pace e la stabilità dell'europa chiede al governo italiano gli stati membri alle istituzioni dell'unione europea di impegnarsi in un'iniziativa di contrasto dell'aggressione assumendo le misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l'onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla nato perché l'invasione sia fermata l'ucraina si è liberata e si possa tornare all'applicazione degli accordi di minsk e al rispetto degli accordi di helsinki ribadendo il principio fondamentale dell'inviolabilità delle frontiere quindi il consiglio regionale si impegna a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani la più forte condanna morale politica di putin e delle situazioni di guerra a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russia russa per la pace per la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali con la società civile che si oppone al soccluso e alla sfida portata alla democrazia alla convivenza dei popoli questa l'abbiamo condivisa è stata depositata come partito democratico però come questa mattina sa presidente abbiamo voluto condividerla con tutti i gruppi presenti in aula grazie certo grazie votiamo l'inserimento della risoluzione del consigliere irto favorevoli contrari astenuti la risoluzione è inserita ora approviamo la mozione del consigliere laghi che abbiamo inserito prima favorevoli contrari astenuti la mozione è approvata votiamo per la risoluzione del consigliere irto favorevoli contrari astenuti la risoluzione è approvata abbiamo i lavori della seduta odierna con il primo punto all'ordine del giorno riguardante le problematiche della strada statale 106 ionica è indubbio che uno dei nodi che blocca lo sviluppo in calabria costituito dall'insufficienza delle infrastrutture materiali di cui la strada statale 106 un esempio eclatante rendere più connesse le nostre comunità e migliorare la mobilità tra la calabria e il resto d'europa è un obiettivo che l'italia non può mancare ha fatto bene dunque il presidente occhiuto a chiedere energicamente di inserire la statale 106 nelle opere finanziabili con le risorse il pnr le problematiche alla statale 106 sono note e di antica data si tratta di un percorso stradale di 491 chilometri della fascia costiera ionica di calabria puglia e basilicata il cui percorso più critico è quello calabrese di 415 chilometri che il rapporto al c istat nel 2021 riferito agli incidenti del 2020 indica come la quinta strada più pericolosa d'italia si evince che la 106 a necessità di un urgente modernizzazione e proprio con l'interno intento di trasformarla in un'infrastruttura sicura ed efficace collegamento tra la dorsale ionica calabrese il resto d'italia ed europa si è mosso su input del presidente del gruppo di fratelli d'italia giuseppe neri e dopo la discussione della quarta commissione presieduta dei collegi dal collega pietro raso l'intero consiglio regionale preso atto che la commissione europea ritenendo lo strategico ha inserito il tracciato catanzaro reggio della 106 nella nella rete transeuropea dei trasporti se ne deduce che adesso tocca al governo mettere a disposizione le risorse indispensabili per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'intera 106 un'arteria fortemente fondamentale che una volta efficientata potrà agevolare processi di sviluppo e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini ma anche consentire la fruizione di un prestigioso itinerario turistico paesaggistico storico e culturale coi che coincide con l'aria dell'antica magna grecia oggi il consiglio ribadendo che il principio cui deve ispirarsi la locazione delle risorse e l'addizionalità e che il mezzogiorno i fondi strutturali per conseguire un effettivo riequilibrio territoriale non sono sostitutivi delle risorse nazionali e pronto a sostenere un dibattito plurale e franco sulla questione 106 e soprattutto a individuare assieme alla giunta regionale il percorso istituzionale politico più congeniale per esigere dal governo risposte rapide stringenti e risolutive è stata depositata sull'argomento una mozione esiglata dai capigruppo che può essere considerata il testo più avanzato sulla problematica 106 che se tutti noi la condividiamo potrà diventare a dibattito concluso la mozione che oggi il consiglio approverà come spero e auspico all'unanimità comunque sia di sicuro c'è che il grado di inadeguatezza della 106 e il livello di rischio per l'incolumità di chi la traversa sono francamente insopportabili l'attuazione con l'attuale condizione della 106 non è degna di un paese civile pertanto è tempo di dimostrare con atti concreti e risorse adeguate che la statale 106 è una priorità da affrontare nell'interesse della calabria del mezzogiorno e del paese una politica che vuole improntare la sua azione sulla parola dignità citata 18 volte nel discorso di insediamento del presidente mattarella non può più distrarsi su questioni come questa grazie cedo la parola all'assessore dolce grazie presidente però si senta anche se sto in piedi e un saluto a tutto il consiglio regionale cui parlo per la prima volta oggi voglio esprimere la mia piena condivisione per quanto detto dal presidente sulla importanza e sul fatto che la strada statale 106 sia una priorità per questa regione ma non solo per questa regione mi dispiace che non sia potuto intervenire in commissione la settimana scorsa in realtà ho ricevuto un po in ritardo l'invito immediatamente ho comunicato che non sarei venuto e tutto questo perché perché ero impegnato a roma in incontro in due incontri con i vertici di rete ferroviaria italiana con cui abbiamo ovviamente problematiche altrettanto importanti per il territorio calabrese la 106 è una priorità della regione calabria e per l'italia perché per diversi motivi lo sviluppo economico e sociale dei territori chiaramente il turismo può essere favorito da un'arteria che se possa chiamarsi veramente strada super strada o comunque una strada che consenta una rapida percorribilità c'è un problema di sicurezza l'abbiamo visto anche ieri purtroppo altri due incidenti forse uno in particolare dovuto alla pericolosità della della strada ma c'è un altro aspetto che non ho raramente ho sentito di cui raramente ho sentito parlare che è quello della gestione delle emergenze oggi la calabria servita da un'unica arteria dorsale fondamentale che è l'autostrada a 2 che peraltro anche un tratto abbastanza critico tra cosenza e altiglia e che se si dovesse interrompere per un qualsiasi motivo sappiamo bene l'elevata pericolosità idrogeologica l'elevata pericolosità sismica del territorio calabrese purtroppo la calabria è il territorio che ha la maggiore pericolosità sismi in italia lo sappiamo i terremoti del secolo scorso del 1908 1905 ma anche andando indietro nel tempo si sono avuti terremoti con magnitudo superiore a 7 bene se c'è un terremoto c'è il rischio che molti territori non possono essere raggiunti conosciamo la situazione geologica e morfologica del territorio calabrese la difficoltà di penetrare nelle aree più interne e quindi avere solamente una dorsale che potrebbe andare in crisi senza avere l'opzione la ridondanza dell'altra dall'altra parte sulla parte ionica potrebbe rappresentare un enorme bonus nella gestione delle emergenze scusate che faccio questo discorso ma vengo dalla protezione civile quindi conosco bene il problema ed era un problema ed è un problema ma era un problema che preoccupava me e i vertici e il capo del dipartimento della protezione civile i vari capi che si sono susseguiti nei 15 anni che in cui io sono stato in protezione civile io sto qui da meno di tre mesi sto prendendo ho preso conoscenza del tema infrastrutturale nella regione calabria è apparso evidente che la strada statale 106 fosse un elemento fondamentale del sistema infrastrutturale calabrese ma siccome c'è stata una serie di interventi estremamente articolati ma anche apparentemente casuali non è stato facile avere un quadro complessivo della situazione della strada statale 106 che peraltro credo che l'ingegner moroni che è il direttore del dipartimento delle infrastrutture insieme all'ingegnere invitano del settore infrastrutture anch'esso dirigente che penso vi abbiano bene illustrato in commissione 4 e il questa visione organica ha permesso di capire quali sono gli interventi fatti quanto a che punto siamo e che cosa occorre fare beh nella sostanza voi sapete che noi abbiamo con non abbiamo noi con anas anas ha un contratto di programma con il ministero che oggi si chiama infrastrutture e mobilità sostenibili che vedeva il quinquennio 16 2016 2020 e noi siamo arrivati proprio nel momento in cui era in discussione il nuovo contratto di programma 2021 nel 2026 abbiamo cercato di capire quali fossero i fondi stanziati quali fossero le necessità vado in estrema sintesi perché come detto già l'ingegnere moroni ha illustrato estremamente il tema oggi solamente per come si dice attualmente mettere a terra gli interventi che erano stati concepiti nell'ambito del contratto di programma precedente occorrerebbero 5 miliardi di euro aggiuntivi a quelli già stanziati e tutto questo risolverebbe solamente il tratto che va sul grosso modo da calanzaro a nord verso a sibari bene che cosa abbiamo cercato di fare con quale è stata la strategia messa a punto per il nuovo contratto di programma che poi è lo strumento che in teoria con la disponibilità di fondi realizza questa strategia allora innanzitutto avere un quadro una visione organica completa di tutta la strada stradale 106 da rocca imperiale a confine con la basilicata fino a reggio calabria e non guardare solamente la parte a nord di calanzaro per cui laddove non c'era nemmeno la progettazione noi chiediamo la progettazione anche dei tratti mancanti secondo punto è cercare di realizzare quanto prima qui c'è sempre il tema della disponibilità economica ma di realizzare quanto prima i tratti su cui già si era cercato di operare ma con finanziamenti che rispetto a un'esigenza dell'ordine dei 45 miliardi era di 00,8 miliardi 800 milioni di euro grosso modo in questo senso abbiamo convinto anas a non continuare a operare attraverso i progetti definitivi ma attraverso come oggi ammette il decreto legge 77 del 2021 progetti di fattibilità tecnica economica che consentono più rapidamente di mettere a terra questi interventi quindi in estrema sintesi oggi continuiamo a chiedere 5 miliardi di euro per risistemare tutta tutto il tratto a nord di catanzaro più qualche altra piccola parte a sud e soprattutto cerchiamo di ottenere la progettazione di tutto di tutta la statale 106 questo perché perché avendo la disponibilità dei progetti proprio oggi le dicevo un altro articolo sul giornale non mi ricordo quale che la calabria manca di progettualità e di progetti immediatamente spendibili ecco avere progetti immediatamente realizzabili spendibili per un appalto è fondamentale perché nei momenti in cui ci fossero nuove disponibilità si possono intercettare questi questi fondi per il resto io sono qui ovviamente voi conoscete il territorio almeno ognuno per la sua parte meglio sicuramente meglio di me quindi ascolto volentieri la discussione prenderò spunto contando che ovviamente il consiglio regionale vorrà supportare l'azione della giunta per arrivare prima possibile ad avere un assetto accettabile o buono della strada statale 106 grazie grazie presidente grazie assessore si è scritta a parlare alla consigliera bruni buongiorno presidente colleghi presidente del consiglio presidente della giunta penso che oggi sia una giornata veramente molto importante è molto importante perché stiamo addivenendo maggioranza ed opposizione ad una mozione stesa a tante mani che quindi riporta il pensiero reale e strutturale di tutti noi esattamente per spingere il presidente della giunta regionale ad andare a discutere fortemente e fermamente con il governo draghi per finalmente risolvere dico io questo problema della statale 106 è evidente che tutto quello che ha introdotto il presidente del consiglio e l'assessore mauro dolce sono tematiche estremamente importanti che noi viviamo sulla nostra pelle da anni e anni cioè da quando siamo nati in questa terra le strade sono fondamentali non solo perché consentono una mobilità ma consentono lo sviluppo sociale lo sviluppo economico e esattamente sono arterie di sicurezza non avremmo forse avuto tutti i drammi nella sanità se avessimo avuto delle strade che ci consentivano di spostarci rapidamente tra i grandi hub non avremmo avuto tutti questi morti sicuramente se le nostre strade fossero state sicure e sicuramente questa terra forse non sarebbe stata in queste condizioni in particolare l'area 106 di tutta la dorsale ionica è un'area il cui sviluppo è certamente più basso rispetto a quello dell'altra parte tirrenica e questo si vede da come sono conformati i paesi da come vivano le popolazioni questo proprio perché è ancora diciamo così a dorso di mulo voi sapete che nella mia vita precedente quella da medico e da ricercatore mi sono occupato di isolati la nostra terra continua ad essere un isolato che ha dato isolati genetici e questo non è più compatibile con un mondo che va avanti e non è più compatibile con un'idea di sviluppo reale di questa terra di calabria che è rimasta veramente l'ultima quindi io come dire esprimo la soddisfazione per questo lavoro congiunto perché ritengo che su delle tematiche così di vitale importanza quali quelle della mobilità dell'infrastruttura 106 e poi di altre tematiche che dovremo immagino e spero andare a scegliere noi si debba andare congiunti esattamente proprio per rispetto profondo per i nostri calabresi che ci hanno votato per tutta la nostra terra grazie consiglia ha chiesto di parlare consigliere crino grazie presidente prendo la parola a nome del gruppo forza azzurri nell'ambito di quella che è oggettivamente una delle madri di tutte le battaglie e le sfide che attendono la nostra regione si parla di 106 nel corso dei decenni ciclicamente se ne è parlato e straparlato talmente tanto da aver indotto tutta la nostra comunità ad un sentimento di rassegnazione che oggi e da questa sede invece deve lasciare il posto ad una ritrovata consapevolezza la realizzazione di questa indispensabile infrastruttura è fatto divenuto ormai improcastinabile ce lo chiede la gente il tessuto economico le tante troppe vittime che si sono avute a causa della inadeguatezza di questa strada ma ancora di più ce lo chiede anzi ce lo impone quel senso di orgoglio di rivendicazione dei diritti dei calabresi tutti che fino ad ora i governi scorsi hanno ai me disatteso dietro questa battaglia vi è la cifra di quanto roma abbia a cuore le sorti di una terra straordinaria dal contempo sfortunata terra che però oggi rivendica con forza il principio di uguaglianza e solidarietà tra tutti i territori della nostra nazione non possiamo e non dobbiamo tollerare più incertezze pressa pochismi e timidezze sulla realizzazione di un'infrastruttura che ci metterà al passo con il resto d'italia e con l'europa il presidente onorevole occhiuto ha ben chiaro il quadro della situazione sin dal momento dell'insediamento della sua amministrazione al pari delle emergenze varie che tanagliano la nostra regione si è prodigato affinché il tema della 106 divenisse un tema di carattere nazionale ponendolo con tutta la forza politica di cui è portatore all'attenzione dell'agenda di governo le sue qualificatissime interlocuzioni romani fanno ben sperare la calabria oggi esprime da un punto di vista politico la leadership più autorevole e da questa il ruolo del consiglio regionale tutto e certamente quello della maggioranza non farà mai mancare il proprio fattivo contributo ha si fatta responsabilità nessuno di noi onorevoli colleghi può e deve sottrarsi al di là delle varie appartenenze politiche o partitiche sul tema della 106 come su quello della sanità non possono aversi distinguo e posizioni differenziate ognuno di noi onorevoli colleghi rappresenta un territorio che reclama una nuova statale 106 ognuno di noi deve trovare l'alto senso di responsabilità verso la nostra gente dare prova che la calabria una classe dirigente seria corta e preparata pronta a lanciare al resto dell'italia alla sfida della modernità e dello sviluppo si sono susseguiti sul territorio dibattiti tavole rotonde di incontri istituzionali preparatori alla discussione odierna personalmente volevo dare atto di un importante incontro tenutosi pochi giorni addietro e promosso dai sindaci della locride i quali all'unisono hanno fatto sentire la propria voce che la voce di chi non ci sta più a rappresentare delle comunità abbandonate al loro destino è stato un incontro qualificato una discussione franca arricchita dalla presenza dell'onorevole francesco canizzaro che ha avuto modo da parte sua di assicurare un concreto e fattivo lavoro nell'ambito delle sue prerogative parlamentari concludo il mio breve intervento rivolgendomi direttamente a lei che sento chiudo i suoi primi mesi amministrazione sono incoraggianti si sono ottenuti già dei risultati in così poco tempo assolutamente impensabili le abbiamo dato fiducia e continueremo a farlo perché per quello che ci riguarda sta alzando e di parecchio l'asticella della buona politica in calabria come già sta facendo peraltro sulla questione della 106 in tutta la sua drammatica impellenza e gravità consapevole come di essere nel giusto e di rappresentare gli interessi di un popolo che avverte il bisogno di sentirsi a pieno titolo parte integrante di un meraviglioso paese qual è l'italia lo faccio con la forza che le deriva dal ruolo dalla competenza e lo faccia con la certezza di avere sul punto la sua squadra ed il gruppo che rappresento per primo al suo fianco grazie grazie consigliere crinò la parola al consigliere laghi grazie presidente io mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione alcuni alcuni aspetti certamente l'aspetto infrastrutturale e in calabria un aspetto nodale che ha contribuito pesantemente all'arretratezza anche economica della nostra terra e quindi è penalizzato la calabria e i calabresi le infrastrutture viarie ma anche ferroviarie adesso parli stiamo parlando della 106 che un nodo assolutamente gordiano e va vista mio parere in un'ottica di valorizzazione del territorio calabrese anche dal punto di vista turistico cioè molte limitazioni alla diciamo alla percorrenza alla vista in calabria è dato proprio dalla carenza infrastrutturale ma proprio per questo la la costruzione di queste infrastrutture debbono assolutamente avere ben presenti secondo me alcuni punti alcuni punti nodali innanzitutto il rispetto proprio di quel territorio che si vuole si vuole valorizzare riducendo minimizzando per quanto possibile l'impatto ambientale che ogni opera infrastrutturale comporta un altro aspetto strettamente collegato al precedente che è un aspetto che un problema generale non soltanto italiano e quello della riduzione anche in questo caso per quanto possibile del consumo di suolo quindi l'utilizzo laddove è possibile già di opere preesistenti che che vadano eventualmente adeguate piuttosto che essere rinnovate ex novo magari nelle migliate vicinanze un'ultima cosa mi permetto di segnalare la necessità che questa opera che un'opera davvero colossale come impatto oltre come finanziamenti è assolutamente necessario che la calabria abbia finalmente il riconoscimento a un miglioramento infrastrutturale importante perché non possiamo continuare sempre essere la ruota neanche di scorta della nostra nazione dicevo è assolutamente importante che queste iniziative siano quanto più possibile a mio parere collegate con i diciamo con le opportune le accettabili le giusti giusti le giuste desiderata territoriale da parte dei rappresentanti istituzionali e non che quei territori vivono anche nell'ottica che quello che si sta costruendo si sta avvarando sarà un'opera che tale rimarrà per i prossimi per molti decenni sia motivo di ritenere per cui dobbiamo a mio parere ridurre al minimo le possibilità di errore che poi non sarebbe più possibile ripristinare o correggere in un futuro più o meno immediato grazie grazie consiglieri ha chiesto di intervenire il consigliere raso grazie presidente io credo che sia inutile rimarcare nuovamente l'importanza della gente sai sotto l'aspetto economico e sociale per la nostra calabria e anche sotto l'aspetto della sicurezza in termini di vite e di costo di vite umane che ha la gente sei secondo me oltre secondo me per quanto riguarda la gente sei noi abbiamo fatto il giorno 24 una commissione ringrazio il presidente per averla sollecitata e assessore l'invito non è arrivato in ritardo era nei cinque giorni utili soltanto che noi non l'abbiamo inviato prima l'invito perché aspettavamo conferma dal da simonini dal presidente dal commissario anas che purtroppo ci ha dato quella data ci ha confermato quella data e poi non è venuto però la ringrazio per aver mandato in commissione il dirigente del dipartimento l'ingegnere claudio morone e l'ingegnere irritano che sono stati molto esaustivi molto preparati per quanto riguarda la discussione della problematica della gente sei io nell'ambito di quella riunione quello che ho voluto che è emerso principalmente e la bontà del vostro operato in quanto si sta parlando di 106 nella sua globalità ed è stato introdotto il concetto di studi di fattibilità tecnico economica nel senso che noi riusciremo ad avere un livello di progettazione tale da poter può rendere tutta la gente se nella sua globalità canterizzabile immediatamente canterizzabile quindi fino ciò è previsto fino al dicembre del 2023 è possibile fino al dicembre del 2023 quindi attraverso attraverso questa procedura possiamo far sì che la gente sia possa essere introdotta nel fondo nel fondo per lo sviluppo e coesione infatti altrimenti era un presupposto necessario affinché si possano essere possa si possano utilizzare questo fondo quindi come gruppo della lega appoggiamo condividiamo il documento il documento presentato nella conferenza dei capi gruppo e quindi esprimiamo il nostro voto favorevole grazie grazie consiglierà chiesto intervenire al consigliere tavernise grazie presidente colleghi oggi affrontiamo quello che a mio parere insieme al problema sanità l'argomento penso più importante che riguarda i nostri concittadini che è quello della statale 106 è un argomento che personalmente io sento da vicino abitando praticamente sulla 106 in un comune del basso ionio cosentino che come ha detto l'assessore dolce anche ieri sera tra l'altro cinque minuti dopo che io proprio sono passato da quel tratto per venire qua ancora una volta ha portato nuovi incidenti purtroppo mortali è la cosa grave della 106 e che dopo magari una settimana di lavoro dopo una famiglia normale ha la possibilità di staccare la spina e di diciamo rilassarsi almeno la domenica c'è purtroppo il pericolo in calabria che si va ad un centro commerciale si esce dal centro commerciale e non si ritorna più a casa io penso che parlare di questo oggi dare risposte su questi argomenti non sia fare moralismo ma io invece penso che questo consiglio regionale a un onere in questi cinque anni ed è quello di parlare realmente dei problemi dei nostri concittadini dei dei calabresi e quindi oggi sono estremamente felice e si parli della ss 106 assessore dolciolo ascoltata attentamente e le dico la verità sono anche felice che oggi l'assessore alle infrastrutture sia una persona diciamo esterna dal mondo politico ma lei viene prettamente da dal panorama tecnico ecco però lei deve ci deve fare la cortesia nei tavoli di confronto insieme al presidente occhiuto di far sentire al ministero delle infrastrutture di far sentire al governo centrale di far sentire ad anas che i calabresi sono stanchi di essere i cittadini non da serie b il presidente occhiuto noi siamo cittadini da serie c allora penso che bisogna adesso passare dalle parole ai fatti perché voi siete stati una settimana a roma alle elezioni del presidente della repubblica no come non mi ricordo forse il presidente mancuso prima ha detto che è stata ripetuta più volte la parola dignità allora io mi chiedo qual è la dignità che i nostri che la nostra regione con cittadini e cittadini calabresi hanno avuto in questi anni stiamo parlando di 410 chilometri di strada di cui solo 60 ha modernizzati una palese e totale vergogna di come la classe politica nazionale in questi ultimi 50 anni sia di centrodestra che di centrosinistra in termini di sviluppo e di infrastrutture si sia dimenticato totalmente della regione calabria quindi 25 anni 11.000 incidenti 26.000 feriti 770 morti 3 decessi a chilometro stiamo parlando di un qualcosa che va forse a superare addirittura la mala sanità e la cattiva sanità che abbiamo avuto negli ultimi anni nella regione calabria solo adesso siamo arrivati ad un punto dove finalmente il governo nazionale si è reso conto che in calabria viviamo realmente un problema sanità e adesso penso che sia arrivato il momento che si renda anche conto che in calabria viviamo un problema alquanto grave pari a quello della sanità e cioè quello delle infrastrutture non possiamo più permettere che ci sia totalmente la parte destra ad est della regione calabria totalmente abbandonata a se stesse ed è questo il motivo per cui non riusciamo mai ad emergere anche a livello turistico assessore dolce io vengo da un territorio dove per raggiungere reggio calabria 282 chilometri ci mettiamo tre ore tre ore e dieci io penso che non succede in nessun in nessuna regione d'europa una roba del genere e francamente presidente occhiuto aver letto l'ultima delibera cipers francamente mi ha infastidito e non poco per due semplici motivi il primo è quello che ha detto prima l'assessore dolce perché stamattina ho letto anche io quell'articolo del quotidiano a firma massimo clausi il quale afferma nel suo pezzo che in calabria non vi siano e non vi sono dei progetti dei fini definitivi e per cui diciamo si possa accedere a dei finanziamenti tranne quello della dell'anas che è stato pari a 220 milioni di euro per quel tratto croco cutro crotone siamo parlando di 15 km e per le 180 milioni di euro della ferrovia ionica di rfi quindi oggi noi arriviamo nel 2022 a parlare di un argomento diciamo così importante senza avere nel cassetto sia da parte dell'amministrazione locale sia da parte delle province dei progetti definitivi è francamente questo è un qualcosa di alquanto grave si parla di 220 milioni di euro per la 106 180 per la ferrovia ionica nell'ultima delibera cipers a fronte di scarsi 5 miliardi di euro di finanziamento dove la sicilia va a prendere un miliardo e due colleghi la campania un miliardo e otto la puglia un miliardo noi come al solito sempre l'ultimi dalla ultimi della classifica scarsi 465 milioni quindi noi viviamo nella regione che ha più problemi a livello infrastrutturale ma come al solito prendiamo meno finanziamenti rispetto alle altre regioni che sono messe meglio si in termini di turismo si in termini di sviluppo perché se noi non ci rendiamo conto che la costiera amalfitana che ha la salerno napoli che passa di fianco vietri sul mare che inizia a collegare tutta la costiera no e quindi è accessibile ai turisti mentre io vivo da una parte della calabria che è la sibaritide dove per arrivare dalla puglia praticamente ci vogliono due ore e mezza senza poi contare tutto quello che succede dall'altra parte quindi dalla campania e dal lazio ci rendiamo conto che qui in calabria non si riesce ad arrivare in maniera diciamo non dico moderna ma quantomeno quantomeno normale e quindi non riusciremo a crescere mai presidente occhiuto io però adesso una cosa voglio capire e mi aspetto da voi delle risposte al di là del fatto che abbiamo lavorato fino a praticamente un'ora fa con la collega bruni irto e neri quindi sono siamo riusciti diciamo a scrivere a 8 10 mani una mozione condivisa io non riesco a capire però si parla di progetti immediatamente canterabili assessore dolce però poi leggo in quello che il dirigente generale delle infrastrutture ingegner moroni ha diciamo ci ha illustrato in commissione giovedì dove purtroppo non abbiamo avuto l'onore di avere anas né il commissario straordinario simonini né tanto meno il commissario cioè diciamo il responsabile territoriale ed ingegner caporasso evidentemente il nostro consiglio regionale non merita la giusta attenzione di dei vertici anas mi francamente anche questa è una cosa che io penso sia stata grave è assessore dolce senza polemica io mi fa piacere che lei si è impegnato e si è stato impegnato quel giorno ma questa è la l'assise maggiore della regione calabria noi siamo degli eletti che dobbiamo dare le risposte al territorio quindi io le chiedo veramente col cuore in mano dalla prossima volta di essere presente quando diciamo facciamo e creiamo una una commissione perché sia col presidente mancuso in conferenza di capigruppo ma poi col presidente raso nella quarta commissione stiamo cercando su questo argomento veramente di fare un lavoro insieme senza diciamo campanilismi e senza diciamo colori politici però io quindi e concludo il mio intervento non riesco a capire come mai nella grafica ci troviamo alcuni stati di progettazione con dei progetti definitivi in corso e mi riferisco nello specifico alla rossano sibari e alla variante di caolonia e poi andiamo invece ad ottenere dei finanziamenti soltanto per 220 milioni come le dicevo prima del tratto cutro crotone se ne abbiamo dei progetti definitivi tra l'altro noi abbiamo il terzo megalotto da rossetto a sibari che come lei ben sa già al 25 per cento dello stato di avanzamento dei lavori e quindi abbiamo dei definitivi in corso io non ho capito perché se ci sono già dei progetti definitivi non si iniziano a finanziare quei progetti definitivi non voglio pensare che sia stata una scelta politica dovuta magari a delle dei problemi di territorio assolutamente io mi auguro e accolgo con piacere il fatto che è proprio venerdì il presidente occhiuto abbia incontrato il sindaco di corigliano rossano per cercare di superare insieme delle delle problematiche territoriali però se noi non iniziamo a finanziare i progetti definitivi e gli studi di fattibilità come possiamo pensare di andare avanti su determinati tracciati dove non abbiamo nemmeno la progettazione quindi se io mi posso permettere di consigliarla ma è quello che diciamo ho capito espressamente dobbiamo chiedere i soldi e spingere dove già c'è la progettazione e dove non c'è la progettazione dobbiamo diciamo iniziare a lavorare per ricevere qualche fondo sulla progettazione stessa e colleghi e concludo qui se noi non ci uniamo con i nostri movimenti e partiti di riferimento nei ministeri a roma ancora una volta tutti insieme rischiamo di fallire e di fare un buco nell'acqua ora se facciamo sentire centrodestra centrosinistra partito democratico lega forza italia movimento 5 stelle che la calabria merita di più che finalmente questo governo e i governi che verranno a susseguirsi perché noi abbiamo quattro anni e mezzo che ci attendono da qui alla fine del nostro mandato dobbiamo far capire presidente mancuso che questa regione merita di più che non è più possibile non è più accettabile oggi uscire e non tornare di casa perché nel 2022 c'è una ss 106 con due sole corsie una per ogni senso di marcia quindi è questa la direzione della mozione che abbiamo tutti insieme formulato vogliamo per l'intero tracciato perché ci sono la provincia di reggio che isolata abbiamo il crotonese che totalmente isolato abbiamo la tratta crotone catanzaro che è rimasta ai tempi del dopoguerra abbiamo la sibaride completamente isolato quindi noi chiediamo anzi no pretendiamo il finanziamento dell'intera dell'intera tratta perché io personalmente ma penso anche voi e tutti gli altri calabresi siamo stanchi di far parte non dell'europa perché qua ancora non siamo in europa ma dell'africa anzi secondo me ci sono delle regioni e dei contenuti delle nazioni dell'africa sono anche messe meglio in termini infrastrutturali quindi io rinnovo lo dico pubblicamente e concludo veramente stavolta continua a dare la massima disponibilità sesso le dolce per qualsiasi cosa presidente occhiuto anche da parte sua io ancora una volta continua a dirle una cosa lei è presidente della giunta regionale lei è commissaria d'acta della sanità io personalmente apprezzo il suo impegno la seguo vedo che un giorno è adanas un giorno è alla protezione civile ma lei deve uscire da una un'ottica lei da solo a risolvere i problemi di questa regione non ce la fa quindi se ogni tanto prende il telefono che a me chiama la collega bruni che per collega irti tutti quanti gli altri noi siamo disponibili ad aiutarla per il bene della calabria perché non ce la fa risolvere tutte queste problematiche tutti questi dossier da solo da solo glielo dico veramente senza diciamo malizia ma veramente per spirito di collaborazione per il bene dei calabrese della calabria grazie per l'attenzione grazie con legato a vernice collega denisi prego grazie signor presidente io brevemente per condividere la mozione che è stata proposta la prezzo la condivido pienamente apprezzo soprattutto il metodo che si è instaurato con in questo consiglio con questa mozione unitaria che sarà approvata all'unanimità da tutto il consiglio questo come avete hanno appena detto sia l'assessore che i consiglieri che mi hanno preceduto una opera strategica e fondamentale per lo sviluppo della calabria e penso che la calabria come regione merita il finanziamento e la costruzione di questa opera noi con oggi diciamo abbiamo cambiato metodo penso che questo debba essere anche da stimolo e da sprone per quello che c'è fuori questo consiglio regionale dobbiamo vedere ad esempio che il terzo megalotto che in appalto è iniziato l'iter progettuale nel 2006 2007 nel 2013 si era ancora al progetto definitivo ed è stato consegnato sotto riserva nel 2020 noi siamo una regione che impiega 13 15 anni per portare un'opera dalla programmazione alla progettazione all'avvio dei lavori di costruzione dovremmo se tutto va bene concluderla entro il 2024 2025 questa questo megalotto io penso che il governo nazionale sinora anche preso pretesto questo nostro ritardo di ter come territorio come uffici come burocrazia ma anche come mentalità perché i ritardi di questi progetti a volte non sono solo attribuibili ad anas ad altri uffici sono anche attribuibili al territorio perché nel territorio questi progetti scatenano una miriade di osservazione una maria di interessi particolari per cui queste opere molte volte vengono si arenano si rallentano noi da oggi dobbiamo anche fare da stimolo per il territorio che c'è fuori dobbiamo essere compatte in questo consiglio e far sì che l'esterno percepisca che dinanzi a queste opere non ci si può mettere di traverso io rispetto dobbiamo rispettare tutta la situazione tutti gli interessi che ci possono essere fuori di tutti i cittadini ma però bisogna che finalmente le decisioni sulle opere strategiche vengono portate avanti e vengono prese in tempi certi e sicuri io quello che vorrei sollecitare anche nella mozione che andremo ad approvare che noi dovremmo impegnare anche il governo a un crono programma sul finanziamento sul completamento di questa opera va bene lo stimolo e l'impegno per dire sì finanziamo l'opera e costruiamo la mano dobbiamo anche darci dei tempi sicuramente non sarà finita nei tempi del pnr però almeno dovremmo pensare ragione veduta di poterla vedere completata entro questo del genio altrimenti veramente diventa un'opera inutile forse sarà troppo tardi per la calabria grazie consiglio denisi consigliera leggi grazie signor presidente sì io vorrei ricordare che stiamo parlando di un'opera che ne già nel 2001 era stata inserita nella legge obiettivo un'opera che a fine 2013 avremmo già dovuto trovare bella e finita eppure da quel 2001 ad oggi molto poco è stato è stato fatto non voglio ripetere parte degli interventi di chi mi ha preceduto ma tranne una delibera di giunta del 2016 quando la regione calabria attraverso anche il piano dei trasporti chiede che anche la parte che va da catanzaro fino a reggio calabria possa essere inserita tra le opere transeuropee il tenti che poi qualche giorno fa abbiamo avuto notizia che la commissione europea la proporrà per questo inserimento inserimento che sia chiaro che ancora non c'è stato ma che verrà proposto nel parlamento europeo poco è stato fatto e la politica forse ha dormito ha dormito quando il 16 aprile 2021 il governo italiano con un dpcm con un decreto del presidente del consiglio dei ministri nomina i commissari per ben 57 opere strategiche opere importanti in tutto il territorio nazionale 14 di queste opere riguardano la viabilità stradale ebbene nessuno si è accorto però che solo per la 106 abbiamo un commissario che in realtà non è dedicato solo alla 106 ma ha dedicato anche un'altra importante arteria stradale nazionale che è la e 78 che è la strada di collegamento tra grosseto e fano ecco la calabria anche in questo caso condivide quello che un commissario straordinario che dovrebbe mettere mano al dossier della 106 e con poteri speciali al pari di quelli che ha avuto il commissario per la realizzazione del ponte morandi che richiamano in maniera chiara il decreto legge 32 del 2019 basta guardare l'articolo 4 per capire che i commissari che sono stati nominati appunto per questi 54 opere hanno più o meno gli stessi identici poteri del commissario ad acta che è stato nominato per il ponte morandi quindi in deroga sul codice degli appalti in derva quella che la normativa per quanto riguarda gli espropri eppure nessuno ha detto nulla la politica è rimasta silente proprio per questo ho chiesto di inserire all'interno della mozione la volontà che il governo possa nominare un commissario ad acta che si occupi solo della 106 e che non debba lavorare su due cantieri importanti come quello che abbiamo attualmente sulla 106 e sulla grosseto fano e poi una nota caro assessore dolce la regione calabria nel momento in cui c'è stato da parte del presidente del consiglio dei ministri il decreto per la nomina del commissario trasmette una nota una nota del 23 del 29 di marzo la 14 48 91 nella quale la regione calabria sottolinea che alla 106 è un'opera di esclusiva rilevanza regionale beh forse il presidente spirali che si è addormentato su sacral anche quel giorno stava sonnecchiando quando la regione calabria inviava questa nota ed sottolineava un'opera strategica come invece fosse un'opera di esclusiva rilevanza regionale la 106 non è un'opera di rilevanza regionale è una contraddizione in termini nel momento in cui si gioisce perché viene inserita nel circuito tenti e poi la si definisce con una nota regionale un'opera di rilevanza regionale per quanto riguardi finanziamenti e lì che sicuramente i calabresi si sentono sfiduciati ed amareggiati sono troppo pochi finanziamenti in campo e non credo che vada fatto un paragone su quelli che sono i finanziamenti anche di altre regioni guardate perché cadremmo in un errore è vero il collega tavernise sottolineava come in quella del libera cipre ci siano dei fondi differenti in base alle regioni ma è chiaro che quei fondi vengono distribuiti in base alla popolosità di una di una regione ciò però che noi non possiamo accettare che sia quello il metro utilizzato anche per il finanziamento della nostra 106 che ormai equiparabbi una vera e propria strage di stato 750 morti sono un borgo un piccolo comune calabrese che scompare e allora la grande sfida del pnr la regione calabria non l'ha saputa cogliere non l'ha saputa cogliere con i fondi complementari al pnr che vorrei ricordare i colleghi che non hanno la stessa tempistica del pnr quindi la scadenza nel 2026 fondi che la regione calabria deve chiedere di poter essere utilizzati per la strada statale 106 tra le missioni che sono all'interno del pnr proprio nella missione 3 al punto c1 si parla di sicurezza stradale strade sicure e allora la visione mio perché i funzionari europei e la politica italiana hanno avuto e non aver saputo portare la fotografia di quello che il sistema della viabilità oggi calabrese io assessore dolci questi funzionari e questi colleghi che lavorano a bruxelles li inviterei a percorrere la strada 106 per rendersi conto che quando mettono in piedi delle missioni di intervento e parlano di sicurezza stradale in calabria purtroppo ancora di sicurezza stradale non si può parlare con dei sistemi di monitoraggio di vigilanza perché non ci sono delle strade adeguate da poter monitorare e vigilare il pnr non è un dogma il pnr è stato scritto e può essere sicuramente utilizzato per perciò che attiene la statale 106 se così non fosse allora un altro metodo sarebbe quello di utilizzare tutte le risorse per tutte quelle grandi opere che saranno finanziati dal pnr ma per le quali era previsto un finanziamento diretto da parte dello stato tutte le risorse quindi alle economie che si genereranno nei prossimi quattro anni sicuramente possono dare respiro alla nostra opera per la quale chiedo che venga fatto una valutazione unica e che anche la calabria non venga divisa in calabria del nord e calabria del sud facendo sì che alcuni cantieri possano partire da altri cantieri ancora forse dovranno essere programmati progettati facciamo sì che quando parta la 106 parta per tutta la sua tratta da nord a sud della nostra regione grazie grazie consigliere reggi consigliere graziano prego grazie presidente saluto il presidente della giunta gli assessori e colleghi consiglieri è un giorno storico direi per questo consiglio vero che si è parlato spesso di 106 questo consiglio ma non come oggi oggi è il primo punto all'ordine del giorno non siamo su mozioni che sono arrivate da una parte politica ma siamo come accaduto altre volte magari a fine seduta ma è l'argomento principale della seduta odierna grazie alla richiesta di tutti del presidente del consiglio di tutti i gruppi consigliari che oggi fatto storico si accingono ad approvare un documento comune che va al di là dei colori politici perché la strada della morte qual è la strada alle 106 merita l'attenzione comune di tutti quanti noi se accennato all'importanza sociale all'importanza economica ma soprattutto alla creazione di diseguaglianze che ha creato questa strada all'interno non soltanto del sud italia ma anche all'interno della stessa calabria l'unica terra calabrese che non ha una ferrovia elettrificata noi siamo stati finora presi in giro anche nonostante la regione abbia messo anche negli anni scorsi 500 milioni di euro per esempio l'elettrificazione che va da sibari a catanzaro ma noi vediamo solamente dei pali senza fili e senza elettrificazione a maggior ragione alla stata alle 106 è l'unico mezzo percorribile che ci consente a noi di poter transitare di poter raggiungere gli altri luoghi della regione ma anche fuori regione ebbene noi abbiamo bisogno di di una strada sicura e veloce e questa sarebbe retorico dirlo ma aveva bisogno anche di evitare il calo demografico enorme che abbiamo nei nostri territori il calo demografico dipende non soltanto dal lavoro o dalla ricchezza del territorio noi abbiamo un territorio ricco sull'aiono per lo meno sull'aiono soprattutto cosentino ma che non ha strada che non ha percorrenze dove anche noi abbiamo il terrore quotidiano come è accaduto ancora poche ore fa che i nostri figli possono morire percorrendo la strada che per noi purtroppo al tratto fra corriano e rossano addirittura è diventato una strada urbana dopo l'istituzione della della città di corriano rossano ecco io sono terrorizzato lo dico personalmente come tutti quanti coloro che abitano io una figlia che studia a bari che percorre quotidianamente ogni settimana questa strada e io vivo delle giornate come tutti i calabresi che abitano sull'oiono calabrese terrorizzato terrorizzato che magari i miei figli possono mi possa arrivare una telefonata una cattiva notizia ecco le cattive notizie l'abbiamo avuto spesso l'abbiamo avuto per parenti per cugini per fratelli per sorelle siamo tutti il lutto nelle nostre famiglie per questa strada ecco perciò oggi noi chiediamo al presidente che sta dando tanta energia in questo suo mandato fisica e mentali come ho già detto altre volte in questo consiglio e come ho visto anche le dichiarazioni dopo l'ultima riunione del cipersi di mettere un'energia ancora maggiore per la strada stata alle 106 di far sì che questa strada possa essere dichiarata in qualche modo strategica che ci possono essere dei poteri derogatori rispetto al normale abbiamo visto che lol il commissariamento non è servito a nulla praticamente non aveva nessuna traccia di questo commissaria ma il commissario simonini da quando è stato nominato fino ad oggi abbiamo una statale 106 che è stata istituita il 17 maggio del 1928 e tranne a modernamenti che hanno rappresentato ancora di più l'accentuazione o raddoppi del di questo cimitero all'aperto perché un cimitero all'aperto noi non abbiamo purtroppo avuto che l'accentuazione l'aumento dei morti e l'aumento degli incidenti che sono enormi si parla dai 50 ai 100 incidenti al mese abbiamo una media di sei morti ogni 100 incidenti mentre il resto d'italia di due morti ogni 100 incidenti abbiamo una strada nel tratto di cosenza che tranne che per 12 chilometri da rocca imperiale a rosetto e a quattro corsie per il resto è una strada impraticabile 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 neanche con i muri sarebbe praticabile c'è da dire che siamo stati fortunati ad avere 12 chilometri perché come al solito l'investimento sulla 106 iniziato dalla puglia dalla basilicata non è iniziato da reggio calabria o dalla calaveria dalla parte opposta e stiamo continuando con lo stesso sistema visti anche gli ultimi deliberati del cipers ecco perché vi chiediamo noi a questo governo fra l'altro largamente rappresentativo in questa aula consigliare che ci sia una forza maggiore che non deve essere quella ricordata nel passato sappiamo bene che c'erano stati dalla legge obiettivo come è stato ricordato messi 6 milioni sulla stata le 106 sappiamo puro bene chi li ha revocati quei 6 milioni ma lo ricordo bene che sono revocati 9 milioni 6 milioni della 106 e 3 milioni dell'autostrada saranno reggio calabria dal governo renzi non è che io l'ho dimenticato questo lo ricordo bene ma oggi mettiamolo da parte questo non siamo qua a fare un discorso di parte dobbiamo fare un discorso di unione e di unificazione quindi richiediamo ancora sento l'assessore dolce che occorrono 5 milioni da catanzaro a salire bene ci dessero questi 5 milioni glieli chiederemo con forza io sottolineo se non altro perché abito lì che esiste un tratto già progetto definitivo per come abbiamo appurato anche in commissione l'altro giorno che quello che va da sibari a rossano e se al progetto definitivo io credo che debba essere non perché deve avere priorità rispetto al resto della calabria ma perché forse quello immediatamente più canteriabile rispetto agli altri e allora dico prestiamo un'attenzione maggiore a questo tratto anche perché collega la terza città della calabria all'autostrada e quindi è una bretella che è necessaria andare a formalizzare nel più breve tempo possibile io non voglio fare retoriche non possiamo fare retorica oggi però non ne possiamo più noi non possiamo essere costretti a scendere in strada per protestare l'ennesima volta per la 106 presidente noi confidiamo nel suo lavoro io credo che lei sia la persona giusta affinché finalmente non ritorniamo in quest'aula a parlare di 106 affinché finalmente fra qualche anno non siamo più preoccupati per i nostri figlioli che percorrono quotidianamente la strada il cimitero all'aperto denominato oltre che strada della morte grazie grazie collega graziano collega bevacqua prego no io molto brevemente solo per esprimere il mio apprezzamento per il lavoro fatto in queste ore in questi giorni dalla conferenza dei capiglupo che ha portato oggi a presentare in aula un una mozione a firma di tutti e questo è questo un segnale un buon segnale che mi conforta e mi dimostra che in questa aula in questa assise c'è un gruppo dirigente che guarda oggi oltre la propria parzialità ma una visione alta a servizio dei calabresi che quello di realizzare oggi dei diritti oggi non riconosciuti e noi se abbiamo la forza di riconoscere ai nostri figli questi diritti non riconosciuti che che riguardano la mobilità che questo consiglio regionale può possa scrivere un merito altissimo nella propria storia di questa di questa 50 anni di consigliatura regionale questo è il punto di partenza della riflessione che dobbiamo fare oggi perché credo che i ritardi accumulati durante questi anni siano tanti ma oggi c'è ci sono due opportunità da tenere ben presenti e sulle quali noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione e quando dico noi dico non solo il presidente della giunta regionale o la giunta regionale che hanno il dovere di occuparsi di queste problematiche in quanto oggi governo una regione calabria ma io dico tutte le forze politiche presenti quest'aula perché ognuno di noi ha responsabilità nel governo nazionale tranne fratelli d'italia e quindi noi dobbiamo utilizzare rafforzare relazionarci con tutte le forze politiche come abbiamo fatto in altre occasioni perché anche sulla sanità o sul precariato se sono stati i meriti perché questo quelle forze politiche oggi al governo hanno lavorato in piena sinergia per raggiungere risultati importanti per la calabria e questo è credo un punto da evidenziare da rimarcare e sul quale lavorare oggi insieme per ottenere risultati importanti per la calabria e io credo che insieme possiamo farcela perché dicevo sono due condizioni oggi che ci aiutano molto che sono i fondi complementari legate al pnr c'è una decisione della comitata europea che riconosce la 106 come rete transinazionale e questi due elementi devono spingerci con forza a richiamare i nostri responsabili nazionali che oggi al governo nazionale e che oggi al governo regionale a fare questa sintesi che potremmo farla non diciamo a parole ma nei fatti l'ha detto bene poco fa il collega alecci per conto del pd abbiamo contribuito anche noi alla stesura della mozione e noi vorremmo ecco continuare con questo spirito che esalta il ruolo del consiglio che fa diventare questo consiglio regionale protagonista nelle scelte importanti per la vita calabrese che dia dignità che una parola che abbiamo che abusiamo ma io dico che vengono riconoscete i calabresi quei diritti alla mobilità che altre regioni hanno da anni da molti anni e che noi dobbiamo oggi diciamo recuperare questo che utilizzando ciò che abbiamo in mano che sono gli strumenti che abbiamo anche vi ho detto prima e che abbiamo anche un governo che potrebbe che potrebbe esserci amico se facciamo davvero squadra se facciamo davvero sintesi se facciamo quel lavoro che oggi ci ci compete come responsabili del governo regionale come istituzione calabresi o questo l'augurio che faccio e poi un altro un altro spunto di riflessione con le fanno la storia doccia presento chiudo guardate uno dei cancheri e lo dico anche ai dirigenti regionali di questa della mancata realizzazione di molte opere già finanziate dei ritardi accumulati in questi anni non mi ricordo che c'era poco fa che ci sono finanziamenti del 2006 2007 che le opere partono adesso uno dei cancheri si chiama non ho paura a dirlo si chiama anas una delle sfide che dobbiamo lanciare è sulla programmazione perché se non è capace di fare l'ananas l'affidiamo a qualche altra società caro presento chiudo l'agilico bella nella progettazione soluzioni graditari perché erano personale non so che cosa non hanno e questo è un altro punto del compagno comport e un altro cancro si chiama rfi perché l'altra velocità è vero che hanno sentito 180 milioni ma queste opere erano già stanziate nel lo dico la storia dolce che è molto più esperto i contatti di programma firmati negli anni precedenti a storia dolce ricomplendono molti finanziamenti che oggi ci ripropongono ci ripropongono e così il cane si muove la cosa ma lo dobbiamo smettere anche pretendere da calabresi perché spesso ci considerano forse ancora terroni ancora incapaci di governare poi c'è sempre pretendere da anas rfi il rispetto sui programmi che facciamo perché loro devono poi realizzare noi possiamo fare le battaglie possiamo gridare possiamo incatenarci ma poi se non c'è chi poi che il programma realizza nei tempi nei tempi giusti adeguati normali le sfide le perdiamo quindi teniamo bene bene questa questa barra 1 abbiamo gli strumenti per poter pretendere finanziamenti 2 pretendiamo rispetto da chi deve realizzare queste opere che si chiama anas rfi grazie collega bevacqua ha chiesto di intervenire la consigliere straface prego grazie presidente presidente del consiglio della giunta colleghi consiglieri si è già ampiamente discusso dell'importanza della giornata storica che si sta consumando in questa assise regionale un momento che vede tutte le forze politiche unite compatte per il raggiungimento di una questione che ritengo fondamentale che riguarda appunto la modernamento della statale 106 sono d'accordo con l'assessore dolce quando dice che questa arteria stradale oltre ad essere importante in tema di sviluppo economico sociale di sicurezza ma ritengo che sia di fondamentale importanza proprio in termini di protezione civile perché vedrebbe la calabria di fronte a situazioni naturali che si possono verificare sul nostro territorio completamente isolata e ritengo che questo sia un tassello fondamentale da tenere nella giusta considerazione prima di entrare nel merito del mio intervento colgo l'occasione per ringraziare il presidente roberto chiuto lo ringrazio presidente perché lei sin dall'inizio del suo mandato ha speso tempo energie entusiasmo nel portare sui tavoli istituzionali il problema dell'ammodernamento della 106 e quindi l'occasione di oggi si profila come un confronto tra tutti i componenti della massima assise regionale per arrivare a questa mozione che da qui a poco andremo ad approvare mozione che da forza sostegno a quel percorso intrapreso dal nostro presidente occhiuto cosa si chiede si chiede la copertura finanziaria dell'intero tratto da sibari crotone catanzaro reggio calabria questo è quello che chiediamo tutte le forze politiche che siamo qui chiamati a rappresentare i cittadini calabresi noi abbiamo sempre considerato questa arteria stradale dandole un'importanza prettamente calabrese un'arteria stradale importante per la nostra regione calabria ma così non è non è così perché parliamo di un'arteria stradale che diventa fondamentale in termini di mobilità di collegamento dei trasporti dell'intera nazione italia non a caso in una decisione assunta dalla commissione europea la quale ha incluso l'intero tracciato della statale 106 come parte della rete globale nella proposta di revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti quindi parliamo della statale 106 come un'infrastruttura strategica per l'intera europa nei giorni scorsi abbiamo voluto portare nella commissione parlo della quarta commissione la discussione le criticità i pareri i consigli che si potevano dare in merito all'ammodernamento della statale 106 ringrazio l'ingegnere moroni la ringrazio veramente perché ha dato un'illustrazione di quella che è la situazione attuale di questa importante arteria stradale indicando con minuzia di particolari quello che è il contratto di programma 2021 2025 che è stato trasmesso nei giorni scorsi al ministero e abbiamo potuto vedere che 60 per cento della statale 106 è dedicato in questo contratto di programma mentre il 40 per cento viene dedicato all'autostrada e ha illustrato inoltre l'ingegnere moroni come la somma che viene richiesta al governo per il finanziamento dell'intera opera è di circa 9 miliardi 9 miliardi di euro un confronto interessante costruttivo però sono venuti non c'erano mancavano quelli che sono gli attori principali e parlo del commissario simonini e dell'ingegnere caporasso dico attori principali perché dovevano essere loro così come diceva la consigliere bruni a darci delle risposte concrete rispetto a quello che l'iter rispetto a quelli che sono i lavori che stanno andando avanti rispetto a quello che doveva essere quel crono programma presentato dalla regione in merito all'ammodernamento ebbene questi attori hanno ritenuto opportuno non partecipare all'incontro che si è svolto durante i lavori della quarta commissione e noi lo diciamo lo abbiamo detto anche durante i lavori della commissione che questo loro atteggiamento non può che definirsi uno sgarbo istituzionale una mancanza di rispetto verso quelli che sono i lavori delle commissioni consigliari e allora qual è il quadro che noi abbiamo oggi abbiamo 106 chilometri che sono interessati da lavori 64 completati e 42 in corso di esecuzioni dei restanti chilometri per cento ottantuno la progettazione è in corso mentre gli altri 128 sono privi di progettazione quindi il combinato disposto di questi dati ci consegna a dir poco un quadro pesante inaccettabile soprattutto per quanto riguarda alcuni ritardi perché prendiamo atto che solo il 15 per cento della strada statale 106 è giunto al pieno completamento a differenza di quanto è accaduto in puglia in basilicata dove le arterie stradali risultano completamente ammodernate e allora in tal senso così come è stato specificato nella mozione che ho avuto modo adesso di leggere ritengo che ci sia la possibilità di utilizzare l'approccio del piano nazionale di ripresa e resilienza anche per la realizzazione della strada statale 106 utilizzando come diceva lei ingegnere moroni gli studi di fattibilità tecnico economico come livello di progettazione adeguata per indire banti di gara per la realizzazione dei lavori qual è l'aspetto che io è stato messo in evidenza da alcuni consiglieri che mi hanno preceduto e parlo del consigliere davide tavernise del consigliere graziano nel prendere atto della delibera cipes dove vengono destinati i 220 milioni per la tratta crotone cutro dove ripeto noi siamo per la modernamento dell'intera arteria stradale 220 milioni che sono briciole rispetto a quello che dovrebbe essere la copertura finanziaria e l'impegno della modernamento di questa arteria stradale noi ci troviamo questo quadro abbiamo roseto capospurico sibari che è in fase dei di lavori ci sono lavori che si stanno eseguendo poi abbiamo la sibari corigliano rossano che noi la vogliamo portare fino a crotone dove esiste già siamo in una fase avanzata esiste già un progetto definitivo si dovrebbe intire la conferenza di servizi nei prossimi giorni mi auguro perché siamo nella fase della valutazione di impatto ambientale per poi presentare il progetto e quindi per ottenere il finanziamento premesso che esistono già 195 milioni di euro per questo tratto stradale premesso che dei quattro lotti funzionali è l'unico lotto che si trova in una fase avanzata e allora siamo a conoscenza sappiamo perché la delibera cipes ha destinato i 220 milioni che ripeto sono briciole rispetto all'impegno necessario perché lì c'è stato l'assenso di tutti gli attori istituzionali del territorio di tutti i sindaci dei due presidenti di provincia parlo della provincia di crotone e di catanzaro nel tratto che invece riguarda la sibari corigliano rossano purtroppo ancora ad oggi manca l'assenso dell'attore principale che il sindaco della città mi fa piacere che il presidente roberto chiudo abbia interloquito con il sindaco e mi auguro che si trovi una soluzione da poter presentare ai vertici dell'anas ma se ciò presidente assessore non si dovesse verificare esiste la norma che ci mette nelle condizioni di superare il dibattito pubblico e raggiungere il consenso tra il presidente della giunta regionale e il commissario dell'anas io colgo l'occasione per esprimere la vicinanza la solidarietà ai tanti genitori non a caso ieri sera è un'altra giovane vita è venuta a mancare non solo nella tratta della sibari corigliano rossano ma anche a reggio calabria lo hanno detto in tanti non si contano i morti che ci sono stati ma non è soltanto questo noi ci troviamo l'area della sibari dire presidente occhiuto parliamo della terza città della calabria e l'ene consapevole e so l'impegno che ci sta mettendo che è completamente isolata e isolata in termini di collegamento dagli aeroporti non abbiamo delle stazioni ferroviarie efficienti e allora per poter parlare di sviluppo economico per poter parlare di di turismo di collegamenti di mobilità c'è la necessità di puntare la nostra azione verso queste grandi infrastrutture chiediamo quindi che la tratta sibari corigliano rossano ma fino a crotone venga definita opera strategica per far sì che i progetti possano partire insieme e mi riferisco al progetto di sibari crotone crotone cutro perché il pericolo che ci potrebbe essere è quello di un declassamento di questa parte di arteria stradale che non possiamo assolutamente permetterci la giornata di oggi ripeto rappresenta veramente una svolta storica una svolta storica che vede su temi così importanti tutte le forze politiche unite ma tutte le forze politiche a sostegno di quella che l'azione intrappresa e portata avanti dal nostro presidente roberto chiuto grazie grazie collega strafaggia ha chiesto di intervenire il consigliere allo schiavo sì grazie presidente grazie colleghi anch'io ritengo che la giornata di oggi sia particolarmente importante ma da un certo punto di vista io penso abbia anche una valenza politica il dibattito che noi stiamo facendo perché è fin troppo facile parlare dei ritardi infrastrutturali della calabria ma in questo momento noi dobbiamo anche capire che mandato stiamo dando e come vogliamo fare in modo che questa mozione non sia un arte un esercizio della retorica che molto spesso in politica accompagna le discussioni e cioè rispetto alla gravità del problema e rispetto alla complessità della vicenda che riguarda anche vita umane come voi sottolineavate non possiamo più limitarci a fare il compitino ea limitarci a prendere atto di quello che è uno stato di fatto delle cose in questo momento a mio avviso la mozione ha un significato politico e serve a dare un mandato pieno al presidente della giunta regionale affinché aprono una vertenza politica importante con il governo sul caso calabria e cioè la 106 e l'emblema di ritardi di questa regione ed è solo il primo banco di prova che questa maggioranza e questo consiglio regionale è chiamato ad affrontare il primo branco di prova perché non sarà l'unico consiglieri e cioè quando noi lamentiamo che nella ridistribuzione delle risorse la calabria rimane sempre ultima rispetto a regioni anche del meridione ma più forti nell'interlocuzione nazionale io penso che la giornata di oggi serva proprio a dare un messaggio diverso e cioè che il presidente della giunta regionale ha un mandato pieno a rappresentare il consiglio regionale nella sua interezza al di là delle posizioni politiche ma dopo arriverà un punto in cui noi dovremmo fare altre scelte e cioè nel momento in cui questa interlocuzione col governo nazionale non riuscirà io spero che porterà i risultati sperati ma nel momento in cui io mi spingo oltre nel momento in cui il governo nazionale non correggerà il tiro e comunque su questo noi non riusciremo a dare delle risposte concrete allora io vi chiedo se siamo davvero disposti in questa consigliatura ad assumere gesti eclatanti ad assumere gesti clatanti e soprattutto ad assumere posizioni decise e nette di rottura anche con le forze politiche che rappresentano oggi lo scenario nazionale perché una cosa il governo nazionale una cosa sono la tutela degli interessi dei calabresi nella prima riunione di consiglio regionale il presidente della giunta ha sottolineato come lui prima di essere un rappresentante politico di una fazione di una parte rappresenta gli interessi dei calabresi oggi a questa sua dichiarazione noi stiamo dando una risposta politica e cioè che al mandato di tutti noi maggioranza e opposizione per aprire una vertenza nazionale sulla 106 nello specifico ma sul caso calabria in in più linee più generali e io penso che l'assessore dolce di cui ho letto il curriculum e che vedo a grandissime qualità da un punto di vista tecniche può servire però anche a dare un aiuto alla politica perché a questo punto tecnici e politici devono mangiare insieme perché soli tecnici al governo non bastano e solo la politica senza qualità e senza contenuti non basta questa compenetrazione di qualità tecniche ma anche di capacità e di azione politica deve essere la prospettiva su cui il consiglio regionale della calabria deve muoversi nei prossimi anni e quindi chiude il mio intervento presidente non richiamando i danni e le morti e le sofferenze che la 106 ha provocato i ritardi che sono complessi derivati da una complessità di situazione anche da un ritardo della capacità della politica locale perché non bisogna scaricare sempre le responsabilità su altri enti noi scarichiamo a noi paghiamo anche un ritardo delle nostre amministrazioni ed è evidente che sia così ma oggi noi facciamo un passo ulteriore è una responsabilità che diamo un grande onere che diamo al presidente della giunta regionale la mozione non è fino a se stessa non è esercizio di retorica ma è un mandato pieno ad aprire col governo nazionale una partita fortissima sulla ridistribuzione delle risorse per le infrastrutture calabresi sapendo già che qualora dovessimo incontrare degli ostacoli e anche dei rapporti difficili con le altre regioni del paese noi dobbiamo essere pronti questa volta a compiere anche gesti eclatanti politicamente parlando io sono disposto a essere avanguardia assieme a maggioranza e opposizione in questa battaglia grazie presente grazie consigliere lo schiavo la parola al presidente occhiuto sì grazie presidente ho chiesto all'assessore dolce di poter intervenire io in replica gli interventi dei consiglieri regionali per esprimere intanto il mio personale apprezzamento ma l'apprezzamento di tutto il governo regionale per la decisione che il consiglio regionale oggi ha voluto assumere che è quella di sottoscrivere mettendo da parte le differenze mettendo da parte i ruoli di opposizione e di maggioranza un'unica mozione sul tema della 106 credo faccia onore al consiglio regionale e come è stato rilevato in molti interventi dia forza alla regione nella rivendicazione presso il governo nazionale della necessità di fare di quest'opera un'opera strategica per il paese oltre che per la calabria ne sono contento perché vorrei tranquillizzare chi è intervenuto dall'opposizione vi pare tavernise io ho perfetta contezza del fatto che alcune questioni ma la maggior parte delle questioni non possono non può essere risolta da uno solo dal presidente della regione io ho bisogno del contributo del consiglio regionale bisogno del contributo delle diverse parti che sono rappresentate all'interno del consiglio regionale e non solo del consiglio regionale oggi ho partecipato al congresso di un importante sindacato e ho chiesto anche ai sindacati di aggiungersi a questa rivendicazione per dare forza alla regione non solo alla politica regionale ai livelli istituzionali ma per aggiungere la voce della politica delle istituzioni a queste voci la voce anche dei corpi intermedi della regione perché altrimenti alcune questioni difficilmente potranno essere risolte la 106 e una di queste questioni credo che non se ne sia mai parlato così tanto come negli ultimi mesi e anche questo lo faceva rilevare il consigliere alecci anche questo credo sia un merito della politica regionale di questo consiglio regionale che ha voluto tenere sulla 106 una specifica discussione in consiglio io sono orgoglioso di governare una regione che è rappresentata da un consiglio che su questioni importanti mette da parte le differenze e si trova unità anche in controtendenza rispetto a quello che è successo in passato perché ripeto mai come in questi mesi si è parlato di 106 e non è che l'ha fatto una parte politica o l'altro l'abbiamo fatto tutti l'abbiamo fatto tutti quanti insieme non è facile affrontare risolvere questo problema dicevo senza il contributo di tutti perché l'assessore dolce che ringrazio per il contributo che mi sta dando vi ha dato qualche numero cioè per concludere la 106 da sibari a catanzaro occorrono circa 4 miliardi e 8 poi una volta ci dicono 4 miliardi una volta 4 miliardi e 8 una volta 5 miliardi molto dipende anche dall'aumento dei prezzi c'è stato un aumento dei prezzi del 21 per cento che ha fatto lievitare ulteriormente il costo della realizzazione di questa o di queste opere molti le cifre sono sempre così variabili perché come potete intuire dipendono anche dal tipo di progettazione di soluzioni progettuali che si individuano ma 4 miliardi e 8 fino a catanzaro attualmente ne abbiamo 700 non tutti imputabili nel tratto fino a catanzaro saranno circa 500 imputabili a questo tratto abbiamo avuto con l'assessore dolce mercoledì scorso un confronto con i vertici dell'anas c'era anche lì isi il nuovo amministratore delegato dell'anas c'erano i responsabili alla progettazione e in alcuni momenti siccome io non ho sempre un carattere felice in alcuni momenti c'è stato anche come dire un po di tensione nel 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 confronto con anas perché io chiedevo ad anas quale fosse l'orientamento di anas rispetto alla calabria ha detto ditemi nelle valutazioni che fa anas quando vuole quanto vuole investire anas sulla calabria quanto ritiene che si debba investire al di là di quello che poi farà il presidente della regione col ministero diteci che cosa bisogna fare a un certo punto ci dicono ma perché noi qualcosa abbiamo fatto ci sono 220 milioni per il tratto fino a cutro siccome questi 220 milioni di si è parlato tanto e qui facciamo anche un chiarimento sono 220 milioni che ha deciso la regione non anas di investire sulla 106 perché sull'anticipo dell'fsc e qui diamo anche una risposta a qualche giornale di stamattina noi potevamo scegliere di parcellizzare la spesa finanziando diciamo gli interventi di 40 50 comuni o di concentrare la spesa su pochi obiettivi strategici abbiamo scelto la seconda strada c'era stato assegnato prima ci sono stati assegnati 350 milioni su quell'anticipo fsc l'assessore dolce è riuscito a portarli poi a 465 milioni sono dati in ragione del numero degli abitanti la puglia ha il doppio di noi per la semplice circostanza che la puglia ha il doppio degli abitanti della calabria ma abbiamo scelto noi di investire 220 milioni su quel tratto e perché su quel tratto e non su altri tratti perché quello era un intervento funzionale che probabilmente si apre si chiude con 220 milioni e quindi aveva senso fare un intervento funzionale invece che parcheggiare delle risorse su un altro intervento che non avrebbe che non si sarebbe concluso con quelle risorse anche perché su altri interventi mentre su quello c'era il dibattito con i territori che era già concluso felicemente su altri interventi voi avete registrato che ci sono anche delle prese di posizione di alcuni sindaci di un sindaco in particolare che vorrebbe modifiche tracciato e parlerò fra poco anche di queste hanno abbia deciso di metterci queste duecento me ne ho detto all'amministratore delegato di anas ma queste non sono risorse di anas sono risorse che la regione ha deciso di assegnare ad anas per fare un tratto della 106 diteci che cosa volete spendere per la calabria non lo sanno non lo sanno come avete visto io ho fatto anche una lettera a draghi fatto una lettera a draghi lamentando che non c'è una sola opera strategica per la calabria l'alta velocità ve lo dico con grande franchezza a me non basta perché l'alta velocità noi la vedremo nel 2030 il primo lotto dell'alta velocità non ha un chilometro in calabria perché si conclude a romagnano dicono che col pnr non si possono finanziare le strade in verità non sono state finanziate le strade anche se interventi sulla sicurezza stradale si potrebbero fare ma c'è il fondo complementare c'è un fondo complementare che vale 30 miliardi di euro una parte di questo fondo complementare è impegnato per realizzare l'alta velocità ferroviaria benissimo ma l'alta velocità ferroviaria che strada non è del ferrovia appunto si può finanziare anche col pnr allora ho chiesto a draghi ma perché noi una parte del fondo complementare quello che si utilizza per l'alta velocità ferroviaria intanto non lo reali non lo mettiamo a coprire interventi sulla 106 e poi quando dovremmo trovare gli altri soldi per l'alta velocità ferroviaria troveremo 3 o 4 miliardi in più però intanto utilizziamo questo quindi giovannini non l'ha presa benissimo questa cosa c'è un cerco io sono 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 grato al governo perché su tante questioni sta dimostrando una grande apertura di credito nei confronti del governo regionale della calabria su questo tema delle infrastrutture no su questo tema delle infrastrutture c'è la necessità di incalzare di più il governo nazionale allora che ci sia la convergenza di tutti i gruppi politici all'interno del consiglio regionale è una buona è una buona cosa vorrei che questa convergenza ci fosse anche all'interno del sistema delle autonomie locali noi quest'opera per quest'opera dobbiamo trovare le risorse chiedere la progettazione fino al reggio calabria perché oggi da catanzaro in giù non c'è un progetto per cui abbiamo chiesto che si finanzino anche i progetti fino al reggio calabria sarebbero 56 milioni di euro ma siccome abbiamo visto negli anni che quando poi le risorse dell'europa faticavano ad essere spese queste risorse andavano dove c'erano i progetti abbiamo pensato facciamo fare i progetti avremo qualche possibilità in più poi di fare le le opere anche da catanzaro in giù quindi non ci sono le risorse non ci sono i progetti per larga parte della 106 almeno creiamo le condizioni affinché la comunità politica istituzionale sia tutta quanta d'accordo come stiamo facendo oggi in consiglio regionale anche il sistema delle autonomie perché poi suo se su ogni varie su ogni tratto si aprono dei contenziosi sul stragiato allora siamo noi che ci facciamo del male non lo dico con riferimento al sindaco di rossano che ho incontrato è stato anche un colloquio cordiale lui pone una questione legata ad una variante del tratto che interessa il suo comune ho detto al sindaco di rossano che se questa variante dovesse costare 200 250 milioni di euro allora anche la regione può aggiungersi al comune chiedendo che questo avvenga ma se deve costare un miliardo mentre ce ne mancano tanti altri per realizzare la 106 e allora il ragionamento il cambia sono grato all'assessore dolce anche perché ha fornito al tavolo collanas e ha fornito a me personalmente un argomento che serve anche a confutare le obiezioni in ordine al fatto che non tutti i tratti della 106 possono essere a quattro corsie beh intanto noi io ho risposto ad anas che anas fa una valutazione tecnico economica che dovrebbe tenere anche conto del fatto che se una strada invece di essere una strada è una mulattiera è evidente che sui tratti dov'è una mulattiera non passano tante auto da legittimare una quantità di flussi sufficienti a fare la quattro corsie ma l'argomento che dolce mi ha proposto che un argomento che noi dovremmo proporre alla comunità nazionale è proprio quello a cui lui faceva riferimento nel suo intervento inizialmente la nostra è una regione che soggetta a fenomeni di dissesto è una regione tra le più sismiche del mondo e noi abbiamo soltanto una strada di collegamento lunga lungo la calabria che l'autostrada se ci dovesse essere un evento avverso e si dovesse spaccare questa strada noi non avremmo un'altra strada ridondante capace di collegare la calabria capace di collegare il paese capace di intervenire anche in condizioni d'emergenza allora questo elemento non vale più di 30 o 40 auto che in un minuto passano lungo questo quel tratto quindi noi abbiamo detto questo è un elemento da considerare perché la gente sei la vogliamo tutta a quattro corsia e su questo dovremmo poi continuare appunto il negoziato con alas intanto e col governo subito dopo dobbiamo anche essere come dire fieri delle nostre prerogative e pretendere rispetto per la calabria e per i luoghi istituzionali della calabria io inviterei il consiglio regionale a fare una lettera dura di proteste rivolta all'amministratore delegato di anas perché un commissario non può consentirsi di non presentarsi in consiglio regionale ad una commissione annunciandolo soltanto il giorno prima quindi è una valutazione che rimetto al presidente del consiglio regionale ma noi dobbiamo dimostrare che non abbiamo alcun complesso reverenziale nei confronti delle società che sono pagate con i soldi dei contribuenti per fare le cose che ai contribuenti servono allora ecco su questo io vorrei che ci fosse anche un'assunzione di responsabilità da parte io lo dirò all'amministratore delegato di anas però siccome c'è quando quando noi siamo stati ci hanno ricevuto c'era tutto il gruppo dirigente di anas non possiamo lamentarci di questo però il consiglio regionale secondo me a titolo a dire che anas deve fare il suo dovere quando un'assise importante glielo richiede per cui io volevo intervenire soltanto per ringraziarvi e per dirvi che quello che oggi stiamo facendo insieme in consiglio regionale è un modo anche per rilegittimare la politica che troppe responsabilità quella di destra quella di sinistra ha avuto in passato rispetto ai ritardi della 106 che a distanza di tanti anni ancora definita la strada della morte bene ha fatto il presidente del consiglio regionale ad aprire i nostri lavori con un minuto di raccoglimento per le vittime della guerra io ho avuto la tentazione di alzare la mano e di chiedere al presidente del consiglio regionale di aprire anche questo dibattito con un minuto di raccoglimento per le vittime della 106 ecco non l'abbiamo fatto ma credo che la qualità la responsabilità degli interventi che in consiglio regionale sono stati svolti oggi e anche l'assunzione collettiva di responsabilità su questo tema valga molto di più di un minuto di raccoglimento e dimostri quanto la politica abbia a cuore questo problema affinché questa strada non abbia più a chiamarsi la strada della morte grazie presidente penso che mi farò carico e raccoglierò l'invito del presidente ad esprimere le doglianze ad anas per la mancata partecipazione del del commissario quindi predisporrò quanto dovuto e ovviamente lo farò a nome di tutti i gruppi consigliari e della commissione consigliare che doveva ospitare il commissario assente proseguiamo i lavori chiedendo chiedo l'introduzione e quindi il voto per l'introduzione della mozione numero 15 dodicesima firma dai consiglieri neri bruno arruzzolo irto loizzo tavernisi e crinò laghi denisi graziano recante determinazione sullo stato della strada statale 106 ioni favorevoli contrari astenuti la mozione è introdotta cedo adesso la parola al consigliere neri del gruppo fratelli d'italia che ha proposto l'ordine del giorno dei lavori e per l'illustrazione consapevoli di questo ringrazio tutti che è frutto di un lavoro comune di tutti i gruppi consigliari di tutti i consiglieri e della commissione della quarta commissione e ringrazio per questo il presidente tutti i componenti a lei la parola sì grazie presidente lo ribadisco pure io che insomma ringrazio anche la sensibilità di tutti i capigruppo che siamo riusciti insieme ad arrivare a stilare un documento unitario indipendentemente dalle posizioni politiche mi accingo a leggerlo premesso che nella seduta della conferenza dei capigruppo del 9 febbraio emersa la volontà condivisa da tutti i gruppi consigliari di approfondire in una seduta del consiglio regionale previo esame da parte della quarta commissione il tema dell'ammodernamento della strada statale 106 la suddetta collega reggio calabria e taranto attraverso un percorso di 491 chilometri lungo la fascia litorana ionica di calabria basilicata e puglia si tratta di un collegamento strategico del sud italia poiché mette in comunicazione i due capoluoghi numerosi comuni costieri la tostata del mediterraneo e la tostata 14 teatrica che termina taranto costituisce una direttrice di traffico di rilevanza nazionale fa parte della rete europea e 90 la commissione europea ultimamente inclusi il tracciato come parte della rete globale della proposta di revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti detto attente l'85 per cento del percorso pari a 416 chilometri in territorio calabrese lungo la statale ionica l'annas ha già completato l'ampliamento a quattro corsie con uno sparti traffico centrale di tutto il traffico ricadente in puglia 39 chilometri in basilicata 37 chilometri in calabria sono state ampliati a quattro corsie solo 64 chilometri considerato che l'istituto il fondo per lo sviluppo e la coesione nasce con l'intento di ridurre il divare esistente tra le regioni più povere quelle più ricche il governo dovrebbe rigorosamente attuare scelte che garantiscano il rispetto di questo principio sancito peraltro alla costituzione italiana ma nei fatti è venuto tutt'altro il governo nella seduta nel cipes del 15 febbraio ha stanziato poco meno di 4,7 miliardi di euro per opere infrastrutturali immediatamente cantirabili e assunto l'impegno formale di stanziare ulteriore 1,6 miliardi di euro di interventi strategici programmati appena sarà possibile il piano di fattibilità tecnico ed economico derivativi interventi la differenza tra ciò che è stanziato e ciò che il governo si è impegnato a stanziare è pari a 6,3 miliardi di euro e di questi 4,4 saranno investiti al sud in particolare alla campania ha destinato un miliardo e 700 milioni di euro tra circa il 34 per cento alla sicilia un miliardo 213 milioni di euro il 24 per cento alla puglia 958 di milioni di euro il 19 per cento e dalla calabria 465 milioni di euro pari al 9 per cento rispetto al finanziamento ottenuto dalla calabria è bene specificare che sui 180 milioni di euro per il completamento dell'elettrificazione della filovia ionica c'è solo un impegno del governo ma nella delibera cipes non è previsto alcun finanziamento ciò implica che l'effettivo stanziamento è pari a 285 milioni di euro e di questi 65 milioni di euro saranno destinati per la strada di collegamento per san luca e 220 milioni di euro per la strada statale 106 per quanto riguarda la strada di collegamento per san luca è previsto un finanziamento di 65 milioni di euro ma queste risorse saranno così destinate un milione nel 2022 9 milioni nel 2023 15 nel 2024 altri 15 nel 2025 altri 15 nel 2026 e 10 milioni nel 2027 per quanto riguarda i 220 milioni di euro assegnati sulla strada statale 106 il governo nel corso il 2022 ne stanzierà solo 500 mila euro perché i restanti saranno così erogati 2 milioni nel 2023 5 milioni nel 2024 45 nel 2025 65 nel 2026 65 nel 2027 e infine 37 milioni e mezzo nel 2028 occorre altresì ricordare che in occasione della sua edizione alle commissioni riunite alla camera di trasporti ambienti il 3 febbraio 2021 il commissario straordinario per la strada statale 106 ionica ingegner massimo simonini ha predisposto un piano costituito da 12 interventi sulla femmigerata e tristemente nota strada della morte in calabria ed ha affermato che per realizzarlo sono necessario circa 3 miliardi 900 milioni di euro tant'è vero che l'intero investimento di 220 milioni di euro destinata alla stagione 106 ionica sarà necessario per realizzare l'ammordenamento a quattro corsie sparti traffico centrale sul nuovo tracciato tra crotone e cutro null'altro vi è sulla restante statale 106 ionica in calabria rilevato che il presidente della giunta regionale della calabria roberto chiudo ha affermato chiaramente che la nostra regione si aspettava di più in merito all'istituto del fondo per lo sviluppo e la coesione che ciò non è stato rispettato dal governo in quanto alla regione calabria andava destinato il finanziamento di un miliardo e 700 milioni di euro che è stato erogato invece in favore della campagna la ripartizione adottata dal governo non solo disattende l'istituto del fondo per lo sviluppo e la coesione ma paradossalmente lo sovverte aumentando di fatto il divaro della calabria e le altre regioni del sud il presidente della giunta regionale della calabria ha fortemente sostenuto la necessità di insisti di inserire l'infrastruttura della strada statale 106 nelle opere finanziabili con le risorse il pnr r chiedendo al governo di considerare i progetti di ammordina di ammordino di ammordino di ammordino di ammordino dell'arteria statale con la costituzione di due carreggiata a quattro corsie nel corso della conferenza dei capigruppo del 9 febbraio scorso il presidente del consiglio regionale della calabria non l'orevole filippo mancuso ha posto come proprietà di indirizzo la discussione sull'arteria stratale 106 onica tutto ciò premesso il consiglio regionale della calabria impegna la giunta a sostenere una specifica e diretta contrattazione con il governo per definire la realizzazione di un'infrastruttura stratale di tipo b e contestualmente la nomina di un commissario adatta ad utilizzare la proposta della regione calabria relativa al contratto di programma 2021 2025 tra anas e governo quale strumento prioritario per allocazione di risorse finanziarie adeguate all'obiettivo a verificare la possibilità di utilizzare risorse provenienti dal fondo completamente complementare collegata al pnr a sostenere un necessario riequilibrio del fondo fsc 2021 2025 alla luce della recente del delibera cipes che vede un'assegnazione di risorse alla calabria assolutamente insufficiente ed infine ad attivare in concorso con il governo una specifica interlocuzione visto anche il recente inserimento della strada statale 106 calabrese all'interno delle reti transnazionali al fine di reperire ulteriori finanziamenti in sede europea anche tramite il pol 2021 2027 grazie consigliere neri pongo in votazione la mozione con l'autorizzazione allo coordinamento formale favorevoli contrari astenuti la mozione approvata con l'autorizzazione al coordinamento formale passiamo al secondo punto posto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge 32 dodicesima di iniziativa del consigliere mancuso recante modifiche alla legge regionale 13 maggio 1990 numero 7 norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della giunta regionale e sulla dirigenza regionale cedo la parola al relatore consigliere de francesco per illustrare il provvedimento grazie presidente la commissione affari istituzionali da me preseduta ha proceduto in data 8 febbraio all'esame della proposta di legge numero 32 12 iniziativa del consigliere mancuso finalizzata a modificare l'articolo 24 comma 5 della legge regionale numero 7 del 13 maggio 1996 ricevendo parere favorevole successivamente in data 17 febbraio la seconda commissione presieduta dall'onorevole montuoro ha espresso parere favorevole circa la compatibilità della proposta con il bilancio regionale mi avvio ad illustrare la relazione descrittiva la legge regionale 13 maggio 96 numero 7 relativa alle norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della giunta regionale e sulla dirigente sulla dirigenza regionale all'articolo 24 comma 5 statuisce affardata dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni 5 fatto salvo diverso provvedimento motivato dall'aggiunta regionale la suddetta previsione normativa trattando la materia della rotazione degli incarichi dirigenziali deve essere armonizzata con la vigente normativa nazionale legge anticorruzione del 6 novembre 2012 numero 190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione la rotazione del personale nell'ambito di detta normativa è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo funzione la normativa anticorruzione assegna piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza di ciascun ente anche la funzione di definire direttamente o rinviare a specifico atto organizzativo i criteri della rotazione individuazione dei settori fissi fissazione della periodicità e caratteristiche della rotazione pertanto la sede materia per stabilire tra l'altro la periodicità della rotazione ordinaria dei dirigenti e il piano triennale della prevenzione della corruzione della trasparenza alla luce di tali considerazioni risulta necessaria l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale del 13 maggio 96 numero 7 che prevede una rotazione avulsa da tutte le valutazioni e procedure che sottendono il succitato piano la proposta si compone di tre articoli e trattandosi di previsioni di natura ordinamentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale grazie per l'attenzione grazie consigliere francesco sono interventi passiamo all'esame della votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti l'articolo 1 approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti l'articolo 2 approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti l'articolo 3 approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di legge numero 35 dodicesima in iniziativa dei consiglieri raso caputo recante abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 17 agosto 2005 numero 13 collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 cedo la parola al relatore consigliere raso per illustrare il provvedimento grazie presidente con la seguente proposta emendativa si si tende ad abrogare l'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 17 agosto 2005 numero 13 che testualmente recita nell'amore della completa attuazione delle nomi delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002 numero 19 l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative variante da parte delle regioni avviene con con decreto assunto dal dirigente generale del competente dipartimento della giunta regionale sulla scorta delle risultanze delle precedenti istruttorie considerato che questo articolo viene disatteso in quanto già nell'articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 267 2001 testo unico degli enti locali attribuisce espressivamente al consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali urbanistici quindi con la presente proposta costituita da tre articoli che vi leggo si prevede da annullare questo articolo 25 quindi l'articolo 25 l'articolo 1 della proposta l'articolo 25 della legge regionale 17 agosto 2005 numero 13 collegato alla manovra di assestamento del bilancio 2005 abrogato l'articolo 2 dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della regione calabria chiedo la votazione grazie grazie consigliere raso presidente sì consigliere bevacqua prego ma è solo per un chiarimento visto che è stata approvata in commissione io non ero presente in quella seduta quindi mi permetto di porre una domanda se ho capito bene o meno diciamo qual è l'obiettivo di questa proposta di legge se l'obiettivo è quello di delegare tutte le comuni le autorizzazioni necessarie a piani strutturali e altro o a un altro fine perché se dovessimo diciamo consegnare affidare ai comuni la programmazione la pianificazione io credo che chiederemo diciamo tante situazioni a mio modesto parere di di incertezza ma soprattutto anche di ulteriore consumo di suolo a me questo preoccupa perché se noi dovessimo diciamo rendere ancora più largo possibile costruire in calabria senza nessun controllo prendi preventivo credo che faremo un danno all'ambiente un danno all'ambiente e soprattutto all'economia calabrese io lo dico e lo pongo questo questo interrogativo perché se non ricordo male nel piano quando abbiamo provato non viene temer quando aveva creato nello strumento che regolamenta tutto l'urbanistica in calabria la pianificazione urbanistica in calabria l'abbiamo fatto stavo guardando il territorio non vuole che con questa legge noi diciamo aprissimo i rubinetti è contentissimo una diciamo una costruzione una una un'arbitraria ecco costruzione affidata ai comuni sono questo poco come interrogativo presidente perché io sono per salvaguardare il territorio per salvaguardare l'ambiente e rigenerare il territorio attraverso la recupero di tutto ciò che abbiamo in calabria gli urbanisti permette presidente posso rispondere prego consiglierebbe vacca questa amministrazione regionale porta la bandiera dell'ambiente del paesaggio infatti e non non vuole caricare nulla ai comuni è soltanto un errore della normativa esistente in quanto già è previsto nel testo unico degli enti locali che i consigli comunali adottano i piani territoriali urbanistici quindi non viene introdotto nulla la regione esamina gli strumenti urbanistici dai pareri si fanno nelle conferenze di servizio e soltanto l'atto di approvazione finale che viene fatto da parte del comune del consiglio comunale come previsto dal testo unico degli enti locali grazie grazie collega ma era stato già ampliamente spiegato in commissione passiamo all'esame votazione del provvedimento favorevoli articolo 1 favorevoli contrari astenuti l'articolo 1 approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti articolo 2 approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti l'articolo 3 approvato pongo in votazione la legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale il quarto punto all'ordine al giorno riguarda la proposta di legge 36 dodicesima di iniziativa il consigliere occhiuto recante modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021 numero 32 istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato azienda per il governo alla sanità della regione calabria azienda zero c'è la parola al relatore consigliere comito per illustrare il provvedimento grazie presidente grazie colleghi nelle riunioni dell'11 febbraio 2022 il consiglio dei ministri su proposta del ministro per gli affari e regionale l'autonomia maria stella germina esaminato diverse leggi regionale ha deliberato tra l'altro di non impugnare la legge regionale calabria numero 32 del 15 12 2021 istituzione dell'ente di governance nella sanità regionale calabrese denominata azienda per il governo della sanità della regione calabria azienda zero la proposta in esame a firma del governatore roberto occhiuto apporta modifica la legge regionale 15 dicembre 2021 numero 32 l'intervento di novellazione normativa si rende necessaria al fine di dare esecuzione agli impegni appositamente assunti con il governo nel contesto del principio di leale collaborazione tra stato e regione sebbene il governo il governo abbia condiviso il complessivo impianto normativo deliberando la non impugnativa della legge regionale 15 dicembre 2021 numero 32 si è ritenuto necessario apportare modifiche la modessima legge al fine di renderla maggiormente intellegibile ed evitare problemi interpretativi e quindi per consentirne una puntuale piena attuazione l'esigenza è quella di riformulare o abrogare le disposizioni normative ive previste al fine di scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione o interferenza per la normativa con la normativa statale di riferimento conformandone sostanzialmente il contenuto complessivamente ma anche analiticamente la proposta appare dunque compatibile con il quadro ordinamentale vigente la proposta di legge è stata esaminata e discussa nella nella seduta della terza commissione del 22 febbraio 2022 il dirigente generale del dipartimento tutela della salute e servizi socio sanitario non ha sollevato alcuna osservazione il settore assistenza giuridica ha illustrato alcuni suggerimenti di natura tipicamente formale che sono stati recepiti in sede di approvazione dalla commissione che presiedo è stato inoltre va suo parere favorevole della commissione bilancio nella seduta del 25 febbraio in quanto il testo normativo reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggioni rifinanziari per il bilancio regionale grazie presidente grazie passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 prego vuole intervenire prego consigliere la drai grazie presidente volevo fare qualche commento su queste no forse è meglio che mi tolga la mascherina un attimo allora dicevo a parte che a mio parere le 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 modifiche che sono state apportate sono modifiche sostanziali e non formali ma e al di là diciamo degli aspetti formali attraverso cui questa legge è stata prima prodotto prima approvata poi emendata e attraverso un percorso anche all'interno della compagine di governo io vorrei sottolineare soltanto soltanto vorrei sottolineare una una questione di merito e non di metodo cioè a parte perché in questo in questo iter nell'iter di questa legge si è molto discusso appunto del metodo ea mio parere non sufficientemente nel merito io ritengo che la legge dell'azienda zero ci porti verso un peggioramento della diciamo dell'offerta sanitaria allo alle popolazioni calabresi quindi io in realtà vedo un vedo ed è normale che così sia vedo un doppio livello di per quanto riguarda la prestazione sanitaria un livello certamente regionale per quanto riguarda le iniziative che comprendono tutto il territorio regionale e per esempio non ho difficoltà a applaudire al piano pandemico che è stato recentemente approvato finalmente e così gli interventi sulle sui ritardi sui ritardi nelle liste di attesa perché è un problema che riguarda tutti i cittadini calabresi diverse diversa così come anche mi viene in mente il problema del diciamo del dell'indicare le linee guida a cui per esempio gli atti aziendali delle aziende sanitarie debbano uniformarsi ma queste sono cose chiaramente diverse dal come dire dal governo locale della sanità che ha lo scopo di fornire diciamo il la migliore assistenza possibile a popolazioni è stato detto anche in precedenza in una regione caratterizzata da una difficoltà di percorrenza aviaria da infrastrutture assenti ma anche spesso da un'orografia assolutamente sfavorevole e anche da condizioni socio economiche ed epidemiologiche completamente differenti io in questo periodo al di là che ho presentato un un progetto di legge che va esattamente debbo dire in direzione opposta non a un accentramento del governo della sanità calabrese ma anzi ad un ampliamento ad una maggiore compartimentazione in in ambiti territoriali assolutamente più distretti più ristretti e per questo effettivamente governabili allora e avremo modo in quell'ambito di discutere concretamente non solo le caratteristiche di questa mia proposta ma le differenze fra azienda zero e la proposta appunto in parola ma io voglio dire una cosa vorrei condividere con i con i colleghi consiglieri che ancora mi diciamo mi onorano di un livello di attenzione di ascolto sufficiente vorrei dire che io adesso sto come dire veicolando questa proposta di legge sui territori negli ospedali con le con gli amministratori locali e sono io io stesso abbastanza sorpreso della unanimità di consensi che incontro da parte del personale sanitario tutto quando illustro questa questa proposta alternativa all'azienda zero perché chi sa di sanità ma soprattutto chi la sanità vive giornalmente accanto alle persone che stanno male a cui si cerca di offrire un supporto adeguato il diritto di concretizzare un diritto alla salute che del tutto o quasi del tutto scomparso in calabria è uno dei motivi e l'inaccessibilità degli ambiti di governo della sanità calabrese pensare di ulteriormente restringere quest'ambito di governo mi sembra assolutamente diciamo che non vada nella direzione dell'interesse del diritto alla salute ma in direzione ostinata e contraria come vuol dirsi per cui ecco ecco perché personalmente come gruppo e vado a concludere noi voteremo contro queste proposte diciamo di emendamento perché per votare anche contro una proposta di legge quello del dell'accorpamento dell'azienda unica regionale che vado davvero a concludere non solo non è neanche simile a quella da cui con ogni evidenza ha preso spunto cioè quella della della regione veneto ma se qualcuno si prende anche il fastidio per esempio di contattare sanitario amministratori marchigiani che hanno percorso la nostra stessa strada quella dell'accorpamento e adesso stanno ritornando indietro e quella è una regione che ci somiglia per caratteristiche in parte orografiche e diciamo e per altri motivi e allora forse si può effettivamente fare una riflessione e vedere se appunto io credo che la risposta sia no che se effettivamente l'azienda zero vada sia in linea con gli interessi della salute dei calabresi oppure no grazie grazie passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 è pervenuto l'emendamento protocollo 57 23 firma a firma del consigliere caputa qui cedo la parola per l'illustrazione prego consigliere caputo grazie presidente con l'emendamento si intende circoscrivere l'intervento abrogativo previsto dal prefatto articolo 1 della proposta legge alla parte finale della lettera d del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale numero 32 2021 la suddetta lettera di prevede infatti che tra le competenze di azienda zero rientri anche la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della gestione sanitaria accentrata e dei relativi allegati sui quali l'area sanità e sociale appone il visto di congruità la norma de qua è frutto di un refuso che tuttavia non concerne l'intero contenuto della lettera d ma è limitato soltanto alla parte finale della stessa grazie pongo in votazione all'emendamento parere della giunta favorevole parere del relatore favorevole è giunto un ulteriore emendamento da parte della consigliera bruni numero 5920 sempre sull'articolo 1 cedo la parola la consigliera bruni per l'illustrazione prego allora grazie siano presidente colleghi consiglieri stiamo prendendo atto comunque che il governo è vero che non ha impugnato l'azienda zero ma nel concreto ne ha modificato sei articoli e ne aggiunti altri due cioè penne blu voglio ricordare come già detto in dicembre che non potevamo accettare che una legge così importante che cambia l'equilibrio della nostra sanità calabrese non fosse valutata con attenzione con un adeguato confronto sebbene questa situazione della sanità richieda rapidità di azioni interventi bisogna essere certi e fare di tutto perché gli atti e le proposte siano formulati in maniera corretta senza introdurre fumosità interpretative che spesso hanno lasciato le aziende sanitarie in situazioni di grande difficoltà in generando comportamenti scorretti avevamo chiesto e suggerito al nostro presidente un atteggiamento prudente esternando la necessità di discussione con i sindacati collettività è un lavoro intenso da fare in commissione all'epoca non insediata ma ritenevamo che quella fosse la sede opportuna e attendere in questo caso si sarebbe prodotto in un vantaggio non in un rallentamento rallentamento che di fatto nei fatti oggi quindi oggi praticamente è stata ripresentata in commissione questa legge istitutiva ma la cosa grave che noi in commissione non abbiamo assolutamente avuto la documentazione inerente le osservazioni che il governo ha fatto privandoci della possibilità di studiare i singoli articoli in dettaglio ma signori consiglieri e presidente del consiglio e della giunta io devo stigmatizzare che la mancanza degli atti in commissione è grave è un interno delle commissioni e il lavoro di questa assise che viene svolto e quindi come vicepresidente e persona responsabile devo pretendere che il nostro lavoro sia messo nelle condizioni di essere sviluppato l'articolo e l'emendamento in questione riguarda esattamente la stessa articolazione che ha presentato caputo in quanto riguarda esattamente un emendamento che è stato fatto di fretta senza badare che è il termine sui quali l'area sanità e sociale appone il visto di congruità era relativo alla regione veneto grazie consigliera bruni fondo in votazione l'emendamento parere della giunta contrario a re del relatore contrario pongo in votazione l'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento è respinto pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso favorevoli contrari astenuti l'emendamento è approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti l'articolo 2 approvato articolo 4 favorevoli contrari astenuti l'articolo 3 approvato articolo 4 favorevoli contrari astenuti l'articolo 4 approvato articolo 5 favorevoli contrari astenuti l'articolo 5 approvato articolo 6 è pervenuto l'emendamento protocollo 57 61 a firma del consiglio della consigliere bruni a cui cedo la parola per l'illustrazione allora l'articolo che viene ad essere oggi abrogato nella legge preesistente inseriva un prima e un dopo cioè dal momento in cui evidentemente azienda zero comincia a funzionare si procede ma al momento in cui ancora azienda zero non ha preso le sue mosse è evidente che la sanità ha necessità di essere governata e quindi la sua ha necessità di continuare a funzionare questa abrogazione rischia di essere un problema enorme per le aziende sanitarie che si ritroveranno senza un referente per gli acquisti per i farmaci di prima emergenza per l'ossigeno per tutte le situazioni per le quali la sua è chiamata quindi su questo bisogna essere particolarmente seri il processo secondo cui azienda zero sta andando avanti sarà anche un processo rapido ma richiederà del tempo per implementare di risorse umane di organizzazione e il rischio che la regione calabria senza questo comma rischia di rimanere priva di un organo esecutore degli acquisti grazie parere dell'aggiunta contrario parere del relatore contrario ma anche perché nello spirito di novellazione della della legge quindi proprio onde evitare i dubbi interpretativi nascenti dal rinvio alla legge regionale istitutiva della sua votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento il respinto pongo in votazione all'articolo 6 nel suo complesso favorevoli contrari astenuti evidentemente approvato ripetiamo la votazione del l'emendamento 5723 a firma del consigliere caputo favorevoli contrari astenuti l'emendamento approvato pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso favorevoli contrari astenuti l'articolo 1 è approvato articolo 7 favorevoli contrari astenuti l'articolo 7 approvato articolo 8 favorevoli contrari astenuti l'articolo 8 approvato pongo in votazione la legge al suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale posto presidente grazie io volevo proporre all'aula l'introduzione di due proposte di legge la prima proposta legge numero 38 dodicesima legislatura recante interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali numero 996 numero 30 al 2015 8 2003 7 96 1 2006 32 2021 e 6 2021 e la seconda proposta di legge numero 40 recante integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004 numero 11 piano regionale della salute 2004 2006 grazie presidente poniamo in votazione l'inserimento della proposta di legge 38 dodicesima favorevoli contrari astenuti la proposta di legge inserita presidente chiedo scusa ma possiamo avere le copie della delle leggi della proposta di legge sono state distribuite presidente posso pongo in votazione l'inserimento della proposta di legge numero 38 dodicesima di iniziativa del consigliere caputo e cirillo favorevoli all'inserimento contrari astenuti la proposta di legge 38 dodicesima è inserita presidente chiedo di poter intervenire sul punto ma fare il punto quando quando c'è il punto interveniamo posso presidi consigliere neri prego grazie presidente chiedo l'inserimento all'ordine del giorno della proposta numero 41 avente titolo valorizzazione e gestione del patrimonio dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese così per come accennato in conferenza dei capi gruppi chiedo l'inserimento della proposta di legge numero 40 dodicesima favorevoli contrari astenuti la proposta è inserita presidente presidente l'inserimento alla proposta di legge numero 41 del consigliere neri favorevoli contrari astenuti la proposta 41 è inserita presidente chiedo scusa posso intervenire perché cosa deve intervenire chiedo sul merito delle richieste fatte perché credo che avevamo avevamo già più volte evidenziato la l'opportunità di evitare di portare in consiglio regionale proposte di legge non discusse nelle commissioni o nell'ufficio dei capoglupi una commissione capoglupo l'abbiamo detto più volte già in tante occasioni questa volta ancora si ripresenta questa prassi ormai consolidata che credo che non faccia bene al consiglio non aiuta le relazioni tra maggioranza e minoranza perché credo che ci sia anche bisogno di esaminare le proposte di capire c'è il parere legislativo se sono se sono urgenti indifferibili da portare in consiglio regionale cioè io credo che a questo punto noi chiediamo la verifica dei del numero legale scorso nei due terzi della del numero previsto per inserire all'ordine giorni con se ci fate la verifica e poi vi assumete la responsabilità cioè grazie consigliere la verifica la può fare è già stata fatta le le maggioranze ci sono in ogni caso è stata annunciata nella capigruppo quindi può chiedere al suo capogruppo l'abbiamo annunciato l'inserimento prego consigliere lo schiavo presidente io mi ha anticipato il consigliere bevacqua e quindi diciamo ripropongo lo stesso problema nel senso che noi abbiamo stabilito una metodologia che era una metodologia condivisa nel senso che su alcune questioni al di là delle appartenenze ci fosse un coinvolgimento dell'opposizione nella discussione delle proposte di legge ovviamente questo questo questa prassi di inserire le leggi anche nella capigruppo a poche ore dalla discussione in aula non ci consente di poter esaminare la legge e magari dare anche un giudizio positivo un giudizio costruttivo sulla stessa il punto è quello che ha appena detto il consigliere bevacqua bisogna capire come vogliamo continuare nei rapporti tra maggioranza e opposizione perché presidente da un lato si chiede il dialogo e la responsabilità però se questa diventa una prassi per cui all'ultimo momento si inseriscono proposte di legge per cui noi dobbiamo essere dei passacarte a questo punto presidente io penso che il ruolo dell'opposizione svileto e quando lo dice uno che per un clima assolutamente costruttivo però se non si mette un limite o un freno a questa prassi noi ci troveremo cinque anni per cui noi veniamo qui a scaldare solamente la sedia io queste leggi le volevo studiare capire avere il tempo per metabolizzare naturalmente avete i numeri ma questo non significa potere come dire e chiedere la responsabilità su alcune cose poi dall'altro prenderci diciamo come dire a schiaffoni in faccia quindi richiamo l'attenzione dei consiglieri maggioranza non tanto e non oggi ma proprio per una prassi anche nel futuro e cioè la metodologia bisogna capire se deve essere condivisa o se dobbiamo cominciare a fare un muro contro muro che a mio avviso è sterile e non aiuti il consiglio regionale presidente consigliere che non sono presidente prego consigliere a legge cioè io aggiungo solamente che a me le leggi sono arrivati in mano successivamente alla votazione allora io voglio dire il consiglio regionale anche una forma che è sostanza quindi non si può portare in votazione una proposta di legge che arriva nelle mani dei consiglieri successivamente alla votazione stessa e poi vorrei ricordare che siamo in streaming in questo momento ci stanno osservando parecchi calabresi e dovremmo dare un'immagine diversa del consiglio regionale che dà l'opportunità di discutere di alcune proposte di legge nello spirito costruttivo e di poterle votare successivamente anche a favore quando c'è una condivisione ma il fatto che arrivino nelle mani dei consiglieri successivamente alla votazione un fatto censurabile che mi spingerebbe ad abbandonare l'aula non è questa l'immagine che bisogna dare del consiglio regionale di fronte calabrese in questo momento ci stanno seguendo quindi credo che sia grave ciò che è avvenuto magari è una consuetudine in questo consiglio regionale ma il fatto che sia una consuetudine non significa che sia giusto quindi mi auguro che per il prossimo futuro le cose vadano in maniera del tutto differente grazie certo non sarà questo l'abitudine se viene presentata una legge prima del consiglio durante il consiglio perché c'è viene stabilita e viene determinato che c'è un urgenza in ogni caso l'opportunità in ogni caso lei non ha votato lei non ha votato non è stata chiesta la votazione della legge ma soltanto il suo inserimento all'ordine del giorno consigliere graziano prego anche se potrebbe essere anche superfluo quello che devo dire perché lei è stato così l'ha detto in modo molto chiaro non stiamo facendo alcuna violazione di regolamenti e ne c'è da 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 dire questo insomma io non ho capito veramente qual è il motivo del contendere oggettivamente con tutta la la collaborazione e il proficuo lavoro che stiamo facendo il consiglio e che credo debba continuare per l'intera legislatura però dobbiamo essere anche un po più sereni nelle cose ed essere anche un po più precisi perché mi sa che non siamo non lo siamo poi la dialettica politica ci sta per l'amor del cielo siamo qua c'è una maggioranza sono le opposizioni quindi si accetta tutto per l'amor del cielo però credo che alcune cose vadano messe anche nel canale giusto che quello anche che il presidente ha detto innanzitutto che vorrebbe dire il vostro ragionamento che voi non presenterete mai per cinque anni una mozione o un ordine del giorno in questo consiglio regionale comunemente sono state sempre presentate anche delle minoranze non a caso non a caso è previsto che per poter inserire un punto all'ordine del giorno c'è bisogno dei due terzi dell'aula in questo caso quindi è previsto dai regolamenti non è che una cosa che stiamo sentito dire c'è un accordo fra i capigruppo un accordo che non esiste perché ci sono dei regolamenti che prevedono il funzionario del consiglio ed è previsto che con i due terzi dell'aula si possono inserire punti all'ordine del giorno che quello che è stato poc'anzi fatto fra l'altro lo ricorda gli intervenuti come è stato prima anche già sottolineato che non sono capigruppo che fra l'altro in aggiunta il presidente di questa assise ha voluto comunque che di queste due proposte se ne parlasse anche nella conferenza dei capigruppo della quale se neanche accennato oggi prima della conferenza capigruppo faccio presente altre sì che non sono tre ore consigliera leggi che questa legge di manutenzione è depositata agli atti del consiglio da nove giorni non è stata depositata tre ore fa è depositata come proposta di legge dalla settimana scorsa quindi c'è stato tutto il tempo possibile in immaginabile per poterli io sono diligentemente ogni giorno vado a vedere cosa si presenta allora è un consiglio regionale e questo visto che è stata presentata nove giorni fa di cosa stiamo parlando poi nel merito ne discuteremo successivamente è evidente che in questa legge di manutenzione ci sono dei provvedimenti che necessitano urgenza per il funzionamento di alcune organismi basilari del governo regionale a partire dall'azienda zero per finire ad altri uffici di cui per cui serve tenuto di anticipare oggi la presentazione in aula per l'urgenza dei temi che andremo a trattare dell'articolato che andremo a trattare poi ve ne renderete conto se non l'avete fatto quando discuteremo della legge vi oppure quindi vi invito ad essere un po più sereni dialettica si ma nei giusti termini grazie grazie consigliere graziano proseguiamo con il quinto punto all'ordine del giorno riguardante lo svolgimento interpellanza ex articolo 120 del regolamento interno del consiglio regionale ricordo all'aula che ai sensi dell'articolo 120 del regolamento interno che ha presentato un'interpellanza il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e dopo le dichiarazioni della giunta di esporre per non più di tre minuti le regioni per le quali egli si ritengo meno soddisfatto in quest'ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione presidente chiedo scusa prima di andare avanti con l'ordine del giorno presidente mi permetto di ribadire la di ribadire un concetto che abbiamo già espresso in tanti della 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 mia chiedo scusa presidente è importante se voi avete inserito ma voi avete inserito a intervenire dopo può intervenire dopo adesso abbiamo iniziato l'ordine del giorno abbiamo fatto la prego consiglio no no la prego la prima interpellanza della presidenza a firma del consigliere davanti ampliamento e utilizzo al servizio del circuito pubblico della discarica dei rifiuti speciali non pericolosi località più pieno del comune di scalacelli cedo la parola proponente per lo svolgimento dell'interpellanza un attimo che la e che se l'interpellanza mi presidente può procedere un secondo sulla seconda che nel frattempo poi trovo la mia ma l'ho trovata lo trovo è solo una cosa presente mancuso nell'introduzione oggi abbiamo dato una bella dimostrazione del lavoro che stiamo facendo insieme ci perdiamo in un bicchiere d'acqua giustamente i colleghi consiglieri ma anche non è bello che arrivino soprattutto l'ultima neri orso diciamo dopo averla votata cerchiamo di fare per i prossimi lavori diciamo qualcosa di più pulito di più lineare perché nella prima conferenza di capigruppo del 9 febbraio noi avevamo un solo punto all'ordine del giorno lei se lo ricorda bene che era la stata la 106 quindi è normale noi il capogruppo io laghi bruni hirto l'abbiamo scoperto due ore fa che c'era a letto cioè non si lavora secondo me così le rispondo le ho fatto inserire la risoluzione del pd e non era protocollato fatto inserire la mozione della della collega bruni e non era protocollata penso che ci sia disponibilità poi se cerchiamo il pelo nell'uovo io sono disponibile se abbiamo violato il regolamento infatti quello che dovete fare quello che è giusto presente una non ho mi sono perso però non facciamo no però io se no non riusciamo andare avanti non ho capito l'inserimento l'inserimento delle due proposte è stato già votato non ho capito inserimento è stato passato già votato l'inserimento è stato inserimento nella discussione odierna quindi con i due terzi è stato già votato il dato odierna ok non c'è stata la possibilità anche per verificare il numero legale io oggettivamente c'è stata anche un'accelerazione legale poi il presidente stia tranquillo se non se non è lei faccia quello che è ovviamente che chiedore la verifica non vogliamo un dibattito mi dispiace io la rispetto molto nel ruolo però chiedo che venga rispettato anche il consigliere presidente perché è un inserimento di una mozione di interpellanza non è la stessa cosa dell'inserimento di una proposta di legge presidente prego procedo alla mia interpellanza oggetto ampliamente utilizzo al servizio del circuito pubblico della discarica di rifiuti speciali non pericolosi località pipino nel comune di scalaceri provincia di cosenza al presidente della giunta regionale premesso che la legge regionale 11 agosto 2014 numero 14 riordino del sistema di gestione dei rifiuti in calabria ha disciplinato l'organizzazione lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati nella regione calabria con deliberazione del consiglio regionale numero 156 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti in relazione alla governance del sistema in conformità alla normativa nazionale regionale il prgr conferma la competenza degli enti locali in materia di gestione del cito del ciclo integrato dei rifiuti provvedendo l'organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali pato coincidenti con le cinque province calabresi con deliberazione della giunta regionale numero 340 del 2 novembre 2020 sono state approvate le linee di indirizzo per l'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale numero 156 del 19 dicembre 2016 nel documento allegato alla deliberazione parte integrante della stessa si precisa la necessità di prevedere il graduale alzeramento del fabbisogno di conferimento in discarica il decreto legislativo 3 settembre 2020 numero 121 di recepimento della direttiva 2018 850 dell'unione europea che modifica la direttiva 1999 31 relativa alle discariche di rifiuti stabilisce gli obiettivi per la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti in particolare di quelli idoni al riciclaggio o al recupero di altro tipo al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare in particolare l'obiettivo di scarica e zero deve essere perseguito dalle regioni conformando la propria pianificazione predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 al fine di garantire che entro il 2030 i rifiuti urbani idoni al riciclaggio al recupero di altro tipo non vengono collocati più in discarica e che è che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica si è ridotto almeno al 10 per cento del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti nelle linee programmatiche del programma di governo approvato nel consiglio regionale del 14 dicembre 2021 si può leggere in calabria il 50 per cento dei rifiuti urbani prodotti è destinata alle discariche mentre in regione lombardia la percentuale non supera il 4 per cento l'emergenza impone di elaborare un modello di intervento sostenibile economicamente e tecnicamente al fine di adeguarsi all'attuazione dei programmi comunitari di economia circolare nonché per avere uno strumento di pianificazione in grado di accedere ai finanziamenti comunitari nel ciclo di programmazione 2021 2027 occorre rivedere e migliorare l'offerta impiantistica prevista nel piano del 2016 prevedendo l'utilizzo di tecnologie innovative e intervenendo principalmente sulle modalità di gestione degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento del rifiuto urbano con l'obiettivo di azzerare il ricorso allo smaltimento in discarica l'obiettivo finale nell'arco di cinque anni è l'azzeramento del fabbisogno di conferimento in discarica e la completa chiusura dei siti attualmente esistenti in calabria con il decreto dirigenziale del dipartimento ambiente della regione calabria protocollo 41 80 del 29 marzo 2010 viene rilasciata autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi località pipino del comune di scalaceli alla società privata bieco srl con capacità di abbanco di metri cubi 93 mila le condizioni aia allegrate al decreto di autorizzazione prescrivono in relazione ad eventuali aree demaniali interessate dall'intervento preliminarmente alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto vengono attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative per l'acquisizione delle stesse aree o per le necessarie concessioni la discarica entra in esercizio anche se le aste demaniali occupate non sono state ancora sdemanializzate come da nota del 14 gennaio 2019 dell'agenzia del demanio indirizzata alla regione calabria dipartimento ambiente territorio nella nota si ribadisce che a prescindere dalla procedura di sdemanializzazione l'utilizzo sine titolo di aree demaniali costituisce ipotesi di occupazione abusiva per il quale devono essere adottati i dovuti provvedimenti del competente organo gestore nel rispetto della normativa vigente la discarica è stata realizzata nel territorio del comune di scala cieli inserito nell'elenchio delle aree di vocazione turistica e agricola e nel consorzio di tutelia del marchio dopo bruzio menzione geografica colline ioniche presilane tra vigneti arancetti ed ulivetti coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica e dove resistono ancora gli ultimi allevamenti estentivi di razza podolica il tutto a pochi passi da torrenti affluenti del fiume nicà che tracciando il confine tra le province di cosenza e crotone va a sfociare nel mare ionio fra i comuni di cariati e crugoli torretta con nota del 18 dicembre 2018 il presidente dell'atto cosenza chiedeva la disponibilità del gestore della discarica a rendere disponibile parte della volumetria per lo smaltimento dei risultati derivanti dal circuito pubblico stante la perenne situazione emergenziale del lato della provincia di cosenza sul sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti la richiesta viene reiterata giorno 11 marzo 2020 quando il presidente dell'atto cosenza chiedeva di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e di comunicare la data a partire dalla quale la discarica potrà essere posta al servizio del circuito pubblico di gestione dei rifiuti urbani tale richiesta non è mai stata deliberata o discussa dagli organi di governo dello stesso dato cosenza quindi ho formulo questa interpellanza per sapere se quanto sopraesposto e coerente con l'indirizzo e programma di governo che prevede l'azzeramento del fabbisogno di conferimento in discarica nell'arco di cinque anni e la completa chiusura dei siti attualmente esistenti in calabria punto 2 quali iniziative intende assumere per affrontare in modo radicale la problematica della gestione dei rifiuti nella nostra regione e con riguardo all'ampliamento della discarica di rifiuti in località pipino per tutelare la salute dei cittadini l'importante economia agricola di qualità e la vocazione turistica del territorio di scalaceli messi a rischio dell'eventuale uso della discarica per il circuito pubblico di gestione dei rifiuti come prespettato il rappresentante della tocco senza punto 3 quali iniziative intende assumere per risolvere la disastrata situazione gestionale in cui versa lato cosenza il cui presidente invece di rivolgersi al privato prospettando soluzioni anacronistiche non concordate dannose per l'ambiente dovrebbe occuparsi di redigere il piano d'ambito che coinvolge il 150 comuni delle sei aro le aree di raccolta ottimali per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti dalla provincia di cosenza in breve quindi presidente mancuso voglio sapere come la regione calabria nello specifico la giunta si stia impegnando sul ciclo dei rifiuti in calabria e voglio ricordare soprattutto al presidente occhiuto che nelle linee programmatiche questa giunta si impegnava ad andare ad andare verso discariche zero entro la fine dei cinque anni di mandato mentre oggi c'è la possibilità invece nel 2022 in calabria nello specifico a scala celle di riaprire nuovi nuove discariche grazie cedo la parola all'aggiunta per le proprie dichiarazioni assessore princi prego buonasera grazie presidente mancuso saluto tutti i componenti di questa assise e la la discarica oggetto dell'interpellanza site località pipino del comune di scala coeli è stata autorizzata con ddg numero 4.180 del 29 tra il 2010 per una volumetria di 93 mila metri cubi proponente gestore vieco srl successivamente al rilascio dell'autorizzazione detto impianto ha riscontrato forti opposizioni da parti di alcune forum ambientalisti locali e dal comune di scala per il presupposto che i terreni limitrofi alla discarica rientrano in zona copertica e coperta dal marchio dop dop bruzio e colline ioniche presilane appartenenti al consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine dopo bruzio in conseguenza di ciò è sorta l'esigenza di conoscere le caratteristiche proprie del luogo di ubicazione dell'impianto per poter compiere le valutazioni previste dal capo 2.1 del decreto legislativo 36 2003 in materia di localizzazione degli impianti di discarica di rifiuti pericolosi e non pertanto il dipartimento ha effettuato le valutazioni previste ai sensi del decreto legislativo 36 2003 la questione è stata definitivamente chiarita non essendo l'area della discarica in parola direttamente interessata da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità o da produzione agroalimentare certificata la stessa è stata ritenuta non soggetta all'applicazione della succitata legge una volta che la volumetria autorizzata con ddg numero 4.180 del 29 3 2010 si esaurita nel dicembre 2016 la ditta bieco srl ha presentato istanza di via per il progetto di ampliamento della discarica in oggetto relativa alla costruzione di un nuovo bacino di discarica in area limitrofa quello esistente per un volume complessivo di un milione 172 500 metri cubi diviso in tre lotti effettuati gli adempimenti di leggi proprie del procedimento la bieco sul presupposto del decorso dei termini del procedimento ha proposto ricorso dinanzi al tar calabria per far accertare l'illegittimità del silenzio osservato dall'amministrazione sull'istanza e l'eventuale nomina del commissario ad acta il giudice preposto con sentenza numero 1706 del 9 novembre 2017 ha dato termini 45 giorni all'amministrazione per la conclusione del procedimento provvedendo contestualmente alla nomina del commissario ad acta nella persona del prefetto di catanzaro nel caso di prosecuzione dell'inerzia della pubblica amministrazione con ordinanza tar numero 1832 del novembre 2017 il prefetto di catanzaro è stato sostituito con il prefetto di cosenza e quest'ultimo con proprio provvedimento del 12 marzo 2018 ha designato il dottor antonio infantino dirigente del comune di rende a seguito della nomina il dottore infantino attivato il procedimento avvalendosi della struttura tecnica di valutazione del dipartimento per l'istruttoria tecnica del progetto nonché convocato alla conferenza di servizi prevista per legge per il coinvolgimento degli enti competenti nel corso dei lavori della conferenza stante il parevole favorevole di via aia protocollo del 2018 espresso dalla struttura tecnica di valutazione di altri eventi la ditta chiedeva di poter riformulare il progetto al fine di superare le criticità segnalate nel parere della struttura tecnica la conferenza nulla osservava in merito il progetto rimodulato presentato nella società prevede un abbanco di 650 mila metri cubi su tale progetto è stato rilasciato il parere viaia favorevole e con protocollo numero 2.918 del 24 gennaio 2019 ferme restando le valutazioni degli altri enti sugli aspetti di competenza il 29 gennaio 2019 il commissario ad acta dottore infantino ha rimesso l'incarico attribuitili ed è stato attribuito gli ed è stato nominato l'architetto l'architetto giuseppe bruno dirigente del costo del comune di cosenza in data 10 6 2019 si è tenuta l'ultima seduta di conferenza nel corso della quale è stata assunta la determinazione conclusiva di approvazione del progetto è il commissario ad acta ha emesso il decreto numero 1 2019 con il quale ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per il progetto di ampliamento della discarica in parola con la predetta autorizzazione integrata ambientale in accoglimento della richiesta presentata dalla vieco srl in data 4 gennaio 2019 unitamente al progetto rimodulato è stato concessa alla società proponente per la stessa durata dell'aia e nelle more della procedura di sdemanializzazione l'utilizzo delle aree censite come demaniale all'interno delle particelle 51 52 il concessionario vabbè mi lascio tutto ciò che riportato in parentesi avverso il provvedimento del commissario ad acta decreto regionale del mille del 2019 hanno proposto ricorso l'agenzia del demanio e l'associazione e lega ambiente la suscitata associazione altresì presentato una segnalazione nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per effettuare accertamenti con decreto del presidente numero 143 del 26 3 2020 e successiva ordinanza collegiale numero 214 2020 il tal calabria ha sospeso in via cautelare l'efficacia del provvedimento via e aia rilasciato dal commissario ad acta e la ditta ha comunicato di aver sospeso ogni attività l'indomani della ricezione della pronuncia in data 8 febbraio 2021 il commissario ad acta ha emanato il decreto numero 1162 2021 con il quale ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza richiesti dalla ditta che escudevano interventi suare demaniali nonché avviato il procedimento di riesame del decreto 1484 del 2019 la ditta ha comunicato l'avvio degli interventi urgenti autorizzati a far data dal 15 febbraio 2021 con sentenza numero 1547 del 2021 emesse in data 29 7 2021 il tar calabria ha dichiarato improcedibile ricorso all'agenzia del demanio in forza di tale pronuncia la ditta ha ripreso le attività afferenti il progetto autorizzato e ha chiesto l'autorizzazione ad una modifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo per il relativo aggiornamento alla luce delle nuove sopravvenienze normative in materia tale modifica è stata valutata dalla struttura tecnica nella seduta del 29 9 2021 al fine di dare risposta ai quesiti proposti con l'interpellanza emarginata si evidenza che il procedimento di approvazione del progetto di ampliamento e di rilascio della relativa autorizzazione è stato nella titolarità di un commissario ad acta designato con pronuncia del tar calabria e che questi ha svolto tutte le attività inerenti il suo mandato avvalendosi del supporto tecnico della struttura che ha valutato il progetto presentato dopo la rimodulazione in negativo effettuata dalla ditta sul progetto originariamente presentato in definitiva esprimendosi favorevolmente all'approvazione in quanto superate tutte le criticità riscontrate e rilievi tecnici in termini di valutazione ambientale prevedendo in ogni caso specifiche prescrizioni tanto si doveva grazie grazie presidente posso prego tre minuti grazie e chiedo poi una copia per favore della risposta del vicepresidente e consiglieri di maggioranza non so se avete ben ascoltato la risposta del vicepresidente princi abbiamo una novità nel 2022 questa maggioranza che ha iniziato questa questo mandato dicendo che era a favore di discariche 0 di un dei rifiuti 0 di termo valorizzatori di non ampliare nuove discariche ho appena ascoltato nella risposta del vicepresidente pinci che si dà parere favorevole nella provincia di cosenza nello specifico del comune di scalacelli a l'ampliamento quindi all'apertura di una nuova discarica di rifiuti non speciali questo è bene che lo si sappia perché assessore gallo anche lei diciamo questo è un elemento di novità perché qua di mattina diciamo facciamo tutte le belle parole discariche 0 ambiente agricoltura è il pomeriggio poi si aprono le discariche è giusto che io ne prendo atto poi mi muoverò di conseguenza sul mio territorio però mi fa piacere che avete cambiato idea la mia idea è completamente assolutamente diversa rispetto alla riapertura o addirittura all'ampiamento nel 2022 di nuove discariche ed era quello che comunque aveva detto anche il presidente occhiuto all'inizio del suo mandato ma mi dispiace veramente recepire che si sta andando in una direzione totalmente opposta rispetto a quelle delle altre regioni italiane ma rispetto al resto d'europa grazie presidente grazie passiamo all'interpellanza numero 3 del dodicesima firma dei consiglieri irte mammoliti recante svolgimento all'attività lavorativa e modalità agile presso gli uffici regionali e controllo applicazione regole anti contagio c'è la parola proponente per lo svolgimento dell'interpellanza il tom ha moliti sì buonasera grazie presidente noi abbiamo presentato questa interpellanza perché a nostro avviso bisogna diciamo rispetto ai temi che puniamo evidenziare una possibile coerenza con l'indirizzo politico e con il programma di governo c'è non si può assumere come elemento di riferimento della propria azione politica un orizzonte che io avevo anche debbo dire la verità salutato con molto favore per esempio rispetto all'approccio ai contenuti nella relazione programmatica del presidente occhiuto in merito all'innovazione tecnologica alla digitalizzazione alla efficienza alla funzionalità della pubblica amministrazione a quelle che tutti quanti chiamiamo rivoluzione digitale della pubblica amministrazione e poi però oggettivamente no ecco le ragioni di questa interpellanza constatare sostanzialmente che nelle scelte che il governo regionale ha fatto non ha aiutato non ha favorito questa opportunità questa possibilità è vero che c'è un provvedimento del governo nazionale che prevede il ritorno di in presenza dei lavoratori ma è altrettanto vero però che nello stesso provvedimento si dice che le regioni possano valutare naturalmente anche l'utilizzo di questi strumenti proprio per fare fronte diciamo all'andamento pandemico che si è sviluppato con questa cosiddetta quarta ondata e che fa vedere che la nostra regione è una diciamo delle prime nel paese noi sei dati diciamo sono veri e penso di sì ci dicono molto chiaramente che alla calabria siamo la quarta regione per diffusione per ricoverati diciamo nei posti di terapia intensiva in aria in aria e in aria medica e allora non abbiamo compreso perché nonostante in alcuni diciamo settori importanti penso nei centri per l'impiego per esempio si sono si siano verificati dei contagi le organizzazioni sindacali e in modo particolare debbo dire in questo caso la categoria della funzione pubblica della cgl calabria aveva anche avanzato delle esplicite richieste proprio per contrastare diciamo per fermare la diffusione di questo fenomeno quindi a sostegno della salute di certamente dei lavoratori ma anche degli utenti che soffriscono diciamo del servizio ecco abbiamo visto purtroppo che non si è realizzata questa opportunità questa scelta nel mentre magari in alcuni dipartimenti in alcuni settori regionali si stava valutando la determinazione in questa in questa direzione quindi evidenziando anche una certa discrasia non una omogeneità di comportamento diciamo quindi per questa per questa ragione abbiamo presentato questa interpellanza è per chiedere appunto come dire non solo di dare coerenza con il programma di lavoro che il presidente occhiuto ha illustrato sin diciamo dall insediamento ma soprattutto per cercare di avere un indirizzo omogeneo comune in tutto i settori diciamo della macchina burocratica regionale non soltanto in alcune quindi riteniamo che sia giusto e concludo che la regione diciamo chi di competenza si attivi per avere questo indirizzo di programmazione che è finalizzato diciamo in modo da garantire questa modalità agile per tutti gli uffici pubblici regionali sia nel rispetto delle regole vigenti che sulla base delle effettive necessità tutto questo e concludo come sapete ci consente di coniugare sia l'operatività e quindi di continuare a garantire la qualità dei servizi ma soprattutto che non è secondario ci consente anche di garantire la tutela del diritto alla sicurezza sia per i lavoratori che per gli utenti grazie la parola all'assessore pietro paolo sì grazie presidente signori consiglieri consigliere mammoliti abbiamo ricevuto la sua interpellanza l'abbiamo verificata con attenzione ci sono degli argomenti che riguardano anche l'assessorato al lavoro ma io rispondo anche per conto della dell'assessore princi riguardo alle tematiche che riguardano principalmente i centri per l'impiego ma vorrei rispondere anche in maniera esaustiva in generale sul tema che lei ha evidenziato con la circolare 44 14 71 del 13 ottobre 21 che è disponibile ovviamente presso gli atti della giunta il dirigente generale reggente del dipartimento organizzazione risorse umane ha provveduto a prendere atto del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 settembre 21 e del successivo decreto del ministro della pubblica amministrazione dell'8 ottobre 21 che hanno stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 21 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza detta circolare tuttavia chiarisce in applicazione del dpcm e del dm le condizionalità necessarie per l'autorizzazione del lavoro agile nell'ambito della giunta regionale l'attivazione del lavoro agile ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto del ministro della pubblica amministrazione 8 ottobre 21 è rimessa ai dirigenti di livello non generale i dirigenti di settore o delle unità operative autonome la successiva circolare dei ministri della pubblica amministrazione del lavoro delle politiche sociali del 5 gennaio 2022 non ha innovato la disciplina del lavoro agile pertanto al momento allo stato presso gli uffici della giunta regionale i dirigenti non apicali possono autorizzare il lavoro agile alla luce di quanto esplicitato detto ciò però è anche vero che c'è la diciamo la possibilità che di uno svolgimento del lavoro agile anche successivamente alla cessazione nella fase emergenziale che speriamo tutti avvenga il 31 marzo prossimo la legge 7 agosto 2015 numero 124 l'articolo 14 che riguarda la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche conferisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di adottare il programma organizzativo del lavoro agile denominato pola ora questo programma questa modalità di organizzazione del lavoro relativa anche alle esigenze legate al contesto necessita di una preventiva valutazione degli obiettivi che possono essere raggiunti attraverso attività smartizzabili quindi bisogna fare una valutazione preliminare il pola è uno strumento di programmazione come tale siamo ci accingiamo a predisporre questo programma che verrà ovviamente reso noto e concordato anche con le forze sindacali e con a cui è stato affidato il termine di adozione entro il 30 aprile prossimo detto ciò consigliere maumoliti è vero che quello che lei dice riguarda i centri per l'impiego e diciamo accoglibile nel senso che secondo me l'assessore al lavoro sicuramente sta lavorando per predisponendo per effettuare quello che è previsto nel piano di potenziamento dei centri per l'impiego come lei sa soprattutto nei centri per l'impiego a maggior ragione perché sono uffici periferici quindi di con accesso al pubblico contrariamente a molti uffici della cittadella diciamo regionale per attivare il lavoro agile presso i centri per l'impiego è necessario avere una dotazione informatica e diciamo di strumenti applicativi e piattaforme tali da poter consentire comunque anche a distanza terramoto dare moto l'approccio è la del cittadino al centro per l'impiego e questo è in corso di realizzazione attraverso proprio il piano di potenziamento che prevede anche una dotazione finanziaria non indifferente per poter dotare la regione degli strumenti utili a che questo obiettivo venga raggiunto nei tempi più celeri possibili grazie grazie consigliere mammoliti vuole replicare tre minuti o quale tre minuti per di me no io avevo già naturalmente assessore detto che questo provvedimento legislativo nazionale in effetti ripristinare diciamo l'attività lavorativa di presenza pur tuttavia avevo inserito questo elemento che credo sia diciamo oggetto mi auguro di una valutazione anche se stiamo arrivando quasi alla fine il 31 marzo cessa diciamo lo stato di emergenza però ecco come diceva lei io apprezzo questo sforzo che si sta facendo per questo nuovo programma questa nuova modalità perché nonostante la conclusione dello stato di emergenza credo che declinare i processi di digitalizzazione di funzionamento della pubblica amministrazione non esimono diciamo la nostra regione dal poter anche successivamente allo stato di emergenza proseguire con questa modalità operativa di lavoro che consente diciamo di gestire con un governo oculato e flessibile una presenza diciamo effettiva nei luoghi di lavoro è una presenza con altre modalità tipo quella agile che consentono appunto di continuare ad offrire l'efficienza e la funzionalità dei servizi alla pubblica amministrazione naturalmente io avrei preferito e lo dico non perché mi interessa mi interessi fare polemica perché lungi da me però è chiaro che in questo frangente avendo purtroppo questi dati epidemiologici così notevoli per la calabria forse diciamo qualche maggiore azione per consentire questa modalità operativa di lavoro sarebbe stata forse più giusta e opportuna grazie grazie consigliere mammoletti passiamo al punto se all'ordine del giorno che riguarda lo svolgimento interrogazione x articolo 121 e 122 del regolamento interno del consiglio regionale in relazione alle interrogazioni x articolo 121 del regolamento interno ricordo all'aula che è ascoltata la risposta della giunta l'interrogante ha diritto di replicare per non più di tre minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto per l'interrogazione x articolo 122 del regolamento interno ricordo all'aula che l'interrogante dispone i due minuti per illustrare l'interrogazione la giunta regionale dispone i tre minuti per la risposta l'interrogante diritto di repoca per non più di un minuto iniziamo con l'interrogazione risposta scritta la prima è l'interrogazione numero uno dodicesima firma il consigliere mammoliti sul passaggio della maggioranza delle quote sacale in mano ai privati cedo la parola al presidente della giunta occhiuto grazie presidente beh l'interrogante onorevole mammoliti nella sua interrogazione fa riferimento ad una questione più volte discussa anche all'interno del consiglio regionale mi riferisco alla questione saccar come ho già avuto modo di evidenziare in altre occasioni questa vicende è stata sollevata dal sottoscritto cioè nel senso che il socio privato in sacra l'ha inteso acquisire la maggioranza assoluta delle quote sociali da lì in poi è intervenuta una procedura di revoca della concessione da parte di enac per evitare sostanzialmente che ci potessi potesse potesse determinare una paralisi agli scali aeroportuali la regione ha manifestato l'interesse ad acquisire la totalità delle quote del socio privato rispondo all'interrogazione che mi rivolge onorevole mammoliti per dare un'informativa al consiglio in ordine al fatto che la trattativa col socio privato è una trattativa che è in una fase molto avanzata nel senso che come sapete il socio privato a quote sociali che al valore nominale andrebbero quantificate in 12 milioni e 400 mila euro la regione ha fatto sapere che non intende acquisire le quote al valore nominale ma vuole acquisire da un valore inferiore a quello nominale c'è una condivisione che ormai si è costruita in ordine al quantum come potete immaginare ci sono però anche altre questioni che sono di dettaglio rispetto al prezzo ma che poi sono sostanziali mi spiego meglio se domani noi acquisissimo le quote lo dovremmo fare ragione di un contratto tra la regione o una società della regione segnatamente potrebbe essere fin calabra è il socio privato ma questo contratto sarebbe sottoposto anche come dire alla possibilità di esercitare il diritto di opzione da parte degli altri soci si sarebbe da stabilire quale deve essere la governance della società fin tanto che la regione o la società che acquisisce le quote non le acquisisce direttamente in assemblea pur avendo stipulato un contratto che mi mi auguro venga stipulato al più presto quindi sono tutte queste questioni che che di dettaglio proprio non sono e che si stanno come dire sciogliendo proprio in queste ore il mio auspicio è che si possa a divenire alla conclusione della trattativa nei prossimi giorni probabilmente nella prima parte insomma di questa settimana da lì in poi il consiglio sarà sarà chiamato anche a ragionare col governo regionale in ordine alla prospettiva di sviluppo degli scali aeroportuali per inciso vi informo che ho già avviato una serie di incontri e col presidente lena che col la d di ita e aventi ad oggetto le misure che si possono porre in essere per sviluppare gli scali aeroportuali dico gli scali aeroportuali perché noi ne abbiamo uno quello di ramezia che funziona e che ha come dire flussi passeggeri tali da tenerlo in equilibrio o dal punto di vista economico ne abbiamo altri due reggio ancora più di reggio crotone che invece hanno conti economici più complicati all'amministratore delegato di ita ho chiesto di sospendere e di valutare la sospensione di decisioni che già ita aveva assunto in ordine alla cancellazione di alcuni voli da reggio per milano e abbiamo ragionato anche sulle prospettive di sviluppo dello scalo aeroportuale di reggio calabria con enac abbiamo ragionato sulla possibilità di rimuovere le limitazioni che impediscono di fatto alle compagnie low cost di volare sul reggio c'è un'interlocuzione con enac e anche con enab per rimuovere queste limitazioni che consentirebbero appunto allo scalo di reggio di accogliere anche voli delle compagnie low cost con crotone stiamo ragionando con enac per inserire l'aeroporto di crotone fra gli aeroporti enac magari come rapporto di servizio per ita o come aeroporti da destinare all'aviazione civile anche lì si tratta di individuare per crotone una vocazione per lo scalo di crotone più difficile più complessa perché i flussi a crotone sono persino inferiori a quelli che ci sono sul reggio sul reggio l'obiettivo è quello di attrarre anche l'utenza della sicilia orientale c'è tutta la parte della provincia di messina che se noi la rendessimo più prossima allo scalo aeroportuale magari attraverso collegamenti veloci con aliscafo anche a cura della società di gestione potrebbe avere interesse a volare sul reggio più che su catania dove come sapete anche a causa dell'etna si vola un giorno l'altro no nonostante questo vi vorrei segnalare che l'aeroporto di catania è tra i cinque aeroporti migliori d'italia per numero di passeggeri quindi significa quando la gestione viene fatta in maniera oculata anche ostacoli che altrimenti sarebbero di pregiudizio per la efficienza degli scali aeroportuali vengono superati quindi ho fiducia nel fatto che si possa a divenire alla conclusione della trattativa l'interrogante poi pone anche altre questioni in ordine alle responsabilità dei soci privati l'enac come sapete l'organismo di vigilanza in alcune lettere che l'enac ha fatto si rappresenta anche da parte di enac un l'intenzione di investire delle vicende altre autorità anche autorità giudiziarie per cui credo che su questa vicenda tutti quelli che sono deputati ad esercitare un controllo questo controllo lo stiano esercitando nel modo più opportuno possibile a noi il compito invece di governare il processo evitando che gli scali aeroportuali entrino in crisi e dando continuità appunto alla gestione di questi scali anzi migliorando neanche le performance grazie presidente prego un minuto consigliere mammoletto sì io grazie presidente ringrazio il presidente occhiuto per per l'attenzione diciamo e anche per le motivazioni sempre di merito e abbastanza appropriate che fornisce poi naturalmente alla dialettica il confronto ci potrebbe anche magari portare a valutazioni divergenti però converrà presidente che un asset strategico fondamentale come quello del sistema repertuale calabrese non è altra cosa rispetto a quello che abbiamo approvato oggi della statale 106 che è un'arteria strategica fondamentale non soltanto di valenza regionale come precedentemente è stato detto ma di valenza diciamo meridionale io dico dell'intero dell'intero paese e quindi credo che il presidente lo dico con questo spirito diciamo propositivo collaborativo valuterà e converrà che definire e dare la possibilità di una programmazione di una pianificazione sul sistema repertuale calabrese con le ragioni e le motivazioni che il presidente forniva è un elemento sostanziale fondamentale non solo per avere l'esegibilità del diritto alla mobilità della nostra regione e quindi dei cittadini calabresi ma anche per consentire al tessuto produttivo calabrese di essere collegato con il resto del mondo perché noi agiamo nel più grande mercato unico al mondo siamo nel cuore del mediterraneo e per questa ragione questo asset fondamentale secondo me richiede presidente l'impegno e l'attenzione necessaria che lei ha manifestato io convengo con le riflessioni anche di cautela di responsabilità con cui sta procedendo certamente la la trattativa però è chiaro che la nostra preoccupazione la mia preoccupazione che coglieva anche alcuni gridi di preoccupazione di allarme manifestata dalle forze sociali non solo per le problematiche relative ai livelli occupazionali ma anche per quello che poteva comportare perché come diceva giustamente il presidente alle prese di posizioni dell'ena che hanno portato come dire a dei risvolti almeno molto chiari in termini di procedimento poi non lo so che evoluzione ci sarà ma lena che ha predisposto diciamo un atto nei confronti della procura della repubblica per accertare delle responsabilità ha mandato tutto all'antitrasti e anche all'anac che si è pure pronunciata quindi io le chiedo presidente con la spirito propositivo di collaborazione utile siccome parliamo di un asset fondamentale e strategico per lo sviluppo della nostra regione in linea anche con questo documento oggi questa emozione positiva che abbiamo provato questa trattativa di poterla chiudere prima possibile diciamo negli interessi dei calabresi nell'interesse della capacità e della programmazione delle stagioni che si stanno apprestando la quella primaverile e quella estiva è quella di consentire al sistema aeroportuale di avere una efficienza e una funzionalità positiva non solo per garantire il diritto alla mobilità ma anche per aiutare quella crescita e quello sviluppo produttivo di cui la calabria ha fortemente bisogno grazie grazie consigliere passiamo all'interrogazione numero 6 dodicesima firma del consigliere mammoliti in merito alla situazione dei centri per l'impiego e sull'approvazione dei bandi di concorso per il loro potenziamento cedo la parola all'assessore pietro paolo sì grazie presidente consigliere mammoliti io qui con me un documento molto dettagliato che è stato predisposto dal direttore generale del dipartimento lavoro che credo gli sia stato anche consegnato perché dico questo perché riguardo alla situazione dei centri per l'impiego come lei sa c'è una storia io ovviamente parlo anche a nome dell'assessore princi c'è una storia che risale a qualche anno fa il la prima primo la prima bozza di di piano di potenziamento è stato presentato nel 2020 dalla dalla giunta regionale dell'assessore orso marzo e diciamo è stato parzialmente rigettato dal ministero del lavoro con richieste di alcune integrazioni e modifiche come sa questo poi piano è stato definitivamente poi modificato integrato come richiesto e rappresentato a luglio del 2021 e di conseguenza approvato dal ministero e di conseguenza definitivamente approvato alla giunta regionale cosa prevede questo piano di potenziamento non solo l'assunzione del 537 unità che sono oggetto del concorso di cui abbiamo avuto modo di parlare più volte e di cui adesso poi magari scenderò anche nel dettaglio ma prevede per quanto riguarda la situazione dei singoli centri per l'impiego la situazione proprio strutturale anche un piano di ammodernamento e di adeguamento fisico di tutte le strutture perché facevo riferimento al documento del direttore generale perché nel documento c'è un dettaglio di tutte le fasi che verranno seguite passo passo per la realizzazione con i fondi stanziati dal ministero del lavoro delle adeguamento delle 15 sedi dei centri per l'impiego regionali e anche in una seconda fase all'adeguamento delle sedi decentrate decentrate degli sportelli locali per i centri per l'impiego ove sono già presenti e poi in una terza fase a seguito del completamento dell'ammodernamento delle sedi principali e delle sedi locali attualmente attive potranno essere restituite eventuali nuove sedi territoriali dei cpi con priorità e bacini territoriali più distanti dalle attuali sedi principali e locali esistenti ovviamente le procedure di attivazione delle nuove sedi dei centri per l'impiego saranno definite in conformità alle disposizioni delle normative vigenti al riguardo si rammenta che tra l'altro ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 56 dell'87 e in capo ai comuni l'onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l'impiego e ciò impone di verificare preliminarmente la possibilità di rendere disponibile da parte dei comuni stessi gli immobili da adibire a sedi dei centri per l'impiego che dovranno tener conto oltre che dell'incremento straordinario di personale che strutturalmente entrerà negli organici dei centri per l'impiego anche della raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici all'accessibilità delle strutture della disponibilità di locali per l'accoglienza e di spazi che tengono conto della necessità di riservatezza riguardo ai concorsi perché mi sembra che nell'interrogazione si parla si parli anche di questo riguardo alla diciamo richiesta da voi fatta da lei fatta per sapere se era possibile inserire profili o per il quale i motivi per i quali non sono stati inseriti i profili diciamo che lei ritiene adeguati o necessari ai centri per l'impiego le rispondo le faccio notare che i concorsi che sono stati banditi intanto sono quattro avvisi pubblici due a tempo indeterminato e due a tempo determinato così come previsto nel piano di potenziamento anche quelli a tempo determinato che prevedono l'inserimento di 81 persone verranno trasformati a tempo indeterminato automaticamente dopo due anni in questi avvisi a tempo determinato sono presenti i profili professionali che sono quelli necessari ai centri per l'impiego quindi professionisti del mercato del lavoro informatici esperti di comunicazione mediatori culturali statistici psicologi del lavoro sono profili previsti in questi avvisi pubblici è ovvio che nell'altro negli altri avvisi quelli a tempo indeterminato come lei sa per poter cambiare i profili e riuscire a mantenere il termine che per noi era indispensabile mantenere quello della pubblicazione degli avvisi entro il 31 dicembre per consolidare il l'impegno di spesa e storicizzare la spesa e quindi non far sì che i 17 milioni anno che il ministero del lavoro ha stanziato per la regione calabria per i centri per l'impiego fossero effettivamente disponibili non avevamo la possibilità essendoci noi insediati a novembre di effettuare la procedura che è prevista dai regolamenti e che compre comporta un necessario confronto con le forze sindacali che ovviamente prevede una tempistica stabilita da regolamento non ci avrebbe consentito di modificare i profili dei concorsi a tempo indeterminato nei tempi utili ciò non toglie che i profili degli istruttori amministrativi e contabili che sono previsti nel nei cenei nel nei avvisi per il tempo indeterminato sono assolutamente necessari indispensabili ai centri per l'impiego e anche al dipartimento perché ricordiamoci che i servizi per l'impiego comporta anche al potenziamento del dipartimento per le politiche attive per questo io sono convinto che alla fine diciamo l'amalgama dei quattro avvisi pubblici comporterà un inserimento di personale importante per la regione nel suo complesso e soprattutto per i servizi per l'impiego e non dimentichiamo che comporterà anche la possibilità di un primo tassello per cercare di abbattere quel bacino del precariato a cui il presidente occhiuto tanto tiene a che sia abbattuto nei tempi e che ovviamente tutta l'amministrazione tiene che sia abbattuto nei tempi più rapidi possibile perché come ricordo come mi fa piacere ricordare negli avvisi abbiamo inserito la possibilità di valorizzare le esperienze già profuse da lavoratori presso la regione o presso enti strumentali della regione per nei servizi per l'impiego dando un valore in più diciamo nella nella assegnazione del punteggio per quanto riguarda i titoli grazie grazie assessore consigliera moriti un minuto prego sì grazie presidente e assessore in maniera proficua e dialettica come stiamo facendo nel merito perché come ho detto prima a me interessa affrontare i problemi reali diciamo e trovare le soluzioni più praticabili a sostegno e a favore naturalmente delle professionalità che anche alla stessa ragione sta comunque di fatto già utilizzando in parte e ma di dare atto diciamo e azione ad un decreto che come diceva lei risale al 2019 parliamoci chiaramente di fronte a questa situazione altre regioni li stanno già utilizzando queste risorse e questi strumenti e quindi io non è che non apprezzi diciamo lo sforzo di recupero di queste risorse che dovevano essere già utilizzati ci mancherebbe pure però assessore come compio questo sforzo giustamente di riconoscimento e di apprezzamento della possibilità di recuperare queste risorse che dovevano essere già utilizzate negli anni passati cioè io vi pregherei anche voi fatelo uno sforzo di rendere più esigibile più coerente diciamo no quello che serve per questo progetto non stiamo parlando di rimpinguare le difficili situazioni di deficit organico strutturale dei dipendenti della regione perché lei nella risposta assessore mi dice noi con l'amalgama dei quattro avvisi e la capisco era questa la ratio diciamo della mia interrogazione la capisco dice noi con i quattro avvisi con l'amalgama consentiremo alla regione nel suo complesso ai centri per l'impiego no voglio dire voglio dire assessore mi permetto di dire ma giusto per ricondurla diciamo alla fattispecie specifica di quello che stiamo parlando cioè questo è un bando di potenziamento di rafforzamento dei centri per l'impiego delle politiche attive non c'entra nulla la regione quando lei nella risposta mi dice anche per la regione si capisce la giustezza della mia posizione assessore non per fare polemica che era quella di dire che probabilmente i profili non erano del tutto attenenti diciamo a quello che effettivamente invece richiederebbe l'esercizio dei centri per l'impiego che come lei sa meglio di me e l'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro quindi io mi auguro diciamo che anche nelle azioni nei provvedimenti e nei passaggi successivi si potrà recuperare tutto il personale e le professionalità che di fatto già oggi svolgono queste competenze ed hanno maturato un'esperienza in merito a quella che è la missione principale dei centri per l'impiego che quella di realizzare la domanda e l'offerta di lavoro per la nostra regione grazie grazie passiamo all'interrogazione 11 12esima firma il consigliere tavernise che non vedo in aula passiamo a arrivarsi c'è la parola alla giunta al vice alla vicepresidente princi prego grazie presidente in relazione ai punti dell'interrogazione sì 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 del consigliere tavernese impianto di eliminazione rifiuti pericolosi siti in località san sago nel comune di tortora prego e allora in relazione ai punti dell'interrogazione in oggetto il cui oggetto appunto impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non esite località san sago nel comune di tortora si rappresenta quanto segue la società ecologica 2008 oggi cocife ha ottenuto il decreto del direttore generale della regione calabria del 24 febbra 2009 l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 59 2005 per un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non sito nel comune di tortora in provincia di cosenza già autorizzato dal comune nel 1990 l'esito istruttorio ha dato atto dei pareri positivi del comune di tortora della provincia di cosenza e dell'aspe di competenza sullo stesso impianto con il decreto del dirigente generale dell'aprile 2005 l'autorità competente in materia ambientale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale secondo il dpr 12 aprile 1996 contenente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale disciplina oggi confluita nella parte seconda del decreto legislativo 152 2006 a seguito di segnalazioni da parte del ministero dell'ambiente della regione basilicata della vicinanza dell'area dell'impianto al sito di interesse comunitario denominato valle del noce ricadente interamente nella rete natura 2000 di competenze della regione basilicata la regione calabria nel 2018 ritenendo necessario acquisire il parere di valutazione di incidenza della competente regione basilicata ha sospeso il provvedimento di aia ossia l'esercizio dell'impianto dopo aver chiesto al proprietario gestore dell'impianto di avviare presso la competente regione basilicata la procedura di vinca esensi del dpr 357 97 con determinazione dirigenziale dell'aprile 2021 la regione basilicata ha espresso parere favorevole di valutazione di incidenza presso la regione calabria dipartimento territorio e tutela dell'ambiente è pendente un istanza di rinnovo dell'aia richiesta dal proprietario gestore nella data del 25 8 2020 entro i termini di legge sulla quale la regione calabria è tenuta ad esprimersi essendo venuta meno la condizione sospensiva dell'aia a seguito del giudizio positivo di vinca rilancia rilasciato dalla regione basilicata nel merito dei punti dell'interrogazione relativamente al punto 2 il sic valle del noce non è area di pertinenza della regione calabria che non ha alcuna legittimazione a valutare le possibili interferenze anche in dirette dell'impianto e della sua attività sul sito della rete natura 2000 la cui conservazione è demandata alla tutela esclusiva della regione basilicata la quale peraltro nel parere favorevole di vinca del 21 aprile 2021 afferma che le attività dell'impianto sono state previste in modo da non pregiudicare l'integrità del sito natura 2000 senza conseguenze negative per la salvaguardia della dio versi biodiversità mediante la conservazione degli abitati naturali indicati nell'allegato a e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati b di e del regolamento di cui adpr 357 97 relativamente al punto 3 la regione calabria è chiamata ad esprimersi sul rinnovo dell'aia la cui disciplina di derivazione comunitaria riguarda gli aspetti gestionali dell'impianto e non prevede che i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni possono esprimere valutazioni ultrone inerenti ad esempio alla valutazione ambientale di vinca in questo caso oltretutto di competenze della regione basilicata nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'aia la cui istruttori ancora in corso presso il competente ufficio regionale la regione calabria comunque l'obbligo di verificare se l'intervento e le attività oggetto del reesame ai fini del rinnovo comportino modificazioni progettuali di carattere sostenziali capaci di determinare nuove significative impatti non considerati nella procedura originaria di via in tal caso si imporrebbe un'annovazione del giudizio di compatibilità ambientale viceversa non sarà necessario reiterare il giudizio di via qualora dall'istruttoria condotta risultasse una corrispondenza del progetto con quello già autorizzato ovvero modifiche per una più efficace mitigazione degli impianti ambientali per quanto concerne lo scarico nel torrente pizzino la regione basilicata nella determinazione positiva di vinca afferma che le uniche potenziali incidenze sono relative allo scarico delle acque depurate a valle dell'impianto nel corpo idrico ricettore quest'ultimo è rappresentato dal torrente pizzino che risulta direttamente connesso con l'habitat 3280 fiumi mediterranea flusso permanente con vegetazione dell'alleanza pascolo agrostidion e con filare ripari di salix e popolus alba tutelato dal sito zsc valle del noge le attività di monitoraggio sul corpo idrico ricettore svolte durante il lungo periodo di esercizio dell'impianto non hanno evidenziato superamente dei limiti di legge relativamente alle acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte 3 del decreto legislativo 152 2006 la società proponente prevede di attuare in fase di esercizio alcune condizioni d'obbligo in applicazione del principio di precauzione tra questi si segnala in particolare un'attività di monitoraggio della qualità delle acque per tre anni dal riavvio dell'impianto con cadenza trimestrale per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito s zsc valle del noce relativamente all'intervento impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non sito e località san sago del comune di tortora la regione calabria nell'esame della documentazione di rinnovo dell'aia ai sensi della normativa vigente a garanzie della maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente dovrà verificare se il gestore ha previsto gli interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili ea tutte le direttive comunitarie medio tempo remanate in mancanza o in carenza di elementi la struttura regionale preposta chiederà al gestore la documentazione integrativa sulla base della quale la regione e tutti gli enti proposti esprimeranno i pareri di competenza insieme all'istituto della conferenza dei servizi relativamente al punto 1 al punto 4 la regione calabria la regione basilicata ha emanato un provvedimento amministrativo di vinca positivo che contiene una valutazione positiva delle attività dell'impianto e non rileva conseguenze negative sulle esigenze di tutela del sic valle del noce come ampiamente argomentato l'unico soggetto competente alla tutela e conservazione dell'integrità del sito della rete natura 2000 e la regione basilicata ad oggi non risulta che la regione bassini basilicata abbia assunto atti amministrativi contrario al provvedimento originario grazie grazie assessore un minuto prego sino solo ringraziando il vicepresidente dalla risposta diciamo che dobbiamo quindi attendere le delucidazioni della del gestore ecco e quindi attendendo queste queste integrazioni ecco poi diciamo decidere se fare seguito a questa interrogazione è chiaro che da parte mia e del movimento che rappresento ribadisco il fatto che la prima cosa che va messa diciamo in evidenza in questa regione per quanto riguarda la tematica ambientale è sempre la sempre comunque vicepresidente la salvaguardia è l'ambiente di determinate diciamo zone e quindi diciamo attendiamo se queste nuove integrazioni vanno in questa direzione oppure vanno in una direzione opposta grazie grazie consigliere proseguiamo con l'interrogazione 21 dodicesima firma dei consiglieri bruno irto e tavernisi trasparenza e pubblicità rispetto ai termini pubblicazione degli atti la parola all'aggiunta l'assessore minasi prego grazie presidente questa interrogazione mette in evidenza un'inefficienza di tipo collega minasi deve solo rispondere poi lei può replicare deve solo rispondere prima risponde sia soile e prima che grazie grazie presidente consiglieri allora fermo restando che tutte le delibere sono pubblicate nel rispetto dei termini previsti dalla legge regionale con riferimento alla delibera numero 610 approvata dall'aggiunta in data 28 dicembre 2021 in effetti è stata notificata mediante pec dal segretariato generale al dipartimento lavoro e welfare per il seguito di competenze in data 20 gennaio il dipartimento quindi ha provveduto in data 24 gennaio quindi entro cinque giorni successivi dalla notifica a trasmettere via pec la deliberazione per la pubblicazione del bollettino ufficiale telematico della regione calabria che è stata effettuata poi dall'ufficio preposto entri successivi 15 giorni con un tale delibera la giunta regionale ha approvato le indicazioni operative per gli ambiti per l'avvio di interventi destinati a persone affette da alzheimer nonché il riparto del finanziamento tra gli ambiti territoriali che attraverso un avviso pubblico dovevano provvedere poi alla individuazione delle proposte progettuali ovviamente nella stessa delibera venivano indicati dei termini che non erano assolutamente verentori tuttavia poi in considerazione è premesso che comunque tutti gli ambiti erano stati tempestivamente avvisati ma in considerazione della tardiva data di pubblicazione nel burco della delibera al fine di consentire ai soggetti interessati di ottemporare a tutti gli adempimenti procedurali previsti con successiva delibera numero 24 del 31 gennaio 2022 si è proceduto al riferimento dei suddetti termini la la sua indicata deliberazione è stata notificata in pari data per il seguito di competenza dal dipartimento segretariato generale al dipartimento lavoro e welfare che ha proceduto nel rispetto dei termini previsti dalla legge regionale 11 21 a trasmetterla per la pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della regione calabria il 3 febbraio 2022 grazie collega collega bruni un minuto per si assessore la ringrazio abbiamo appreso e ritroviamo appunto motivazione in questa interrogazione che sottolineavano inefficienza di tipo burocratico importante che rischia però di privare eh a volte eh come in questo caso pazienti i comuni che chiaramente poi hanno eh ovviamente devono istruire le pratiche esattamente per questa eh grande fragilità di cui lei si è sempre occupata e anch'io e che abbiamo assolutamente a cuore quindi la prego realmente siccome queste tematiche sono importante che venga vigilato proprio su eh sulla burocrazia perché è troppo importante grazie consigliere ora passiamo alle interrogazioni risposte immediate ricordo che l'interrogante ha due minuti per l'illustrazione l'aggiunta tre minuti per la risposta e poi una replica di un minuto dell'interrogante iniziamo con l'interrogazione 5 dodicesima firma del consigliere bevacqua che non vedo in aula quindi decaduta proseguiamo con l'interrogazione numero 7 dodicesima firma del consigliere mammoliti sul mancato inserimento dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 68 99 dei bandi di concorso per esame riservate soggetti disabili di quel comma 1 con l'articolo 1 comma 1 della legge 68 99 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di numeri 20 posti di categoria b3 posizione economica b3 del contratto collettivo nazionale lavoro funzioni locali profilo professionale collaboratore professionale amministrativo c'è in questa richiesta di risposta immediata io vorrei perché funziona così secondo il mio punto di vista preliminarmente ringraziare il presidente occhiuto e lo voglio ringraziare perché appena io ho posto diciamo ho presentato questa richiesta di interrogazione a risposta immediata il presidente occhiuto ha avuto la sensibilità di convocarmi insieme alla presenza di alcune forze sociali e alla presenza anche di alcune categorie che rappresentano diciamo proprio queste figure che io nell'interrogazione dico essere state esclusi parliamoci chiaramente fare dei bandi e dare offrire la possibilità di creare lavoro nella nostra regione è di per sé una problematica da apprezzare e solo per questa ragione debbo dire alcuni dei soggetti che non sono stati e contemplati nella riserva dei posti previsti per questo senso di responsabilità che voglia apprezzare non hanno fatto ricorso al tare perché altrimenti avrebbero sicuramente bloccato questo provvedimento siccome si tratta di 456 assunzioni e in calabria è una cifra considerevole oltre che rappresenta un'occasione importante per rafforzare quel presidio istituzionale che deve garantire l'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro e diciamo le categorie interessate non hanno presentato il ricorso al tar e ma voglio apprezzare il presente occhiuto perché ci ha convocato in questa sua convocazione si era assunto diciamo degli impegni uno purtroppo lo dovrò ricordare con un istanza perché non è stato possibile che era quella di verificare se il bando poteva essere modificato in corso d'opera mi pare che questo purtroppo non sia avvenuto quindi però lo farò con un istanza chiedendo invece di fare un bando apposito e poi si è impegnate questo vi va dato merito l'abbiamo apprezzato che nei successivi bandi queste categorie che sono state escluse in questo specifico momento con questo bando avrebbe aumentato la percentuale dei posti riservati previste quindi credo che sia anche apprezzabile da questo versante da questo punto di vista questo importante diciamo impegno che naturalmente poi chiederemo e sollegetteremo di poter evadere realizzare con un'apposita distanza per capirci e chiudo stiamo parlando di vedove e orfani stiamo parlando di vittime del dovere interrogazione con vittime del terrorismo della criminalità noi abbiamo chiesto che la percentuale prevista l'uno per cento dei 456 posti non è garantita quindi chiediamo la possibilità ormai il bando è scaduto ma di poterla assolvere io presenterò un istanza e vedrò come per dire si deve fare un bando apposito per consentire a queste categorie che hanno già pagato un prezzo importantissimo che hanno determinato una lacerazione indelebile con un tributo di sangue di poter avere il rispetto che le normative e la giustezza delle riflessioni della valutazione di chi dirige deve assolutamente assegnare grazie assessore pietro paolo dove l'assessore pietro paolo per la risposta va bene passiamo la lasciamo sospesa passiamo avanti con l'interrogazione 8 dodicesima firma il consigliere lo schiavo in ordine all'acquedotto alaco e prospettive future la società storica sp a cedo la parola all'interrogante per l'illustrazione prego due minuti grazie presidente l'interrogazione assume oggi un significato diverso perché era stata presentata il 12 gennaio 2022 in presenza di una grave emergenza idrica che aveva colpito la città di vibbo e diversi comuni della provincia vibonese della piana di gioia tauro in quel in quel momento vi è stato un grave disservizio legato a una frana di notevole entità che ha colpito il comune di brognaturo un evento franoso che ha portato in evidenza tutti i limiti della rete infrastrutturale di aduzione delle acque e in quella sede mi sono spinto a presentare questa interrogazione che in realtà voleva essere un interrogativo più ampio e cioè sullo stato attuale della sorica affrontato anche in commissione di vigilanza proprio in questi giorni che quindi assume oggi anche alla luce di questa interrogazione una valenza diversa valenza diversa perché il commissario della sorica al espressamente interrogato sul punto ha detto con molta chiarezza che la storica la stessa incapace di provvedere a investimenti infrastrutturali su una rete idrica ormai obsoleta e quindi i cittadini sono costretti a vedere continuamente in maniera ripetuta numerosi disservizi nella conduzione delle acque il commissario storica l'ha detto in maniera molto lineare che la società trovandosi in uno stato di liquidazione non ha la forza per poter fare interventi infrastrutturali anche perché il socio privato non ha intenzione di capitalizzare o intervenire non è questa la sede per intervenire su storica al male interrogazione stessa partendo da appunto una domanda sullo stato di avanzamento dell'iter progettuale che porta avanti rifacimento dello schema idrico dell'alaco mi porta a fare alcune considerazioni la prima è che come detto in commissione vigilanza ma in questa sede dobbiamo ribadirlo storica alle ostaggio di una banca con sede in irlanda detenuta da un fondo governativo tedesco i calabresi devono sapere che le acque pubbliche della regione calabria oggi il futuro di queste acque pubbliche e quindi la pubblicizzazione della società che gestisce le acque e in mano a una società che ha nel governo tedesco la pro il proprio controllo e questo è una cosa estremamente grave di cui la politica deve farsi carico e bisogna capire anche le responsabilità che hanno portato a privatizzare l'acqua in questa regione a svendere la gestione delle acque a banche d'affari e che oggi condizionano l'iter per creare una società pubblica che possa operare investimenti per un bene comune che ricordo come il referendum del 2000 il referendum pubblico di che ha chiamati i cittadini a pronunciarsi è considerato come un bene ragazzo però arrivo all'interrogazione quindi chiedo di sapere lo stato di avanzamento del leader progettuale che riguardi il rifacimento dello schema idrico della dell'alaco se è previsto un suo potenzione un potenziamento anche alla luce delle considerazioni che sono state fatte dal commissario liquidatore della società stessa grazie vicepresidente principe prego il progetto relativo allo stato di avvenziamento dell'iter progettuale è il sor 0 46 acquedotta l'aco direttrice tirrenica versante vivo sostituzione dell'adduttrice principali per tipo valencia e realizzazione di disconnessioni idrauliche il progetto riguarda la sostituzione della condotta adduttrice dell'alquedotta l'aco dall'uscita della galleria di valico tirrenica al serbatoio muragre che di vivo valencia più in dettaglio nella configurazione presentata è prevista la sostituzione integrale del tratto di valle a maggior pressione di esercizio 19 chilometri una disconnessione idraulica al serbatoio pizzoni ed interventi spot di ammodernamento nel tratto a monte di quest'ultimo il quadro economico del progetto è pari a 25 milioni 401 1887 il progetto di fattibilità tecnico economica preliminare tecnico è stato trasmesso con nota sorical del 19 4 2021 ed in corso di valutazione da questo dipartimento cioè che sarebbe il dipartimento territorio e tutela dell'ambiente l'intervento fa parte però di un complesso di progettazioni che interessano tutto lo schema vanico tirrenico per entrambi i versanti film vivo e rosarno palmi e più in generale attività finalizzata all'ammodernamento dell'adduzione della calabria centrale tirrenica e l'interconnessione con lo schema metramo tra questi i seguenti fanno parte delle proposte progettuali inviate lo scorso anno per il piano nazionale per la ripresa e la resilienza acquedotto alaco interventi per l'adduzione impressione nella galleria di valico tirrenica mediante posta di nuova condotta progetto preliminare quadro economico 5 milioni e 200 mila riconfigurazione degli acquedotti della calabria condotte aduttrici dagli invasi acquedotto alaco sostituzione della condotta del serbatoio di linea di laureana rosarno per l'adduzione delle portate aggiuntive derivate dall'invaso del metramo progetto di fattibilità tecnico economica pari a 14 milioni sempre sul pnr tra gli interventi complimentari sono stati infine preposti sulla dorsale tirrenica ramo rosarno palmi due interventi finalizzati ad integrare la risorsa idropotabile della lago per risolvere alcune criticità locali in particolare acquedotto alaco dorsale tirrenica palmi realizzazione di una nuova diramazione di collegamento rosarno da campo pozzi metrama campo pozzi metma per la dismissione degli lungimenti ad adduzione a gravità l'intervento proposto prevede la realizzazione delle opere di adduzione del nuovo collegamento tra il campo pozzi metramo e il campo pozzi metma e consente di realizzare un nuovo assetto idraulico dello schema laco a vantaggio del comune di nicodera per un importo pari a 2 milioni e 600 mila acquedotta laco dorsale tirrenica ramo sud realizzazione bretella di collegamento al serbatoio anguilla per il ripristino dell'integrazione del campo pozzi anguilla 2 l'intervento è relativo alla realizzazione di un nuovo tratto di condotta premente per ripristinare la risorsa integrativa del campo pozzi anguilla 2 attualmente non disponibile perché le condotte esistenti sono state interessate da un vasto fronte di frana il quadro economico del progetto definitivo è pari ad euro 680 mila grazie grazie assessore un minuto per la replica una breve replica ovviamente ho ascoltato con attenzione il vicepresidente sono contento della previsione di questi numeri ma questi sono solamente numeri purtroppo presidente perché la storica lei impantanata in una controversia giuridica che la rende oggi paralizzate non è in grado di portare avanti tali investimenti in più c'è come una spada di damocle il 30 giugno è l'obiettivo del sistema integrato delle acque in calabria che tante perplessità da oggi alla politica in generale avendo una difficoltà di rendere pubblica sorical e non intravedendosi un nuovo soggetto in grado di avere il know how il personale le competenze per poter gestire il sistema delle acque calabresi in poche parole presidente e questi numeri non possono tranquillizzarmi perché sono degli investimenti che esistono ancora sulla carta mentre la storica l'è un gigante paralizzato con uno stato di liquidazione senza un piano industriale e quindi oggi la politica deve porre al centro dell'attenzione penso lo faranno i prossimi consigli regionali il problema delle gestioni delle acque in calabria il problema di sorical e come rendere pubblica nuovamente la gestione di questo servizio grazie presidente grazie assessore pietro paolo la risposta sull'articolo 18 della legge sì 68 99 grazie presidente allora su questo tema consigliere mamoliti abbiamo ricevuto la vostra mentre la sua interrogazione in realtà come lei sa la regione come qualsiasi altro ente pubblico è anche soggetto privato ogni anno quando si superano i 50 dipendenti deve fare la dichiarazione l'autodichiarazione di quale è il proprio debito nei confronti delle categorie protette e quindi la regione nell'anno 2020 2021 ha predisposto il proprio dichiarazione in cui si evidenzia provincia per provincia il debito nei confronti delle categorie protette sia riguardo all'articolo 1 che riguardo all'articolo 18 riguardo all'articolo 18 riguardo all'articolo 1 è venuto fuori un debito appunto di 31 unità che sono quelle messe a concorso riguardo all'articolo 18 invece è venuto fuori che la regione a fronte di una quota di riserva di 17 unità ha già in nei ruoli 18 unità divise per le varie province quindi ha addirittura un'unità in più provenienti da varie modalità in passato questa è la prima volta credo che si faccia un concorso per adeguare la regione al numero delle categorie protette previste dalla legge 68 e credo che sia un fatto anche importante che questo sia stato fatto quindi come dire oggi non abbiamo un obbligo nei confronti dell'articolo 18 ma è ovvio questo perché questa cosa è stata detta da me a delle associazioni che sono venute a chiedere a fare lo stesso motivo ma credo anche dal presidente è ovvio che questa cosa si riproporrà come lei sa l'anno prossimo avendo adesso fatto delle assunzioni in procinto di fare l'assunzione ovvio che l'anno prossimo avremo di nuovo il problema e quindi l'anno prossimo sicuramente metteremo mano anche all'articolo 18 e provvederemo ad adeguare la regione anche riguardo all'articolo 18 grazie grazie volerebbe provare prego prego solo per chiedere all'assessore al presidente avevo già in sua assenza diciamo espresso un apprezzamento per la sensibilità del presidente che aveva manifestato in merito a questa problematica diciamo e naturalmente io presenterò un'istanza in tal senso proprio perché quello che dice lei è vero ad oggi dal punto di vista della risposta burocratica è vero la regione non è in debito ma è del tutto evidente però politicamente ragionando che con 456 nuova assunzione poi quella percentuale prevista non viene rispettata quindi prendo positivamente questo impegno diciamo a volerlo garantire successivamente e per questa ragione poi io presenterò magari un istanza al presidente per gli impegni che aveva manifestato e forse anche a lei proprio per dire nei passaggi successivi quando ci sarà l'occasione questa percentuale questo impegno dovrà essere garantita grazie grazie collega mammoletti passiamo all'interrogazione 10 dodicesima firma del consigliere lo schiavo in ordine al grave problema della processionaria che sta mettendo a serio rischio i boschi della sila cedo la parola l'interrogante per l'illustrazione prego sì questi lust questa interrogazione potrebbe essere illustrata meglio se ognuno di noi avesse l'immagine di quello che sta accadendo nella sila dove un intero patrimonio boschivo rischia di essere perso basta non essere esperti della materia ma basta guardare quello che sta accadendo per capire come la processionaria è un problema particolarmente serio non solo per il patrimonio boschivo ma anche per gli uomini nei pressi in cui si trovano ovviamente gli alberi infestati l'asile riconosciuta come una riserva della biosfera unesco è la decima riserva della biosfera italiana nella rete mondiale dei siti di eccellenza dell'unesco e quindi ovviamente come consiglio regionale della calabria non possiamo non recepire il grido d'allarme che arriva dagli operatori turistici ma non solo dai cittadini di grandi parti della regione calabria e quindi ovviamente al di là dei interventi tampone che si possono avere e di sordi risorse di emergenza che si possono investire nelle singole occasioni vorrei capire dall'assessore competente qual è il piano più complessivo e non per tamponare l'emergenza di fronte al fenomeno della processionaria e in particolare per capire gli interventi indicati nel piano attuativo della forestazione 2021 della regione calabria al fine di evitare appunto la compromissione del patrimonio boschivo calabrese grazie prego assessore sì io ringrazio il collega lo schiavo anche per aver dato l'opportunità di discutere di confrontarci su un tema che oggi è di stretta attualità e all'ordine del giorno perché questa emergenza è un'emergenza che ormai ha colpito non solo il bosco della sila ma ha colpito anche altri boschi in calabria un'emergenza di natura ambientale naturalmente perché questo insetto è un insetto che peraltro secondo molti studi a causa dell'aumento delle temperature sta proliferando in particolare in alcune zone della nostra regione io credo che il consiglio schiavo non so se aveva avuto già una risposta per iscritto probabilmente dal dipartimento allora si tratta della risposta che era stata data ad altri colleghi che avevano fatto interrogazione in ogni caso già nel piano attuativo dello scorso anno approvato con delibera 122 il 31 marzo 2021 era erano previste alcune azioni per tutelare la i boschi dalla presenza della processionaria con delibera di giunta regionale numero 412 del 25 agosto 2021 la giunta regionale ha stanziato la somma di 4 milioni di euro per affrontare l'emergenza processionaria da notare e da sottolineare che è stata richiesta anche al ministero delle politiche agricole un intervento straordinario attraverso una nota inviata che provvederò a reinviare per avere un aiuto anche da parte del ministero su questa emergenza con emergenza straordinaria nel frattempo lo scorso anno abbiamo insieme a calabria verde presso il dipartimento aperto un tavolo tecnico al quale abbiamo invitato naturalmente oltre calabria verde ed arsac lente di divulgazione agricola anche le università calabrese in particolare l'università mediterranea di reggio calabria e l'ordine degli agronomi per stabilire quali sono le priorità di intervento e quali sono i protocolli attraverso i quali intervenire e attuare una azione di prevenzione o meglio di contenimento di questo di questo insetto sono state individuate quattro diverse tipologie di operazioni la prima che sta partendo in alcune aree partirà anche nell'area della sila di più a non molto prevede attraverso l'azione di operai non solo di calabria verde ma anche operai che probabilmente con le somme a disposizione calabria verde potrà avere attraverso dei noli esterni il taglio di la l'asportazione dei nidi processionaria che verranno accumulati e poi verranno bruciati ci sarà poi un altro intervento con la posizione di anelli che sono dispositivi a collari per la lotta biologica per impedire all'insetto una volta schiusa la la larva di poter andare sul terreno saranno apposti sui tronchi degli alberi dei degli anelli circolari per impedire quindi il passaggio dell'insetto nel terreno un altro intervento sarà nella prossima stagione estiva tra giugno e luglio con la posizione di trappole a feronomi per la cattura di esemplari maschi nella misura di una per ogni ettaro e ci sarà infine un altro intervento attraverso l'utilizzazione di di prodotti di natura biologica per che saranno spruzzati sugli alberi nella fase immediatamente successiva che sarà la fase autunnale questo questi quattro queste quattro tipologie di interventi sono tipologie che sono venute fuori da questo tavolo tecnico ma che sono quelle previste diciamo nei protocolli di natura scientifica e che saranno poi applicate non solo da calabria verde ma anche dai parchi nazionali che hanno partecipato almeno il parco nazionale della sile in particolare a questo tavolo tecnico per cui a partire da credo dalla prossima settimana in alcune aree siamo già partiti anche in sila si partirà con gli interventi e cominceranno ad essere utilizzate le risorse messe a disposizione dalla giunta regionale con la delibera 412 il 25 8 2021 che da gennaio ha potuto consentire anche l'iscrizione sul bilancio quindi l'utilizzo l'utilizzabilità delle risorse stesse naturalmente questa è una prima azione di intervento altre azioni saranno previste nel prosieguo anche per perché attraverso questi primi interventi comprenderemo e capiremo quale sarà la risposta rispetto anche alle aspettative che i tecnici si sono si sono posto nel momento in cui hanno previsto questo tipo di interventi grazie grazie assessore gallo prego sì io ringrazio l'assessore per la risposta molto puntuale devo dire che io condivido l'inizio del suo intervento e cioè che il problema è la processionaria non può essere affrontato da soli non è un problema che può essere risolto solo dalla calabria riguardando anche altre regioni del paese vanno coinvolti ovviamente gli enti governativi ma io penso che c'è la necessità al di là del provvedimento emergenziale del singolo momento di richiedere di rivedere le politiche rispetto alla forestazione e la tutela del territorio in particolare e cioè società come calabria verde devono essere messe nelle condizioni di poter operare devono avere le risorse economiche per poter gestire le innumerevoli questioni che riguardano il territorio calabrese di cui la processionaria è solo uno degli aspetti quindi come consiglio regionale come politica dobbiamo porci due obiettivi cioè un obiettivo contingente di affrontare l'emergenza e quindi sono molto contento dei primi interventi anche se anche qui c'è una perplessità per quanto riguarda i fondi dei privati perché l'intervento negli spazi pubblici può essere limitato se non si interviene anche negli spazi privati dove la processionaria ormai attaccato ma più complessivamente la politica di ampio respiro che noi dobbiamo cominciare a ragionare in questa consigliatura e cioè capire che sull'ambiente bisogna investire che sulla difesa del territorio bisogna investire e che sulla difesa dei nostri boschi e della nostra del nostro ambiente noi dobbiamo fare una battaglia di civiltà nella questa consigliatura e per le prossime generazioni grazie grazie passiamo all'interrogazione dodici dodicesima firma del consigliere laghi sui licenziamenti dei lavoratori della casa di cura misasi san bartolo in data 24 febbraio 2022 pervenute irritualmente agli uffici risposta scritta dalla giunta regionale acquisita al protocollo generale in data con numero 5566 tuttavia trattandosi di interrogazione risposta immediata all'interrogante può illustrare l'interrogazione se vuole per non più di due minuti alla luce della risposta della giunta regionale può replicare in aula per non più di un minuto e senza l'articolo 122 del regolamento interno la vuole illustrare il rapi di spreco perché il problema è quello di un conflitto sociale cioè che quindi ha determinato a livello occupazionale un impatto molto negativo riguardante appunto la clinica minasi san bartolo struttura privata convenzionata non c'è stata possibilità di comporre questa vicenda così che si è si è arrivati addirittura a eclatanti gesti di protesta con dei lavoratori che sono stati sui tetti della stessa clinica allora in questa per cui i sindacati le parti i cittadini hanno richiesto anche un intervento a livello regionale la commissione nel signor presidente ha audito sia i datori di lavoro che le organizzioni sindacali e quindi per farsi un'idea e poi per decidere rispetto alla costituzione di un tavolo come parte terza per cercare di facilitare la soluzione di un ripeto di un conflitto sociale molto delicato che rischia di mettere sull'astrico un numero non esiguo di lavoratori ora il motivo per cui a me è pervenuta la risposta ma la questione adesso si è spostata un po nel senso che stiamo tutti aspettando la costituzione di questo tavolo regionale promosso dalla giunta oppure dal dal commissario per per l'emergenza sanità in calabria e trascorso circa un mese da quando sono iniziati le audizioni per cui adesso la domanda è c'è sempre la volontà di fare questo tavolo e qual è l'orizzonte temporale in cui si prevede che questo tavolo possa effettivamente diventare operativo grazie prego vicepresidente princi considerata la delicatezza del tema brevi per eliminarmente chiarisco che le procedure di licenziamento collettivo sono normate dalla legge 223 91 e successive modifico integrazioni tale normativa prevede che l'azienda che deve effettuare una riduzione di personale deve restaurare una procedura così come scandita dall'articolo 4 informativa alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale le stesse organizzazioni sindacali devono chiedere un incontro dando inizio in tal modo alla cosiddetta fase sindacale se in tale fase le parti sociali raggiungono un accordo con la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale la procedura termina e l'azienda dovrà osservare i concordati se le parti non raggiungono un'intesa l'azienda deve comunicare l'esito negativa alla regione che provveda a convocare le parti sociali al fine di un ulteriore esame della questione anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo l'azienda san bartolo srl soggetta ad un concordato preventivo avviato una procedura di licenziamento collettivo per un esubero di 51,5 unità equivalenti su un organico totale pari a 129 unità con comunicazione alle organizzazioni sindacali in data 5 novembre 2021 la fase sindacale è stata esperita senza un accordo per cui l'azienda ha richiesto con pec del 10 dicembre 2021 una convocazione al dipartimento lavoro che ha provveduto a convocare le parti in modalità telematiche in data 21 dicembre 2021 su richiesta delle organizzazioni sindacali l'incontro è stato posticipato al 5 gennaio 2021 in tale sede emersa una conflittualità evidente evidentemente insanabile tra le parti sociali poiché le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno contestato in toto la decisione azientale di procedere al licenziamento collettivo le relative motivazioni infatti come si evince dai verbali delle riunioni effettuate tre nella fase sindacale ed una nella fase amministrativa l'azienda ha ricondotto alla propria scelta ad una crisi aziendale sia economica che finanziaria che ha imposto una razionalizzazione dei costi a sua volta la crisi è determinata come l'azienda specifiche nella comunicazione di apertura della procedura alle organizzazioni sindacali dal tardivo rimborso delle prestazioni erogate negli anni che vanno dal 2002 al 2014 nonché le insufficienze renumerazioni delle prestazioni relative all'anno 1995 e la continua contrazione dei budget che non hanno consentito la copertura dei costi fissi derivanti da un benchmarking sanitario che le norme del settore prescrivono in termini imperativi e non derogabili investimenti risultati errati hanno ulteriormente minato l'assetto economico finanziario aziendale la società ha dichiarato inoltre non percorribili percorsi alternativi atti ad evitare il ricorso anche parziale alla risoluzione dei rapporti di lavoro le organizzazioni sindacali dei lavoratori a fronte di tale motivazioni nell'evidenziare la rilevanza sociale della questione che coinvolge ben 51 lavoratori di età non più giovane che pertanto avranno molte difficoltà a ricollocarsi replicano con una serie di osservazioni che le inducono che si riassumono qui di seguito la riduzione di personale determinerebbe il mancato rispetto dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento regionale con particolare riferimento al laboratorio di analisi anche nei settori in cui vengono rispettati i livelli minimi richiesti rilevano che i licenziamenti inciderebbero negativamente sulla qualità dei servizi resi come accadrebbe per i profili professionali degli educatori considerato che resteranno in organico solo due unità inoltre ritengono che l'esubero potrebbe essere ridimensionato considerato che vi sono più figure professionali che hanno svolto le mansioni di cuoco ed aiuto cuoco che potrebbero essere ricollocati in altre società del gruppo detentore del pacchetto societario che verrebbero eliminate dall'organico figure importanti come quella dei centralisti e che anche altre figure professionali come l'impiegata amministrativa e gli ausiliari verrebbero ridotte in maniera eccessivamente drastica che alcune unità potrebbero accedere al pensionamento nell'arco dei prossimi 36 mesi infine segnalano che vi è la presenza di un concordato preventivo relativa alle strutture che il mancato coinvolgimento in maniera attiva e anche l'assenza di una semplice informativa dei creditori relativi allo stesso piano concordatario e dell'autorità giudiziaria rendono a loro avviso nulla la presente procedura o quantomeno oggetto di necessaria sospensione per il coinvolgimento di detti soggetti nella disamina della situazione aziendale altre osservazioni da parte dell'organizzazione sindacali dei lavoratori nonché le repliche da parte aziendali sono rilevabili dalla lettura dei verbali nell'ambito della riunione del 5 gennaio il sindacato ha fatto presente di aver richiesto uno specifico incontro riferito alla presente procedura di licenziamento collettivo alla terza commissione sanità presso il consiglio regione della calabria e di essere in attesa di imminente convocazione ciò al fine di avere anche specifiche determinazioni da parte dell'ente preposto relativamente alla situazione in atto nelle strutture per tale motivazione la riunione potrebbe essere aggiornata successivamente riporta scritto il verbale in relazione a tale richiesta di rinvio l'azienda obiettato che non vi erano tempi certi per un'eventuale convocazione da parte della terza commissione e che erano in scadenze termini previsti dalla legge 223 91 per la conclusione della procedura di licenziamento collettivo infine si segnala che con pec del 17 gennaio la società san bartolo ha comunicato ai sensi dell'articolo 4,9 della 223 del 91 di avere intimato i primi licenziamenti nei confronti di 25 dipendenti grazie un minuto consigliere grazie vicepresidente princi ma il il motivo del scontente adesso io ringrazio della sintesi diciamo breve e pur chiara dell'andamento della vicenda tuttavia e nella mia domanda adesso proprio è collocata temporalmente subito dopo la commissione presieduta dal dottor comito a dal collega comito ha ascoltato le parti e evidenziando una sprezza di rapporti e una conflittualità evidente per cui si era ritenuto come commissione di richiedere appunto una mediazione diciamo fra le fra le parti per cui aspettavamo e le parti stessa mi pare fossero entrambe d'accordo per cui il la domanda esplicita era ed è è da ritenere che questo tavolo si farà e che orizzonte temporale previsto grazie lo convocheremo la prossima settimana grazie passiamo all'interrogazione 15 dodicesima firma del consigliere laghi in ordine al problema relativo all'accreditamento della casa di cura oculistica clinica santa lucia srl di cosenza prego grazie presidente questa è davvero una una vicenda di ordinaria assurdità credo amministrativa burocratica più che amministrativa nel senso che c'è un posto dove la gente viene curata nella fattispecie la clinica santa lucia una clinica oculistica che ha non soltanto un ottimo background e dei numeri eccellenti e una diciamo è una consolidata fama di qualità nelle prestazioni e ma c'è anche tutto le autorizzazioni idonee per avere diciamo la la possibilità di riavere l'accreditamento ormai non da epoca recente tutti sono d'accordo che le cose sono a posto però l'accreditamento non arriva per cui c'è questa questa situazione paradossale che nessuno contesta nulla a questa clinica però questa clinica continuava continuava a non avere l'accreditamento dico continuava uso l'imperfetto perché per effettivamente per intervento diciamo anche della del governo della sanità regionale che ha prodotto il dc a 6 barra 22 questo che con ogni evidenza proprio per da parte del governo della sanità quindi del commissario occhiuto e dei suoi collaboratori questo dc a superava qualsiasi problema quindi dando la possibilità a questa clinica di continuare nel suo meritorio impegno cosa che la clinica ha fatto piccolo particolare il dc a che andava bene per chi lo ha redatto a quanto pare non va bene per i dirigenti dell'asp che addirittura pretenderebbero che la regione scrivesse che la clinica santa lucia rientri nei benefici del dc a punto 6 barra 22 questo è per questo parlavo di assurdità burocratica cioè chi ha fatto il dc a lo ha fatto anche tenendo conto di queste specifiche necessità ea ea risolto a suo parere questo diciamo questo nodo gordiano e invece il braccio operativo territoriale cioè l'asp del governo della sanità dice che vuole una sostanzialmente una comunicazione specifica quindi che fare come come direbbe qualcuno importante grazie leggo vicepresidente prince consigliere laghi ometto la parte legislativa il dc a di cui ha ampiamente parlato lei e dentro nel merito con riferimento appunto all'accreditamento si precisa che la struttura sanitaria santa lucia ha presentato istanze di accreditamento senza avere dapprima richieste e quindi ottenuto l'autorizzazione comunale alla realizzazione e l'autorizzazione sanitaria dell'esercizio a fronte di tale evidenza con nota del 20 ottobre 2020 il settore salute e della direzione generale della regione calabria ha predisposto e segnalato al commissario ad acta lo stato dell'istruttoria e le carenze documentali della pratica della struttura di cui trattasi rappresentando che allegato necessario dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e l'autorizzazione comunale ex articolo 8 ter del decreto legislativo 502 del 92 e rilevando ancora che la struttura avrebbe potuto presentare istanze di accreditamento dei corsi 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il settore sulla scorta dell'autorizzazione ricevuta dal commissario ad acta per il piano di rientro nota del 28 ottobre 2020 si è attivato per consentire la definizione unitaria dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento e con nota protocollo del dicembre 2020 ha inviato la struttura sanitaria a presentare istanze di autorizzazione all'esercizio nelle more dell'acquisizione del provvedimento comunale ex articolo 8 del decreto legislativo 502 del 92 la clinica santa lucia con nota di riscontro del 4 dicembre 2020 ha provveduto alla trasmissione della documentazione mancante sostenendo di avere già provveduto alla trasmissione in data 26 2019 dell'istanza di autorizzazione all'esercizio corredata dalla documentazione prevista dagli articoli 7 e 9 del dca 81 2016 richiamato vabbè dall allegato 3 del dca 82 2019 tale nota ha ricevuto il riscontro dal settore preposto che con nota del 14 gennaio 2021 ha comunicato alla clinica santa lucia che l'istanza di autorizzazione non era presente agli atti d'ufficio in quanto contro il contrariamente a quanto sostenuto con nota pec del 26 2019 la struttura aveva trasmesso unicamente distanze di accreditamento e documentazione non prevista dagli articoli 7 8 e 9 del dca del 2016 per come risultava evidente dalla stampa della ricevuta pec originalmente trasmessa dalla struttura stessa con nota con la medesima nota il settore preposto all'istruttore ha richiesto alla clinica santa lucia la trasmissione di ulteriori documentazione ancora quella data non depositata dalla richiedente necessaria all'istruttore dell'istanza di autorizzazione all'esercizio tale integrazione pervenuta con nota protocollo 15.718 del 18 gennaio 2021 occorre evidenziare che la casa di cura oculistica clinica santa lucia di cosenza anche agito giudizialmente avverso il sostenuto silenzio inadempimento della regione calabria avverso la richiesta di accreditamento ed il tar calabria con sentenza 703 del 30 marzo 2021 presso atto delle risultanze documentali sopra richiamate ha rigettato il ricorso proposto dalla struttura sanitaria proprio per la non imputabilità in capo alla regione calabria dell'anzitetto silenzio inadempimento nel percorso amministrativo di accreditamento della struttura in ragione dell'evidente mancanza di provvedimenti autorizzativi non richiesti dalla struttura presupposti dell'accreditamento poste le anzidette evidenze documentali ed il titolo giudiziaro richiamato all'esito della ricezione della documentazione richiesta alla clinica santa lucia il settore avviato l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti dirigenziali e commissariali finalizzati tanto all'autorizzazione che all'accreditamento della struttura grazie assessore prego un minuto grazie presidente brevissimamente francamente una cosa non ho capito dato che mi è stato riferito che commissario ad acta e subcommissario hanno dichiarato ancorché verbalmente che il dca 6 barra 22 faceva di rientrare nei benefici diciamo dell'accreditamento la clinica quindi mi scusi se chiedo proprio esplicemente questo c'è ancora qualche carenza documentale oppure è una interpretazione dell'asp diversa da quella dell'ufficio del commissario è stata perfezionata tant'è che già il settore avviato come scritto alla fine l'istruttore per il rilascio dei conseguenti provvedimenti finalizzato tanto all'accreditamento tanta l'autorizzazione della struttura per cui è stato diciamo superato il tutto grazie grazie passiamo all'interrogazione 17 dodicesima firma il consigliere tavernese ritardi nei pagamenti dei tirocini relativo al programma garanzia giovani in data 24 febbraio 2022 pervenute ritualmente agli uffici risposta scritta dalla giunta regionale acquisita protocollo generale in paridata con numero 55 59 tuttavia trattandosi di interrogazione a risposta immediata l'interrogante può illustrare l'interrogazione per non più di due minuti alla luce della risposta della giunta regionale può replicare in aula per non più di un minuto ai sensi l'articolo 122 del regolamento prego consigliere taverni vabbè io già ho ricevuto la risposta scritta della vicepresidente quindi faccio esporre a lei la risposta e poi ho una semplice domanda da farle su ma anzi gliela faccio già adesso così facciamo un unico intervento lei mi risponde nell'ultima nell'ultima pagina sulla fase 2 del progetto garanzia giovani che iniziato nel 2019 la cui conclusione prevista il 31 12 2023 questa fase 2 ha una dotazione finanziaria di fondi pari a 66 milioni di euro ecco io vicepresidente volevo sapere al momento perché non sono riuscito ben a capire a che punto è questa fa perché sulla fase 1 diciamo lei è stata esplicita dicendo che tutti i fondi sono stati diciamo erogati e quindi volevo qualche chiarimento in più su questa sulla fase 2 sui quanti soldi quanti fondi sono stati erogati dei 66 milioni e diciamo quanti ancora ne devono essere diciamo erogati ecco allora dettaglio dettaglio e circostanzia la risposta per per i presenti e allora il riscontro appunto all'interrogazione a firma del consigliere tavernise si precisa quanto segue il programma garanzia giovani come affermato appunto da lei non è altro che un insieme di politiche del lavoro finalizzata all'inserimento reinserimento dei giovani di età compresa dai 15 ai 35 anni non compiuti nel mondo del lavoro il programma giunto ormai alla seconda fase ha avuto nel complesso fase 1 e una dotazione finanziaria pari ad euro 171 milioni 205 335,58 tra i fondi yog por la fase 1 aveva una dotazione finanziaria di 84 milioni 667 mila di fondi nazionali interamente spesi a cui sono stati aggiunti 19 milioni 283 mila 194 di fondi por totalmente impegnati di cui sono stati spesi ad oggi 7 milioni e rotti gli avvisi por hanno risentito della contrattura dovuta alle politiche nazionali di contrasto all'emergenza covid al fine di rendere ancora più chiara la situazione finanziaria è stato riportato nel dettaglio che non vi leggo perché è analitico tutto quanto la le voci di costo e quindi come sono stati utilizzate per arrivare ad una rispetto alla fase 1 ad un totale di 103 milioni 950 235 mila affermando che la dotazione finanziaria imputabile al pon ioc e al decreto legislativo 76 2013 interamente spesa si sostiene che tutte le indennità e le spettanze dovute ricadenti in tale fase risultano erogate e dunque non vi sono tirocini da liquidare per quanto attiene tirocini avviati con fondi por nel tentativo di rispondere in modo ancora più esaustivo si riportano di seguito le tabelle di monitoraggio distinte per numero di tirocini avviati e il numero di indennità liquidate tirocini liquidati 2.100 2.583 tirocini da liquidare 13 non liquidabili 55 tirocini per cui non è stata acquisita la documentazione 90 tirocini annullati 121 totale tirocini 2862 anche in questo caso è stato riportato che a disposizione comunque di tutti e non vi leggo perché andiamo a fornire un dettaglio numerico però andando nel merito della fase 2 cui le faceva riferimento iniziata nel 2019 e la cui conclusione è prevista per il 31 12 2023 giusto dgr 470 2019 ha una dotazione finanziaria di fondi jog pari a 66 milioni 403 mila 612 relativamente alla dotazione finanziaria si precisa che la misura relativa al servizio civile le cui risorse erano pari a oltre 7 milioni risultano interamente utilizzate e rendi contate direttamente da ampal e che 23 milioni 385 mila sono stati impegnati per come riportato nella tabella sottostante c'è tutta quanta la tabella analitica che va a riportare l'asse 1 l'asse 1 bis quindi totale dell'adozione finanziaria il riferimento all'avviso è quello che è il totale della spesa affettuata il cui appunto importo per relative voci di riferimento e pari all'asse 1 26 milioni 237 mila all'asse 1 bis destinatari net sino a 35 anni e pari a 40 milioni 165 mila 772 per quanto riguarda ancora il totale della dotazione finanziaria abbiamo 66 milioni 403 mila 612 quindi con una spesa complessiva di riferirà vecchio riferimento a visto spesa come 66 milioni 403 mila 612 e quindi abbiamo una spesa di 9 milioni 169 mila 932 orientamento specialistico misura 1 c orientamento specialistico di secondo livello risultano erogate circa 19 mila 993 ore di orientamento dagli operatori del cp e dagli operatori spl privati misura 2a formazione mirata all'inserimento lavorativo e 2b reinserimento di giovani quindi 18 anni percorsi formativi per dare un'idea delle attività di cui è la tabella precedente basti pensare che nelle misure relative alla formazione con gli avvisi pubblicati a marzo 2021 oggi si è ampiamente superato il numero di 700 discenti in aula e anticipazione erogate pari ad euro 513 1559 misura 3 accompagnamento al lavoro trattandosi di una misura risultato ove per quest'ultimo si tende l'assunzione il mantenimento occupazionale di almeno 6 12 mesi a seconda della tipologia contrattuale non risultano non risultano ancora acquisite domande di rimborso riguardo il sostegno all'autoimpiego all'auto imprenditorialità nella misura nella quale la regione calabria è considerato un fiore all'occhiello nel panorama nazionale sono oltre 650 le attività imprenditoriali finanziate con una ricaduta occupazionale di oltre 2.600 unità appare rilevante precisare che tale misura ha richiamato ad oggi i fondi nazionali sul territorio regionale pari ad euro 27 milioni e 800 mila grazie grazie assessore prego prego consigliere si grazie vicepresidente allora però io secondo questa tabella non mi pare chiara le dico la verità per quanto riguarda la fase 2 qui c'è scritto che la dotazione finanziaria di 66 milioni di euro lei ha ripetuto il fatto che per quanto riguarda il servizio civile le risorse pari a 7 milioni interamente utilizzate rendi contate direttamente da anpal e ci siamo e che 23 milioni sono stati impegnati per come riportato nella tabella sottostante quindi se la dotazione finanziaria complessive di 66 milioni vicepresidente e ne abbiamo utilizzati 23 milioni e altri 7 per il servizio civile abbiamo a disposizione ancora quindi 36 milioni che possiamo spendere perché questa tabella è un po confuso non riesco francamente nella fase 2 66 milioni di dotazione finanziaria 7 milioni per il servizio civile e ci siamo 23 milioni sono stati impegnati per come riportato una tabella ok quindi ne abbiamo altri altri 33 c'è altri 36 66 meno 30 sì sì ma come è stato detto devono essere utilizzati entro il 2023 ci vediamo magari venga in edito no 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 ma io non le spiego il contesto opportuno siccome qui è dettagliato le farò vedere la relazione tecnica no no ma io ho fatto questa interrogazione solo ed esclusivamente per sollecitarla in modo tale che siccome proprio perché nella fase 1 garanzia giovani come lei pensa è stata diciamo un volano per i giovani della nostra regione io la invito e la spingo nel suo dipartimento di riferimento far sì che riusciamo ad utilizzare il primo possibile anche questi 36 milioni di male posso garantire che si sta lavorando in maniera intensa e sono fortunata anzi ad avere delle risorse umane a poter contare su risorse umane di grande grande qualità e professionalità grazie grazie assolutamente grazie passiamo all'interrogazione 22 dicesimo a firma dei consiglieri bruno il tutto e vernissi tamponi gratuiti per gli alunni alle scuole dell'infanzia cedo la parola interrogante per l'illustrazione rispondo abbraccio e quindi io ringrazio i consiglieri bruni irto e tavernisse per la possibilità di entrare in un tema che suscita molto molto interesse e preoccupazione nel nel contempo da parte delle famiglie intanto come giustamente avete detto voi i decreti legislativi ministeriali che sono nello specifico il numero uno e il numero quattro rispettivamente del 7 gennaio e del 4 e del 28 gennaio hanno previsto la gratuità dei tamponi dietro prescrizione dei medici di medicina generale oppure dei pediatri a la popolazione studentesca di primo e di secondo grado e allora intanto mi occorre precisare che la razio di questa misura che devo dire è stata è stata sollecitata su dietro diciamo anche pressioni da parte della regione calabria dal ministero dell'istruzione al ministero della salute è quella di promuovere i tracciamenti e quindi favorire la scuola in presenza in merito e mi piace condividere con tutta quanta l'aula che la regione calabria ha segnalato la percentuale più alta di studenti in presenza proprio perché abbiamo attivato la vaccinazione nelle istituzioni scolastiche trasformandoli in hub vaccinali e allora dietro nostra sollecitazione il ministero dell'istruzione ha spinto il ministero della salute a garantire la gratuità dei tamponi in una prima fase agli studenti della scuola di secondo grado e scuola secondaria di primo grado quindi per intenderci scuola media e scuola superiore utilizzando la vecchia eccezione successivamente nell'ambito della conferenza erano state escluse in una prima fase quindi la scuola primaria e la scuola dell'infanzia nelle varie conferenze stato regioni il presidente occhiuto e io nel momento in cui l'ho rappresentato abbiamo spinto proprio a risolvere questa discriminazione che andava a tagliare fuori appunto gli studenti di scuola primaria e dell'infanzia per quanto riguarda la scuola primaria si è riusciti perché con il decreto legislativo numero 4 del 28 gennaio il provvedimento è stato esteso e quindi la gratuità dei tamponi è stata estesa anche agli studenti di scuola primaria in merito alla scuola dell'infanzia come diceva in premessa poche la razza e quella di promuovere la scuola in presenza la scuola dell'infanzia è stata esclusa proprio perché c'è la non obbligatorietà di questo sistema formativo e quindi non hanno previsto una copertura di spesa che in tal senso avrebbe esteso anche alla scuola dell'infanzia ora purtroppo queste provvedimenti legislativi si sarebbero dovuti si sono conclusi oggi proprio la data del 28 noi speriamo che possono essere prolungati almeno fino al 31 marzo quando è prevista fino alla data in cui è prevista ancora lo stato d'emergenza noi comunque da parte nostra poiché consideriamo che legittimamente come avete segnalato voi la scuola dell'infanzia deve essere tutelata anche perché sono i ragazzini più esposti al contagio proprio perché c'è una non c'è l'obbligo della mascherina e quindi hanno delle attività relazionali e sociali di aggregazione più intense rispetto rispetto agli altri gradi di istruzione per cui sarà il nostro intento laddove la misura dovesse essere prolungata perché ricordo la copertura finanziaria a carico del sistema sanitario nazionale laddove dovesse essere prolungata sarà appunto nostro interesse farci anche portavoce delle vostre istanze in sede di conferenza stato regione penso che sia fondamentale per proteggere non solo i bambini e vi ricordo che noi siamo in un inverno demografico e i bambini piccoli non ce l'abbiamo quindi bisogna proteggerli sia con i vaccini sia rendendo la possibilità che famiglie che non ce la possono fare con i tamponi gratuiti insomma sarebbe sarebbe una buona cosa assolutamente avere questi tamponi gratuiti in una fascia di popolazione che veramente priva di strumenti e che rischia però di contagiare a sua volta anziani e famiglie intere grazie grazie sede bruni ora passiamo all'interrogazione numero 25 firma il consigliere mammoliti sul programma di politiche attive del lavoro garanzie occupabilità dei lavoratori programma gol prego sì grazie presidente questa interrogazione a risposta immediata nasce dall'esigenza di comprendere diciamo il lavoro l'impegno che il governo regionale intende attuare praticare su una misura molto importante una misura che viene finanziata interamente dal governo nazionale per aiutare accompagnare la ripresa economica che speriamo quanto prima possa realmente concretizzarsi naturalmente il programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori unitamente anche a quanto abbiamo discusso poc'anzi sul piano straordinario di potenziamento per i centri per l'impiego e il piano strategico nazionale sulle nuove competenze costituisce il perno dell'azione di riforma delle politiche del lavoro naturalmente considerato anche l'arco e l'orizzonte temporale di finanziamento previsto 2021 2025 io vorrei ecco che si prestasse l'attenzione necessaria perché i successivi riparti che saranno poi in seguito definite dal confronto dello stato dalla conferenza stato regioni si procederà con un decreto di concerto appunto come dicevo con il ministero economico e delle finanze previe intese stato regione sulla base dei beneficiari del numero dei beneficiari del programma che sono stati presi in carico da ciascuna ragione e dall'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi al loro favore attivati ecco quindi per questa ragione io diciamo mi auguro che si presti tutta l'attenzione necessaria e do presentato questa interrogazione risposta immediata per conoscere qual è lo stato di redazione di questo piano considerato che a mia a mia notizia diciamo doveva essere redatto entro il 25 febbraio grazie prego grazie consigliere mammoliti e così è avvenuto è stato anche condiviso con le parti sindacali ma proprio per entrare nello specifico il programma garanzia occupabilità dei lavoratori il cui decreto di adozione è stato pubblicato in gazzetta ufficiale come diceva lei il 27 dicembre 2011 si inserisce nell'ambito della missione 5 si tratta del perno dell'azione di riforma nell'ambito delle politiche attive del lavoro che oltre gol prevede il varo di un piano per le nuove competenze il potenziamento dei centri per l'impiego il rafforzamento del sistema duale dal mese di novembre 2021 è stato costruito costituito un apposito gruppo interdipartimentale tra dipartimento lavoro e welfare dipartimento istruzione e formazione centri per l'impiego ampalle servizi azienda calabria per la redazione dell'importante atto di programmazione in data 15 febbraio 2022 vi è stato un incontro di condivisione delle linee d'azione con il partenariato economico sociale mentre in data 16 febbraio 2022 è stata è stata svolta una riunione bilaterale con lampal per quanto riguarda il sovrisposto si comunica che la predisposizione del parra gol calabria è in stato di avanzamento e che saranno rispettati i termini previsti dal dm per la trasmissione all'ampal quindi noi il par l'abbiamo già completato entro fine febbraio l'abbiamo già mandato all'ampal anzi te lampal le lo sa che come tempistica a i 30 giorni entro cui restituircelo noi proprio per avanzare per permettere che le operazioni possono concludersi prima dei 30 giorni l'abbiamo già mandato all'ampal perché ci desse delle indicazioni del merito per cui ora aspettiamo la restituzione che come le dicevo avverrà prima dei 30 giorni affinché lo si possa deliberare poi in giunta e sottoporre alle parti grazie grazie assessore prego sì bene la predisposizione la raccomandazione che mi permetto di suggerire e l'attenzione all'utilizzo più possibile proficuo perché come dicevo prima lei sa meglio di me le risorse successive poi essendoci un'idea di utilizzo di premialità più risorse e più persone in carico riusciamo diciamo a garantire e poi successivamente maggiori risorse riusciamo ad avere negli anni successivi grazie grazie passiamo all'interrogazione numero 19 dodicesima firma del consigliere laghi in ordine all'assenza di componenti di diabetologia pediatrica nel coordinamento regionale della rete assistenziale e nel comitato tecnico vera sua prego due minuti grazie presidente spero che questa interrogazione possa contribuire ove già non non accaduto a correggere credo un disguido organizzativo nel senso che con il dc a 96 del 27 luglio 2021 è stato ricostituito il coordinamento regionale della rete assistenziale diabetologica sulla base del dc a numero 11 del 2018 nel quale espressamente previsto che siano presenti nel coordinamento le componenti assistenziali e scientifiche e i rappresentanti delle associazioni dei pazienti al fine di monitorare il funzionamento della rete diabetologica regionale nel suddetto dc a 96 barra 21 non è stata prevista la presenza della componente diabetologica pediatrica organizzata in rete in rete diabetologica pediatrica calabrese in base al dgr numero 368 dell'8 giugno 2009 successivamente confermata dal dc a numero 11 del 2018 e con con pec del 7 dicembre 2021 inoltrata ai dipartimenti presidenze della salute è stata avanzata la richiesta quindi di integrazione dei componenti della diabetologia pediatrica nel coordinamento regionale della rete assistenziale nel comitato tecnico gara gara sua cosa e finora nulla è cambiato in realtà è del tutto evidente che i pediatri nel trattare i bambini pediatri i bambini diabetici hanno gran parte di responsabilità oltre che grande competenza per cui l'interrogazione era soltanto mirava soltanto a diciamo ad avere una risposta in merito alla volontà e anche in questo caso all'orizzonte temporale che consentirà di integrare questi professionisti in questa in questo coordinamento grazie prego presidente occhiuto sì grazie io ringrazio il consigliere laghi che sollecita la risposta ad una sua interrogazione che pone la questione che ha test è illustrato all'aula l'amministrazione ha richiesto alla stazione unica partante chiaramente di sapere come abbia inteso procedere è come già lei ha avuto modo di indicare nella sua illustrazione la stazione unica partante ha inteso costituire un tavolo secondo le indicazioni che provenivano dalle aziende sanitarie nel dca in questione non era previsto però che le aziende sanitarie dovessero o potessero individuare le competenze che lei ha suggerito però siccome riteniamo assolutamente condivisibili le ragioni che l'hanno mossa a fare l'interrogazione le posso dire lei mi chiedeva di esprimere una volontà le posso dire che interverrò presso il dipartimento della salute affinché si faccia promotore il dipartimento dell'integrazione di questi tavoli di questa commissione anche con le professionalità specifiche a cui le fa riferimento grazie molte presidente grazie grazie siamo all'interrogazione 29 dodicesima firma del consigliere mammoliti sulla nomina del commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di vibo valencia prego consigliere grazie presidente e qui ci troviamo di fronte ad una nomina commissario dell'aspi di vibo valencia a una serie di quali sono le quali sono le problemi che sono le problemi della situazione di carenze strutturali croniche che ci sono nell'aspi di vibo valencia l'aspi di vibo valencia una serie di con cause di problemi seri strutturali profondi che non consentono di avere l'esigibilità dei lea per una serie di problematiche che attengono anche alla situazione di difficoltà di garanze di medici di personale l'unico ospedale che abbiamo lei lo sa presidente occhiuto perché l'abbiamo pure discusso in qualche incontro in prefentura rispetto alla costruzione del nuovo ospedale e in condizioni critiche difficili la costruzione del nuovo ospedale ancora non riusciamo a sapere la data effettiva di cantierizzazione e debbo dire apprezzando e non faccio più apprezzamenti caro presidente perché stasera ne ho fatti parecchie perché io sono abituato a riconoscere il merito delle azioni che si mettono in campo abbiamo finalmente il piano coved e l'impegno di attenzione molto incomiabile positiva che ha diciamo indicato sulle liste di attesa abbiamo a vivo purtroppo a seguito della crisi pandemica un accumulo di prestazioni di qualcosa come 17.000 visita ambulatoriale specialistiche quindi capite bene che per queste ragioni l'aspi di vivo avrebbe bisogno di un commissario sostanzialmente tempo pieno non è in discussione diciamo la il know how la competenza la qualità e la professionalità del dottore giuliano ma è diciamo un interrogativo rivolto al presidente in questo caso commissario della sanità di capire per quale ragione si è optato di nominare un commissario che già possiede una responsabilità imponente che è commissario contemporaneamente dell'azienda ospedaliera universitaria materdone di catanzaro grazie prego presidente occhiuto si le rispondo volentieri onorevole mammoliti come lei sa questa circostanza si è verificata in ragione del fatto che la commissaria dell'azienda sanitaria provinciale di vivo ha partecipato ad un avviso per la selezione dei dirigenti di settore all'interno del dipartimento della salute ed è stata scelta come dirigente per il dipartimento lei sa che uno dei problemi che abbiamo uno dei principali problemi che abbiamo nell'organizzazione della sanità è proprio quello di ricostruire il dipartimento con dei dirigenti che se ne possano occupare questa scelta però ha reso vacante sostanzialmente il posto di commissario dell'azienda sanitaria provinciale di vivo mentre mentre lo ricorderà c'era da fronteggiare l'emergenza pandemica da continuare la campagna di vaccinazioni che peraltro nella provincia di vivo è andata molto bene nel senso che è stata la provincia che ha raggiunto i target migliori c'era anche da caricare tutte le schede per i presidi di assistenza territoriale mi riferisco alle case di comunità gli ospedali comunità allora dovendo scegliere a chi far a chi affidare alla responsabilità della gestione di questa azienda sanitaria provinciale potevamo scegliere di individuare un nuovo commissario ma le circostanze diciamo emergenziali che stavamo vivendo inducevano a ritenere più utile che ad occuparsi della sanità dell'azienda sanitaria di vivbo fosse chi aveva già conoscenza di quella azienda sanitaria cioè nominare un commissario mentre c'è un'emergenza come quella della pandemia mentre c'è da adempiere a tutte a tutti gli obiettivi necessari propedeutici per caricare le schede del piano pnr nominare un nuovo commissario che non conoscesse nulla dell'azienda di vivbo esponeva a qualche preoccupazione allora si è scelto di chiedere a chi si era già occupato del governo della sanità territoriale di vivbo cioè al dottor giuliano di poterlo fare temporaneamente e a interim anche perché ora nelle prossime settimane come credo sia presumibile si svolgeranno insomma svolgerò insieme alle strutture del dipartimento alle strutture commissariali una valutazione più complessiva sulla governance delle aziende sanitarie però in quella fase ci è sembrato il modo più opportuno ricorrendo appunto alle categorie del buon senso quello di nominare appunto chi conoscesse chi avesse contezza delle caratteristiche delle criticità di un'azienda che aveva governato anche piuttosto a lungo fino a qualche mese prima per questo abbiamo scelto di chiedere al dottor giuliano di cimentarsi di nuovo ad interim nel governo della sanità dell'azienda sanitaria di vivbo valenza è una scelta però chiaramente temporanea transitoria e credo che per la fine del mese si procederà a dare diciamo un governo di questa azienda affidato a chi si occuperà esclusivamente del governo dell'azienda stessa grazie presidente prego consigliere la mole si 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 solo per ringraziarla presidente perché prendo atto diciamo pur comprendendo le ragioni che sono state dovute diciamo a questa circostanza emergenziale non sono né di prospettiva e soprattutto non sono di sottovalutazione delle problematiche che possiede l'aspidi vivbo per cui la soluzione diciamo che è stata suggerita quindi nei tempi molto immediati come dire mi fanno guardare con fiducia a questa a questi impegni a questa scelta per affinché anche l'aspidi vivbo possa avere un commissario a tempo pieno da dedicarsi interamente alle tante difficoltà e problematiche che quella spi contiene grazie grazie passiamo al prossimo punto posto all'ordine del giorno proposta di legge 38 dodicesima iniziativa dei consiglieri caputo e cirillo recanti interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionale 9 1996 30 2015 8 2003 7 1996 1 2006 32 2021 e 6 2021 cedo la parola consigliere caputo per illustrare il provvedimento grazie presidente l'articolo 1 dispone la modifica della legge regionale 17 maggio 96 numero 9 al fine di fornire chiarezza normativa in materia di esercimento danni da fauna selvatica non più limitato ai fondi e dalle produzioni agricole ma esteso ad altre fattispecie di danno quale quella relativa alla circolazione stradale demandando ad un regolamento regolamento la definizione delle procedure l'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015 numero 30 l'articolo 3 prevede l'inserimento del comma 2 bis nell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003 numero 8 quale norma organizzativa finalizzata a consentire l'attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle aziende sanitarie utilizzati presso gli uffici della giunta regionale competenti in materia di tutela della salute in considerazione della tavica carenza di personale per garantire l'accelera effettuazione delle attività procedimentali nell'ottica di garantire i principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione l'articolo 4 dispone le seguenti modifiche della legge regionale 13 maggio 96 numero 7 la previsione nell'articolo 7 per cui il vice capo di gabinetto possa essere scelto al pari del capo di gabinetto anche tra esterni alla pubblica amministrazione con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 comma 10 per cui riferimento al capo di gabinetto per esigenze di interpretazione sistematica deve intendersi alla struttura speciale del capo di gabinetto la specificazione dell'avvocatura regionale quale struttura diretta collaborazione del presidente della giunta regionale l'adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all'ente l'introduzione di un'ulteriore competenza consulenziale al presidente della giunta regionale in materia di sanità nell'attuale fase di commissariamento l'articolo 5 si intende proporre un'opera di chiarezza normativa disponendo l'adeguamento anche dal punto di vista formale della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta nella legislazione regionale sono attualmente formalmente in vigore tre leggi regionali che individuano per il conferimento di incarichi dirigenziali anche di livello generale requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli fissati dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 è precisamente la legge 7 dicembre 2007 numero 26 merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico direttore generale della stazione unica appaltante la legge 13 maggio 96 numero 7 sulla dirigenza regionale la legge 7 agosto 2002 numero 31 in merito requisiti per il conferimento dell'incarico dirigente generale del dipartimento segretariato generale le discipline dettate dalle predette leggi regionali sono in realtà di competenza esclusiva statale per come chiarito dalla corte costituzionale con le sentenze numero 324 del 2010 e 3.100 del 2011 vertendosi in materia di ordinamento civile articolo 117 comma 2 lettera i della costituzione italiana per effetto l'introduzione del comma 6 terra all'articolo 19 del decreto legislativo numero 165 2001 la previgente disciplina regionale in contrasto contenuta nelle predette leggi regionali è stata tacitatamente abrogata riguardo alla legge regionale istituita della sua si ritiene di abrogare disposizioni che disciplinano il procedimento di nomina del direttore generale in virtù della sua complessità e degli aggravamenti procedimentali vi previsti ritenendosi opportuno invece estendere al direttore generale della sua l'applicazione del regolamento regionale numero 11 del 2021 afferente al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale l'articolo 6 specifica anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019 numero 21 la finalità le finalità di promozione della calabria connessa alla fondazione calabria film commission l'articolo 7 dispone l'istituzione in regione calabria della commissione tecnica via regionale per i progetti pnr l'articolo 8 apporta modifica la legge regionale 15 dicembre 2021 numero 32 prevedendo la competenza dell'azienda zero nelle attività di coordinamento funzionali al corretto tempestivo e puntuale funzionamento del servizio di emergenza 118 9 112 l'articolo 9 prevedendo modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2021 numero 6 per l'effetto disponendo la proroga del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della fondazione regionale in house calabria etica la legge non la legge non comporta oneri per come si esume dall'articolo 10 ci sono interventi sio presidente vorrei capire su prego sull'articolo 7 relativamente all'azienda zero e quindi alla corretto tempestivo e puntuale funzionamento del sistema di emergenza che sicuramente una cosa interessante faccio presente che il numero 112 non è stato ancora attivato in calabria quindi c'è c'è un lungo percorso da fare ma questo articolo poi nel merito da che cosa sarà disciplinato c'è un'organizzazione successiva che cosa ci attendiamo da questo punto di vista diamo il presidente se vuole presidente posso intervenire io parlo seduto come la consigliera bruni se vuole può rispondere se non era non volevo mancare di rispetto presidente era un po di stanchezza vabbè io per rispetto al consiglio mi alza ne approfitto anche per dare un'informativa appena insediato mi ho verificato che la calabria era calendarizzata come ultima regione per l'implementazione del numero unico 112 anche perché si prevedeva di istituire il numero unico 112 in un immobile che non è nella disponibilità della regione che soggetto ad un contenzioso un immobile dell'ex comarca come sapete il 112 in tutte le regioni in italia tranne che in veneto è gestito da una società pubblica che si chiama areo che sta mettendo in piedi le centrali del 112 dappertutto sono andato a milano poi hanno fatto una salveri qui in in calabria abbiamo deciso di istituire la centrale operativa del 112 non più in quell immobile ma addirittura nel palazzo della cittadella regionale questo ci consentirà di essere tra le prime regioni a partire col numero unico 112 probabilmente già a maggio o al massimo a giugno c'è la necessità però di organizzare a livello regionale questo servizio e allora l'articolo e l'argomento va nella direzione sostanzialmente di affidare la gestione del servizio ad una ad un organismo regionale e siccome il 112 include le chiamate alla polizia i carabinieri ai vigili del fuoco ma anche al 118 è presumibile che anche la centrale regionale principale del 118 sia allocata nello stesso luogo poi ci saranno una centrale a cosenza una centrale a reggio perché devono essere i centrali ridondanti nel caso ci siano dei problemi stiamo già procedendo con i lavori nel senso che stiamo facendo addirittura la la rete ridondante della fibra perché se c'è per esempio un evento avverso che interrompe la fibra si interrompe tutto quanto e allora stiamo procedendo anche in questa direzione per inciso vi vorrei informare anche di un'altra circostanza per rendere il 118 gestibile dal 112 il 113 gestibile dal 112 il software del 113 si deve interfacciare col software del 112 il software del 118 si deve interfacciare col software del 112 allora ho chiesto alle aziende di chiamare i fornitori del software per fare un upgrade che consentisse questo interfacciamento ho scoperto che alcune centrali del 118 in calabria non solo non hanno un software funzionante ma non hanno nemmeno il collegamento a internet non hanno neanche il collegamento a internet quindi questa è una emergenza assoluta quella dell'emergenza urgenza noi dobbiamo utilizzare l'occasione del numero unico 112 per riformare anche il 118 e allora l'articolo e l'argomento va nella direzione appunto di costruire appunto un'organizzazione regionale che poi però tiene conto anche delle articolazioni attuali del 118 nelle diverse province grazie presidente passiamo all'esame e votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 4 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 5 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 6 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 7 è pervenuto un emendamento protocollo 59 21 a firma del consigliere cirillo a cui cedo la parola per l'illustrazione prego consigliere cirillo grazie presidente il primo emendamento e soppresso l'articolo 7 alla proposta di legge numero 38 dodicesimo e sorpresso la presente proposta è mandativa mira sopprime l'articolo 7 alla proposta di legge numero 38 dodicesimi recante modifiche alla legge 39 2019 trattandosi di norma di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale parere della giunta vorrei fare del relatore favorevole pongo in votazione l'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento è approvato pongo in votazione all'articolo 7 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 8 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 9 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 10 è pervenuto un emendamento protocollo 59 21 a 0 una firma del consigliere cirillo a cui cedo la parola per l'illustrazione il secondo emendamento sostituisce l'articolo 10 alla proposta di legge numero 38 dodicesimi istituito dalla seguente la presente proposta mandativa mira a sostituire l'articolo 10 della proposta di legge numero 38 dodicesimi recante clausola di invarianza finanziaria si rinvia relazione tecnico finanziaria per la quantificazione degli oneri della presente legge che si intende sostituire dalla precedente relazione tecnico presentata grazie parere della giunta parere del relatore vorrevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento approvato pongo in votazione all'articolo 10 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 11 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso quando autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento approvato con autorizzazione al coordinamento formale riformulando la relazione illustrativa e tecnico finanziaria legata agli emendamenti approvati per adeguarle alle modifiche apportate al testo di legge passiamo al punto successivo proposta di legge 40 dodicesimi iniziative al consigliere caputo recante integrazione all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004 numero 11 piano regionale della salute 2004 2006 cedo la parola consigliere caputo per illustrare il provvedimento grazie presidente l'articolo 1 dispone l'integrazione dell'articolo 11 della legge legge regionale 19 marzo 2004 numero 11 recante piano regionale della salute 2004 2006 introducendo nello specifico nuove forme di assistenza sanitaria erogate attraverso la previsione delle case di continuità degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale passiamo al prossimo punto proposta di legge numero 41 dodicesima di iniziativa del consigliere neri e orso marzo recante valorizzazione e gestione del patrimonio dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese cedo la parola all'assessore orso marzo per illustrare il provvedimento grazie presidente e io approfitto vocemente perché tardora condivido lo dico ai consigli di minoranza e non troverete mai nessun altro provvedimento che non passa le commissioni e qua c'è la caratteristica di urgenza io ho fatto il consiglio giornale in questi anni e non soltanto per la ignoranza anche per rispetto ai consigli di maggioranza un provvedimento deve andare per essere migliorato quindi c'è l'urgenza si specifica appunto nel testo scade proprio oggi la possibilità della proroga data alla gestione temporanea l'orica tramite ferie della calabria c'è la norma che ha in capo ad arsac degli altri impianti garantiamo con questo provvedimento legislativo la copertura fino a fine anno e se non rischieremmo che l'orica chiude c'è un compito ovviamente di costa di cavi la pandemia l'ulteriore disgrazia insomma purtroppo della grave perdita l'ingegnere marcelli a cui diciamo va il pensiero per il lavoro svolto quindi questo provvedimento serve poi arriverà poi in aula nelle commissioni un provvedimento complessivo che andrà a trovare una nuova dimensione della gestione degli impianti di salita della calabria questo considerando diciamo anche se questi sono stati è stata un'opera eccezionale e l'urgenza era proprio dovuto al fatto che oggi scade la prova quindi ferie della calabria non può più tenerli aperti quindi avranno una gestione affidata ad arsa con la copertura finanziata di 440 mila euro grazie grazie passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento approvato con autorizzazione al coordinamento formale avendo esaurito gli argomenti la seduta è tolta grazie a tutti 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 Grazie. 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 Grazie.